Salvatore Giliberto, detto una statura in una giornata. Salvatore Giliberto è nato a Palazzola Grande il 7 giugno del 94, analfabeta, coltiva uno stacco di terra incontrata a Mezzo Gregorio. Tutti lo chiamano Massaduridio Macciotto. Intorno al 1955 fu mio suocero, Giuseppe Caligiore, che ha coltivato fino a pochi mesi dalla sua morte un piccolo podere incoprata a Ogulia, a farmi conoscere il Macciotto. La terra di Mezzo Gregorio è vicina a quella di Ogulia e quindi i contadini si ritrovano spesso, soprattutto nelle fiere o anche in paese, per una serie di circostanze diverse. Raggiungo Mezzo Gregorio nel primo pomeriggio di un giorno d'aprile del 1970. Un Massaduridio se ne sta dietro un muro a secco a custodire le mucche al Pasqua. Lo trovo e mi siedo anch'io su una pietra e metto in moto il magnetofono. Il vento fa il murinello e a volte fischia provocando un tremito nel microfono. La moglie del Giriberto, che mi ha seguito, alta sul muro, si vigila le mucche che a ogni movimento scuotono i campanacci nell'aria di su. Poi, dentro del lavoro, questo è un sogno di andare a fare quale. Tra l'altro degli altri, c'è la mia città. E lo sentite a me? Mi sentite? C'è? 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 Grazie. 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 Ma che non è altro? Ma che non è altro? E' questo? E' questo? Niente, più come sia, una facoltaria e sanno più come sia, sono l'orto o qualsiasi Ma dove mi piace? In quattro o in marito? Ma... Al paese se non era il mio malato non mi piacerebbe altro Ma perché? Non mi piace? Ma no, ma ci andiamo a facciare la domenica e poi subito dormiamo io non ci ho pensato più da quando vengo con noi a un paese. E non mi piace? Ma che fare un paese qui? Ma certo che non mi piace perché quando non andiamo a fare niente in paese e cosa dobbiamo poter dire? Qua invece? L'arri e c'è bene qua l'arri e c'è bene ma passiamo il tempo ora io ho posto dentro da un vento e ora ho condotto le mase ora non c'ho poi un bagno di nuovo ma va e l'altro passa la giornata e se vi dovessero dire per esempio di lavorare in casa passino a tutti e sarei dentro dentro e poi, mamma, che cosa devo lavorare? non ci farete? non ci farete? non ci farete voi invece vi sentite? ah si, guarda non ci farete un cosa era un cosa era un cosa era un cosa per genere qualunque cosa essere? questo in campagna in campagna io ho un po' d'una ma ora l'arri ve lo faccio come? e ma siete sempre in campagna? siete stato sempre in campagna? vedi dottori? a quest'ora vado a cercare dottori ora non ci farete non ci farete un po' ma come? siete due anni sui tanti? o i fatti alti? ai tanti? eh nessuno se lo crede per niente quando qualche cosa gioca credi in quello che gioca quando non gioca non credi più a nessuno ci sono i tanti che fanno quello che troverà per passare ma è vero ora ci sono i dottori ma è vero c'è il dottore il dottore non è vero non è vero non è vero questo è il padre io non so come è il padre e gli santo non si può essere uguale perché sono andato con due ragazzi due ragazzi due ragazzi davvero ma c'è il voluto cosa dice quest'ora non è peggiorato in te io avrei così infatti sei in paradigma? paradigma e tu c'è stato nell'inverno ovvero io sono stato all'inverno e anche in paradigma sono qua a forza dell'annata a forza dell'esperanza sempre meglio qua perché meglio qua poi noi noi lo sappiamo pure forse più una cosa vuol dire che se la passano bene se la ha se la donna non si può fare bene eh e poi qui è il padre questo è il risposto perciò meglio di qua qua ci vediamo tutti come che siamo ma cosa possiamo provare nel mattino perciò io già meglio morire qua in altre cose quando è morto dal mondo che posso dire una cosa sola a timore si prega non diamo cosa di sola che è questo è il stato proprio un mondo non vede niente poi la cosa sta bellissimo un quando lo lo fanno per i giudici e poi quando lo lo vanno per i giudici con tutto la terapia principale è del fatto e noi gli stessi abbiamo cioè la scelta ci sono che 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 ci sono quindi se ci sono che ci sono che ci sono come cosa parte Sì, bene. Allora c'erano gli uomini e poi la sera, ogni volta che si mangiava, ringraziavano il Signore. Poi, un giorno, una seconda sera, c'erano la San Paolo, anche te, e adesso. Non c'erano mai niente, non c'erano più. Pranzitutto, non c'erano nessuno, perché niente, avevano più le mani. Ma come è questo? Prima o adesso? No, bene. E' un po' di mezzo. Sì, ora vede, allora i due giorni non c'erano mai, o niente, non c'erano mai. Allora qua, lo progetto, ho un po' di dettaglio. Ora, ora l'ettaglio è anche in parte di mani. Se avete questo detto, eh? Se avete questo detto, va, che stavamo qui l'occhio, nove giorni. Ora, lui, io ho la verità, io non lo so neanche. Ma capiteci, questo è il fatto. Il lavoro. Passiamo a un brano poetico di Antone Luce. Lo leggono Maria Teresa Manegnacci e Riella Luce. E' spucata da una colpa di pericola. Qual vero che si è sospinto, tra spese di mura di caccia antica e piega, di un'aria di danza, a sollevare il piano, raccogliati diversi e altri sistemi. La tua è calda, una quarta di borsa che caccia d'aria e rende comunque il figlio che scala da tutto il corpo. E' un volto sottile, e' un'improvo, e' un'improvo raggiunto, che guida il gioco del tuo re. Ricerchi ancora l'antico sogno di una casa di gianno e va a un tempo, avicioso. Vivi, Cristobre, in questa paria di soleone quando rimane sul piano di sanito, sull'imparmio, il canto che rende il sistema. Il punto è ancora un grande rinforzato, tratto dal libro di anni antico. La prefazione dice Il mondo se fanno ricco, produce e consuma, crea valori e giudispa con la medesima radività di tutti i prodotti industriali. E' sempre la parola, di tanto che è difficile il futuro a categorie unitarie e unibili. La ricchezza è vinta, certo. E può essere anche l'ispressione, l'isperazione. E' anche possibile, perciò, che si voglia creare un punto che è un luogo dove sostare e guardarsi intorno, guardare il muovo in se stesso, nelle sue caprici. è un luogo che comincia un'ambiente a fare tutte, a rinforzare un'ambiente, a rinforzare una vera e un'ambiente. Operazione solitaria e un gruppo rischioso per gli esiti reazionali che possono essere pubblicano. Tutto potrebbe risolversi in una rinuncia e in un rifiuto, per il giuto del presente, la rinuncia della storia. O può trattarsi di una sfida, cioè di una volta di riportare l'uomo alle sue stesse componenti semplici e primari per ricostruire su questo nucleo tutta la storia e il futuro, un futuro anche il nucleo. E' l'operazione che sta tentando di non c'erlo in questo momento, uno di sé ammigliore, dove l'intento segreto è di individuare il luogo attraverso il minuto. In questo senso, Caricattini Panti diventa la sezione dell'universo, un'anica puntuale e linguistica in cui il vecchio e il nuovo e il chimico e il nuovo sensibilità coesistono fino a identificarsi in uno splendore di luce del piano, un'agonia siciliana che ha la città sempre a due passi, da essa sempre sfiorata e mai impregnata. Era possibile pensare che ha tenuto che niente un cento approdasse al suo paese. Tutto il suo numero paziente, l'autore di poeta e il ricercatore lo esiste e lo andava a preparare. Un ritorno a dei matri che non hanno nulla di romanti o di avventura memorabile, memoriale, poiché si tratta di una operazione razionale, anche se condotta dei modi che nella luce della fisica. Agli uomini occorre sapere quello che possono diventare e anche questo il compito ammattato, ma è necessario conoscere quello che si è stato. Ed è questo il compito che si è assunto in un certo un compito pagato e quasi triste che può apparire ammattato e che invece, a ben pensareci, si scopre collocato di un compito dove passa la lupita dei lupi. Il paese s'arrattica per il contigo di una collina tolta ad una vasta pianta disseminata dai rivi intersecando la cave di dieta parcare sullo spondo dell'Empra. Quando, a dieci chilometri circa, verendo da Siracusa, la strada si inerbita tra pacini e roccioli che cadono a piccolo lontano tra il verde piano dei mani che vede dall'ambiglia il gruppo di una rubia elettrica a un regnone sull'occare di sassi. Dalle schievi di lindia si intravedono i chiedi, grandi caschi quadrangolari di dieta dove si conserva l'acqua per irrigare a morte e a due etni interi di città. Il paese sorge con patto case allineate punto strade diritte l'ora del terzo giorno ti salvate con una luce violenta di salita. Cagli di di mani è un paese sembrantosa la terra non porta segni particolari e facilitarli vi saranno certo passati signi greci romani sanagini bidantini padroni cordoni vi diventete del capore una tabella piante della cura anche il mio noto 18 spianetà nessuno mai prende la vede dei carceresi in buon vento o del ricordo di tesoro o di qualsiasi fatto che possa avere attraverso studiosi raffiologi o lavorare in canale tutti il paese non ha dato un po' di lustri paroni nasconditi o bastini denti di portare le roba non ci sono stati sconti di conti di cantini di sciocchi di di milioni e quello che si dice un paese da città la cuota stessa che passò in a per solo un paio di patriculture di passaggio per farciare alcune bombe di pressa e città l'avvizzatore ha trascondiato il ferro di l'avvizzatore perché tutti sapete che il per l'avvizzatore migra per farci una bella torna e anche una bella canta tanto al paese ci si vive per poi ci si nasce insieme e poi si perde la tutto questo è grande trascinamento a caraccia a padulli a posto a monte a sin dove vive in natura sempre col pensiero ma a per riesce dopo aver voluto qualche pensiero a non le dice anche le case sono uguali buono una cittura altre che facciate muore e sopra i tratti reali sono le cose più grandi che hanno fatto quattro comune di gente che in modo di incalbattare ai clienti che sbacca alle armi di piccoli le natura e a fianco altre grandi ma ospede come colpaio indiancani di calcetiva la tecnica per grazarsi la fortuna di altri carini si parte per male la morte di figlio a tre figli le donne portano di nonna una con cittaria e il concorri di per chiusa per venire la madre si parte per tenere il vino in tutti si chiede un prestito di bar all'amico al valente di tornato appena nel giorno che vengono a loro si vende le casa la torte d'alto quei vengono in terra si vengono in frontale si vanno pole altri dai camminieri che qualsiasi cade venuta ma ora non da dicendo e in regno ora la parte di a l'inversione potente a una croce d'arriciata lo si direte un paese vuoto e nascosto a fare inter lingue composto come c'è di albighio all'opera un prezzo senza prezzo senza sette senza parte senza tempo dell'amico senza offrezza e senza offrezza cantonate per via di car e con un po' tutto in la vita stanno nella mia stessa vita sotto un sole bruciante di calce in quelle giornate che ci poso ci ho che allungano il vento senza c'è non c'è quanto rotto parale la macchina no c'è un governo sempre guardato che rispetta tra quelle situazioni più che sono infatti più americani più francesi più canadesi più egiziani più migliori e così la particolare questione di voce con bagagli che si trascinano a riunire a a battito a dove il padrone non serve la famiglia e da dove si canta una carta da penne su un'arco di seta rossa al tercolo del santissimo Cristo per una grazia di città e il santissimo Cristo si figurato e sfragendato su manito e d'occhio portato a spalla gira tutto il paese la fiera del benedista fino alla metà lo accompagnano le vergine i vedi bianchi che vittuola per attenzione alle battaglie e alla buona nata e in un uomini che sovrano un uomo Cristi anch'essi condotti al salvare con un manzo rosso a spalla con una donna di spina la testa seguono affini stati in processione fascinante con lo uomo vanno per le strane e pare che attorno a credito non ci sia più mai ho potuto dopo anni di attenza riparlare riprendere contatto con uomini e donna o sul posto di lavoro o la sera del sábado o la mattina della domenica che essi fanno ritorno a casa per cercarsi un nuovo padrone per una settimana o una quindicina o ognuno vive veramente solo chi resta e chi parla e tuttavia nelle loro storie c'è a volte un'aria forte di mosco un lievito che permette quando mia mamma faceva il bar lo lasciava lievitare tra due e le fuori sotto una trazzata di lato e poi sulla guancialata di ogni parla di un chilo c'era batteva una mano come a schiappeggiare e dal toro capita se fosse lievitare a tagli insieme a disnudire perché gli sterico che mio nostro andava lavorare in l'avvocale sospirato davanti di l'avvocale che gli aveva attraversato la terra l'accordivo assorto dicevano i uomini e non si vedevano la tenta mentre si accorsevano che non c'era più niente e ho portato subito il presso vincimento quella che la cosa lì all'origine della giustizia criticarono come fosse vivo io non l'avevo mai assassino allo strazio della morte vedi solo i uomini appoggiano in un altro l'antenne disteggono su una scala trascinando la spalla un grande del bagno vengono lo stragono dove un caglio ci aspettava che un muro lo prego sono presto se ci c'è qualcuno attenti dicevano che ci portano la strada e poi la vengono soffocati si per dentro le patrie e traballando per l'antenne si avvicinavano quando qualcuno si staccava da noi era sempre così aprirsi improvviso un occhio prepacio fu una notte non so chiuse nel ritorno o nel sole per le scale ripide di vidume nell'interno della mia casa spinsero un uomo era una forma di donne tutte annullate e scarmigliate che alzavano qui dal cielo figlio figlio come di tutte ormai fosse figlio per tre giorni dopo che il canale usciva di casa a vento lontano si recitava un rosario di regno e dopo l'ultima preghiera si alzavano lì ancora figlio figlio per le donne tremate per le delfine nere e lunghe crocchie scarmigliate sedute tre notti e tre giorni abegliate per sospirare così all'un e così amare gli uomini si lasciavano crescere alla parte oltre sulle e sulle guance scavate e per tre giorni non si accetteva fuori nel caso solo i vicini portavano con sovra le donne restavano come sepolte nelle pareti domeniche dopo la prima missa al mese le stesse grida all'alba le stesse grida e così adaltro ancora come se il tempo non si volesse fermare a quell'alba a un dolore con fedeltà penace le stesse di oltre aeree con il lato a volte rompevano i murati e con le oltre trattate dentro un subito calcinato nella grande cucina negli avvenuti mandavano un confusore mia mamma salentava il cammino in passato e lo si troppero sotto la terra e quelli non c'era di confusione si disperse davano mano a mano grazie alla solita dal fondo ma non parliamo mio noto si portava il lungo pastello per il terreno portava la famiglia agli altri che ne stava quando arriva la porta vi trovavano una funglia di pioggia ed era così tutto accetto per lo canto si riuscireva il grande controllo su l'impianta poi la scala preghia di casa avevano rispondarli e fumavano le mio nonno era già in casa raggio governante del progettario soffiava sotto il carrello e diceva il carrello di il vincupere generale scendeva e capita sull'alto cerchiamo sull'era una lastra e un crocario creata cercata alle finestre della carre tutte copiocciate con un anno e avvenevo le scure nelle cani di ombri frate tante case e un anno stanzato nel terzo della stanza e parisi e tornato per un paese sull'alto secco un filo giusto come una larga intandescente da un testicchio del secco scendeva fino a fare una ruote osso di per la cosa dentro quel grande scuola un piccolo che rimaneva impiato come in una ricetta e salita urinava s'avvolgeva urinava fino solo da finare bastava l'uomo a seguire le aziende di cese del minuto di però si faceva che si trasferde a nero fin dentro la barba che vede la notte di un parco e in quella casa tutto si contieneva una morte uguale e tutta via l'acqua e a un feo come un buco mio nonno perché aveva pensato nell'alba ero fine delle tassanze mia nonna non era la nuca per dire io ragazzo della cosa che stava allora poi quando sopravo a forse di campanile che si sperano che stava in un più canzone che ricevero a un interno di strada nella casa che l'alba non 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 così la presentazione del cavolo è nato di un treno di buco e il donato è l'alba di il senso di il senso è più che la è che so che si 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 che si viva nel colore del frutto del tempo, come se si viva. Ah, grazie. A volte, un vento caldo continuava in un vento lasciosi e le preme stranetti erano male. Usava i doleanti della pianta e i dati mi avvissi con i tuoi muri e gli occhi. Poi si affattava il mio rio, ci stava con la città. Così, stavano le due persone della morte. La pianta sembrava il mio rio, e chiote vede il mio rio, che camminava il sole e l'acqua, e infatti i tuoi muri, sullevato il mio rio, a rinforzare il mio rio. In due dei passaggi, il cielo si rottigiava a rinvolare, non ha bisogno di scoprire che ci sono ammettati, con i enti che non potrebbero trattare, ma caglianchi, sono levati da un'opera di evoluzione di decennio. Allora, vorrei regare il mio tipo e con profonda emozione che prendo la parola in questo incontro dedicato alla figura e all'opera di Antonino Uccello. Essere finalmente riusciti nell'intento, tante volte auspicato, di approfondire con un apposito convegno nazionale la conoscenza di un illustre figlio di Canicattini, è senza dubbio un avvenimento importante, che merita un condizionato elogio, sia per gli amici che l'hanno organizzato, sia per gli illustri studiosi presenti. Ma soprattutto è un avvenimento oltremodo importante per la cultura tutta e per quella meridionalistica in particolare, in quanto consentirà di dare il giusto peso ed una definitiva collocazione ad un uomo che ha amato tanto profondamente questa amatoleata terra del Sud. Quale operatore teatrale di Canicattini Bagni mi fa piacere poter parlare in questa sede della teatralità popolare presente in alcune opere di Antonino Uccello. Sebbene abitasse nei primi tempi dopo il ritorno dal nord nel nostro paese, ignoravo la poietricità dei suoi interessi culturali. Mi era bastato sapere che andava cercando oggetti di ogni genere in tutte le campagne della Sicilia, che aveva scritto alcune poesie dedicate a Canicattini e che aveva creato un museo a Palazzolo dove aveva fissato la sua definitiva residenza. Quando però con un gruppo di amici costituì un teatro stabile a Canicattini evi la provvidenziale idea di invitarlo a tenere una conferenza sul teatro popolare in Sicilia. Era il 4 dicembre del 1966. Fu quello il mio vero incontro con Antonino Uccello. Le definizioni che in quella occasione diede dei termini teatro e teatro popolare che lui aveva già elaborato e dei quali era convinto sostenitore mi sono bastate per dare maggiore organicità e senso a gran parte della sua opera. Egli definì il teatro come aspetto della cultura popolare, elemento di cultura in senso antropologico, consistendo appunto l'antropologia, secondo le sue parere dello scienziato americano Marinoski nello studio dei costumi e delle abitudini corporee ed intellettuali degli uomini. Mentre per il teatro popolare ebbe la seguente definizione «Stuttura portante, fatto fondamentale della società sottosviluppata e contadina del secolo scorso, che nel teatro popolare intravedeva un naturale sbocco delle proprie passioni, bisogni, ritualità, finzioni, rivendicazioni, inversioni di ruoli, spiatatoi genici, dissacrazioni, satira, ecc. a differenza della società colpa e borghese per la quale il teatro assoleva ad una funzione settoriale, complementare, essendo un teatro scritto, preordinato, scelto da pochi, imposto». Concluse quella conferenza affermando che «quando si parla di teatro popolare, vuol dire investire una società intera di tale termine ed arrivare alla definizione di teatro popolare uguale a teatro globale». La divisione che ci diede dei tre momenti fondamentali di questo tipo di teatro offre, a mio parere, una chiave di lettura della sua intensa opera di ricercatore nei più svariati campi delle tradizioni popolari. Parlò, infatti, di teatro carnacialesco, di teatro religioso e di teatro dei pubri. Mi sembra, quando mai superfluo, aggiungere dell'altro a quanto è stato già scritto sulla validità di queste tre grandi componenti della libera espressione delle classi sociali meno abbienti. Il mio intendimento è quello di cogliere nell'opera di Antonino Cello attraverso le suddivisioni delle stesse citate degli spunti che avranno. Nella introduzione alla seconda edizione del volume «Risorgimento e società nei canti popolari siciliani», Antonino Cello scriveva che «indiscutibile è l'importanza della poesia popolare come documento di carattere storico-sociale, oltre che come fatto d'arte». Queste sue convinzioni egli espresse dopo aver maturato la nuova svolta data agli studi sui canti popolari e dopo aver fatto proprie le considerazioni di Gramsci a farsi nel 1950 su questi temi. Molta passione negli riversò dunque nello studio dei canti popolari già esistenti ed una certosina pazienza propuse nella raccolta di tanto inetico materiale. La poesia carnascialesca era quella che più si prestava ad essere rivisitata. Essendo infatti il Carnevale un'occasione di rivarsa sociale delle classi più deboli contro le più potenti, un momento durante il quale il poeta popolare aveva per investitura divina la licenza di poter dire ciò che voleva, un momento durante il quale il popolo elevava la poesia popolare a strumento di lotta, di satera politica, di distacrazione, eccetera, Antonino Cello offriva con questo rinnovato interesse per i canti popolari delle implicite e potenziali occasioni per una lettura teatrale. Basta ricordare in proposito le seguenti raccolte da lui figurate dove oltre alla poesia carnascialesca è possibile scorgere motivi di interesse molto più ampi ed una conoscenza più completa della storia delle classi popolari. Campi di Valdinodo, note di folklore siciliano, giochi fanciulleschi, risorgimento e società nei campi popolari siciliani, riti e campi della mia cittura a canicatini bagni, note di folklore siciliano e altri giochi fanciulleschi, carcere e mafia dei campi popolari siciliani e del disco sui campi popolari di carcere e mafia. In alcune occasioni noi del piccolo teatro abbiamo messo in pratica quello quanto vado affermando servendoci per i nostri spettacoli teatrali di alcuni canti tratti dal volume Canti di Valdinodo e di brani presi dalle due raccolte dei giochi fanciullesi. Quei reciti sono stati occasioni di autentico studio delle nostre tradizioni popolari momenti d'incontro tra nuove e vecchie generazioni concreti esempi di teatro popolare. L'altro aspetto scelto da Antonino Cello per parlare del teatro popolare fu quello del teatro religioso. Approfondì molto questo argomento in quanto nelle ricerche che aveva compiuto grande era stata la sua predilezione per lo studio della vita religiosa del popolo. le seguenti pubblicazioni ce ne danno un valido esempio la processione del venerdì santo canicattino i bagni il disco e la Sicilia il presepe popolare in Sicilia e tanti altri saggi e studi critici nonché gli innumerevoli peregrinaggi in tutta la Sicilia in occasione delle varie ricorrenze liturgiche del Natale della Pasqua e delle feste patronali. Tutti questi lavori stanno a dimostrare che per comprendere ancor più la storia delle classi popolari Antonino Cello si era reso conto della grande importanza che assumeva lo studio della componente religiosa della vita del popolo stesso e tale componente non poteva che individuare nelle sacre rappresentazioni. Queste sue convinzioni risultano con tutta evidenza attraverso quanto egli affermava nel volume sul presepe popolare in Sicilia. Scriveva infatti il dramma sacro e la rappresentazione liturgica sorgono con chiare finalità pedagogiche per istruire le masse popolari e rendere loro più familiari le cose sacre. Ed ancora il dramma sacro nelle sue diverse espressioni e forme trova un notevole incremento nei secoli XIV e XV cioè quando la Chiesa si trasforma in un centro di cultura di massa e in tutte le feste più sorelle dell'anno avevano luogo rappresentazioni aggiunte al mistero sacro. Ed infine la diffusione della rappresentazione sacra nel secolo XVII coincide con la popolarità del presepe che si avvia a divenire laico e a uscire dalla Chiesa da dove è stato escluso per entrare in particolare ambienti da prima nelle corti e tra la aristoprazia e più tardi tra i vari stati sociali ceto medio artigiani e contadini. Certamente Antonino Cello fu attratto da queste sacre rappresentazioni e soprattutto da quella che considerava la più densamente popolare quale il presepe al quale dedicò un angolo della casa museo oltre l'allestimento annuale di diversi tipi di presepi intorno ai quali così scriveva nel citato voluto. Il presepe a mano a mano che viene perdendo il suo carattere chiesatico e paraliturgico viene sempre più a costituire una miniatura della vita sociale e artistica dell'epoca lo specchio di una realtà nel suo estrinsecarsi e nel suo evolversi vi scorrono col ritmo di una sequenza usi e costumante popolari e poi lo studio delle figurine in relazione al presepe è importante come lo studio di un popolo o di una società in rapporto al suo territorio ed infine a volte questo tipo di presepe quello che lui allestiva nella casa museo le figurine passano in secondo piano anche se definite con estrema minuzia nei costumi del tempo e nell'uso degli attrezzi e utensili del lavoro quotidiano il paesaggio è colto con tale cura che diviene espressivo di una realtà in cui tutti gli urti e i contrasti si attutiscono e si spengono per ritrovarsi in un oasi di pace come avveniva nel contempo nel teatro dei punti in cui si riflettevano le aspirazioni e le idealità che spesso non trovavano adeguata rispondenza nella realtà di tutti i giorni oltre l'allestimento dei vari presepi Antonino Cello ogni anno a Natale nella casa museo ospitava zampognari gruppi teatrali e canori che facevano rivivere in forma magica questa ricorrenza che rappresentava per lui sotto il profilo psicologico l'esigenza di risolvere le opposizioni tra gli uomini in sintesi unitari e tra zampogni e canti popolari natalizi e novene si faceva dell'autentico teatro popolare religioso anche noi del piccolo teatro vi partecipammo in occasione del Natale del 1976 con un recital di poesie natalizie un altro aspetto della teatralità religiosa di Antonino Cello è quello relativo alla sua interpretazione della festa del Santissimo Cristo a Canicattini in Elsa Cello intravedeva un tangibile esempio di teatro religioso popolare della settimana santa un teatro popolare corale perché era tutto il popolo a partecipare ebbe infatti a dirci nella suscitata conferenza che il popolo dei fedeli con il modo di camminare con le promissioni con lo sparo dei mortaretti con il silenzio con la visione del santo con il fascino delle luci della sera con tutti questi elementi simbolici faceva teatro ed egli spesso specie negli ultimi anni della sua vita volle essere sempre presente a questa festa anche se aveva perduto il fascino del tempo mi sia consentito un inciso questo proposito vorrei dire che l'interesse dimostrato da Antonino Cello nello studio e nella raccolta di materiale attinente agli aspetti religiosi della vita del popolo che si è dimostrato mi fa sperare come credente che in fin di vita possa essere egli stato toccato dalla grazia di Dio l'ultimo aspetto sul quale si soffermò un cielo per pallarci del teatro popolare fu quello del teatro dei pubri egli era convinto al settore che nel risorgimento il teatro dei pubri aveva avuto la funzione di educazione delle classi popolari ed aveva soddisfatto a quelle esigenze di giustizia sociale che tradite e distorte dalla realtà quotidiana il popolo aveva visto realizzate attraverso la fantastica presentazione dei personaggi portati sulle scene dove sempre vinceva il bene vinceva sul male queste idee egli espresse nel saggio l'opera dei pupi nel siracusano dove affermava l'opera si inserisce organicamente in quel tessuto culturale che via via si era venuto elaborando nel secolo XIX e che ha determinato una più attiva seppur ancora disorganica partecipazione delle masse popolari e semipopolari alla vita politica e sociale del tempo affascinato perciò anche da questo aspetto della teatralità popolare curò le seguenti pubblicazioni copioni di briganti nel repertorio dell'opera due tragedie di Shakespeare nel repertorio dell'opera che si riferiscono alla riduzione per il teatro dei pupi delle due tragedie Giulietta e Romeo e il Macbeth ad opera del puparo Canino ma ancora voleva approfondire questa materia se nel citato saggio scriveva si tenga ancora una volta presente che queste note vogliono essere solo l'inizio di una ricerca più approfondita che consenta di stabilire note degli aspetti più personali che l'opera di volta in volta viene assumendo nei vari centri di diffusione e dopo questi brevi cegni sull'interesse mostrato da Antonino Cello per i vari aspetti del teatro popolare ritengo interessante aggiungere qualcosa sull'opera che considero la più alta espressione della teatralità popolare di Antonino centro la casa museo in essa io vedo da chiusa una forte carica di teatralità viva di teatralità popolare in quanto essa stessa è o meglio è stata un palcoscenico aperto a tutti dove gli oggetti e i manufatti erano le scene dove le innumerevoli mostre erano le trame rappresentate dove i esilatori erano i protagonisti ed attori è perciò uspicabile che essa presto possa riaprire i battenti per ridare vita ad un mondo che scompare avviandomi alla conclusione di questo mio intervento a sostegno delle riflessioni che ho sottoposto e la conferma dell'importanza e validità che Antonino Cello riconosceva a questo nuovo modo di intendere il piano popolare utile soprattutto per conoscere alla salvaguardia delle nostre autentiche tradizioni popolari mi sembra opportuno citare le sue stesse convinzioni e ebbe modo di esprimere in alcune occasioni per esempio nel maggio del 77 in un convegno provinciale dei gruppi teatrali aderenti alla federazione italiana teatro Amatodi che tenemmo a Palazzolo a credere la cultura popolare affermò è la storia delle classi sociali chi ha perciò la passione di fare del teatro popolare anche a livello amatoriale si soffermò parecchio su questo termine amatoriale ci disse voi amate in fondo anch'io sono un amatore delle tradizioni popolari ebbene anche a livello amatoriale deve necessariamente conoscere la struttura e la vita delle masse e nell'altra occasione nel maggio del 78 quando presenziò alla inaugurazione del locale del piccolo teatro di Canicattini indicò a noi giovani di cercare nella recente storia del nostro paese gli aspetti di una cultura popolare e le tradizioni che vanno via via per vendersi per poi rappresentare il pubblico ebbene noi del piccolo teatro abbiamo cercato di fare tesoro degli insegnamenti datici da Antonino Cello e proprio quest'anno abbiamo mandato in scena una gustosa rappresentazione teatrale ispirata ad una vicenda del nostro paese in piazza nei vari quartieri del nostro paese è stata quella un'autentica festa popolare un nuovo modo di avvicinarci alla gente un nuovo modo di fare teatro il nostro impegno è quello di continuare su questa strada per ricostruire la nostra storia e per poter meglio vivere e capire il presente grazie vi parlerò anche dei rapporti tra Antonino Cello e le arti figurative sarà un intervento che ascolteremo con non minore interesse di quello che abbiamo avuto all'intervento precedente sul teatro popolare prego nel primo tempo avevo deciso anche suggerito dai ricordi guidato dal valore di quelle opere di Antonino Cello di tenere presente soprattutto il catalogo delle pitture sul vetro del popolo siciliano del 1968 argomento a cui io Cello avevamo dedicato tanta parte dei nostri incontri prima della discussione in seduta di laurea di cui facevo parte la civiltà del legno di Sicilia altra occasione di appassionati discussioni fino alla pubblicazione che vide coinvolto un'altra figura di tenace operatorio culturale l'editorio di Vito Cavallotto anch'esso prematuramente scomparso e vivamente impegnato a dare adeguata veste tipografica rigorose e senza le rocini formali ma poi o riprodotto che altri con indiscutibile competenza si sarebbero qui avvicendati per trattare del contributo dato da un cielo alla conoscenza della cultura popolare siciliana figurativa il volume che con il titolo della casa d'Itloro ci consegna le memorie dalla casa museo di Palazzola Crede comprende alcuni passi dettati al registratore da uccello che in tenente alle pagine scritte per presentare le mostre personali di alcuni amici artisti a partire dal 1959 contribuiscono costituiscono una rilevante testimonianza degli interessi e della personalità di Antinuno Cielo fino al 1979 anno della sua morte voglio ricordare che uno degli incontri che rinsaltò particolarmente i nostri rapporti avvenne qui a Carinettini Bagni nel 1958 in occasione di una di quelle mostre dell'arte dell'artigianato che resero possibile il verificarsi di un periodo culturalmente felice come testimonia il circolo culturale che ci ospita nell'omaggio a Antinuno Cielo periodo che fece conoscere e rete familiare Carrago Tuso Espignani e altri artisti ancora collocati ancora collocati accanto ai manufatti degli artigiani dei contadini e dei pastori la presenza di persone oggetti della campagna siciliana più che ricordo o fuggevo l'apparizione appare in quasi tutti quegli scritti necessaria quando non diminante non risulta incontro con l'opera dell'artista occasione per registrare documenti o espressione d'arte ma prevalentemente si è imposta quella presenza cercata e penetrata quando necessaria perché per un uccello era lo scorrere della stessa vita mi sono servito come avrete notato di parole di uccello che ho ritrovato aprendo i voci del programma di questo convegno e che erano state opposte come severa e chiarificatrice epigrate nel volume della civiltà del legno in Sicilia infatti gli scrive lì nel volume sulla civiltà del legno avverto che le persone gli oggetti la campagna di cui vi parlo non costituiscono eccetera eccetera e poi verso la fine egli dice uomini luoghi i manufatti prima di costituire documenti etnografici o espressione d'arte o l'una e l'altra cosa un tempo sono stati per me lo scorrere della stessa vita e quindi tutti quegli quegli incontri che egli fece partendo da Canivertini Bagni a Cantù a Milano quando appunto ebbe frequentazione come egli scrive anche nel volume della casa dicono con tanti artisti quali Nesbreccane Berlascone Debrada Fiume Perricchio critici come Budigna Cerville San Canaro per esempio come gli artisti più a lui amici e vicino e così via certamente per lui non furono soltanto una sollecitazione ad allargare la propria cultura e la propria conoscenza ma come vedremo attraverso alcune di queste prefazioni di queste introduzioni ai cataloghi che egli è permesso di pubblicare appunto un percorso nel senso che gli indica in quella epigrata apposta appunto alla civiltà del legno che io ho letto ma la cosa che più mi ha sorpreso leggendo alcune pagine del volume del volume sulla casa di Itaro in cui prima appunto ricorda l'incontro con Ugo Bernasconi artista certamente non del tutto fine per 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 intenzioni al nostro uccello oppure quelle ancora gli incontri con Dancanaro realismo eccetera è un altro passo piuttosto che si legge a pagina 61 un passo in cui accennando all'incontro nello studio di Giovanola un altro nome a lui caro ecco ricorda che tra i frequentatori di questo studio tra i più assidui viera Pietro Manzoni è senza dubbio l'incontro con questa pagina il passo più lungo che nel volume di memorie in questo memoriale straordinariamente intenso e comomente di uccello è dedicato a un artista e forse anche il più penetrante quello che meglio in qualche modo ci consegna una chiara un mezzo per penetrare la formazione in rapporto anche alle arti più creative di questo giovane poco più che ventenne come dire costretto a lasciare la sua terra ecco in uno spaziente pensamento che certamente non era vedere una dimensione metafisica come allora si usava o astratta come era prevalente nel campo configurativo ma vissuta tremendamente vissuta come abbiamo visto nel brano che poco fa ho leggi ed è sorprendente vedere appunto come gli si soffermi a una meditazione dell'incontro con un artista che sembrerebbe più lontano apparentemente da Antonino Occello Piero Manzoni artista che voi conoscerete sicuramente che conosceranno molto di più quelli che giovanissimi non sono e che negli anni 60-65 hanno seguito le croniche a proposito del scandalo dei famosi barattoli di merda dell'artista e così via dicendo ecco stupisce in un primo tempo quale solalizio quale fratellanza quale rapporto che con un'ese con un artista come Viero Manzoni dall'altra parte con Antonino Occello che veniva fuori da un contesto così profondamente diverso da quello come dire di una Milano industriale di una Milano lacerata da tanti fatti culturali e crisi che certamente risultavano e risulterebbero apparentemente strane a Tanti Minoccello ma leggiamo un pochettino appunto questo passo che occupa tutta una pagina di questo memoriale Antonino Occello scrive Manzoni aveva già suscitato violente polemiche con la sua opera soffiava in palloncini che assumevano forme particolari che firmava con piatto d'artista non importa se poi è il titolo originale così come ce lo consegna anche Manzoni fosse colpi d'aria non è nessuna importanza o rianviva scatole con i suoi escrementi le sigillava e in varie lingue faceva porre merda d'artista era una provocazione nettauribile e sempre imprevedibile ogni sua mostra spesso veniva con un gruppo di amici a trovarmi improvvisamente accanto un giorno mentre si discuteva rivolta degli stranieri e da dire vedete ormai non mi dice più nulla il critico l'artista che giungo da Milano da Tokyo da New York da Amistad hanno ormai un linguaggio modificato un riforme una specie di esperanza mi dice di più uccello quando giunge da Palazzo tutto questo mi inorgogliva come un bambino cativo e pensate che come dire Pietro Manzoni aveva dieci anni in meno di un uccello un uccello in un primo tempo si sentiva in una condizione uguale emigrato in una condizione di inferiorità per poi ritrovare invece come dire un piano di uguaglianza anzi di come dire di base per ripartire più rinfrancato più sicuro in quello che era il percorso che gli veniva indicato vedremo come da Piero Manzoni dunque mi dice di più quando tutto questo mi inorgogliva come un bambino cativo con una cultura da tempo emarginata riusciva a influenzare uomini della più diversa estrazione i protagonisti di questo nostro mondo contadini e zolfatari erano già immigrati nella cattiva di Milano dove li andavo riscoprendo nelle opere di Guttuso Migneto Fiume io trovo qui a notare me stesso e ne vorremmo sapere di più a me dispiace appunto che in quegli anni in cui vodevo dell'amicizia della conversazione con l'uccello non sia mai saltato fuori questo fatto questo incontro con Piero Manzoni altrimenti gli avrei chiesto tante cose in merito per meglio comprendere il significato la portata di questi incontri di possibile discussione o anche se discussioni sicuramente non ci furono quale stimoli quale via misteriosi espresse attraverso anche le opere che dello stesso di manzoni gli eliti sia fossero esseri corpidari o fossero i baratti di merito di artiste ci fosse stato trovato questo sodelizio questo sostegno per la sua opera che poi doveva ricominciare più vigorosa più fruttuosa a rientro negli anni del 61 perché proprio se nel 59 e 60 sono le opere di Manzoni dedicate appunto questi corpi d'aria che altro non erano che delle come dire le palloncine come quelle che usano i ragazzi o diversamente che venivano gonfiati e vedremo quale significato avessero oppure questi barattoli che poi polemicamente come giustamente dice più uccello vero costituivano una provocazione inassauribile e poi vengono in questi anni proprio nel momento in cui l'uccello sta per rientrare nella sua palazzola sta per rientrare e riprendere possesso pieno dopo l'esperienza di Cantù dopo una serie di momenti incerti di depressione di di recupero come appunto quello che è registrato in questa pagina e quindi ecco l'importanza di questa di questo incontro anche perché ho voluto ritrovare rileggere uno scritto che lo stesso Mantone scrisse proprio in quegli anni nel 60 proprio negli anni dei momenti in cui forse si incontrava con l'uccello e in cui c'è un discorso che per alcuni versi è molto simile ecco quindi le vie misteriose di questo sodalizio vero che l'uccello anche se non avvertiva pienamente quelle che erano le motivazioni profonde della polemica della della provocazione che ha la società milanese alla società settentrionale cercava di contrapporre il Pietro Mantone che lì accettiva quali erano poi i motivi che per lui potrebbero essere utili come per il recupero della sua utente utente origine e per il rilancio poi nel momento in cui doveva raggiungere la sua razza da te e proprio il discorso sarebbe quanto mai intenso e interessante perché è chiaro che è un momento questo di profondatrice nel quadro delle atti sembrative italiane l'astrattismo comincia a non soddisfare più non è vero c'è soprattutto una personalità propotente come Klein non è vero che appunto con i suoi interventi come dire pone in corse anzi può dire fa dubitare fortemente della necessità di creare opere d'arte no? l'opera d'arte come non più necessaria come fatto appunto addirittura a confronto di una profonda crisi non solo più necessaria ma addirittura nociva in quel contesto e come appunto fosse da respingere l'opera d'arte come oggetto no? come oggetto ecco quindi il fatto effimero momentaneo di quel palloncino che si confia d'aria che può essere variamente modulato e formato dall'aria stessa che la persona soffia no? all'interno l'aria che viene immessa ad libitum del fruitore in un certo senso quindi vedete un rapporto apparentemente più precario ma che in effetti tende a stabilire una maggiore libertà un diverso approccio un diverso rapporto no? di crisi verso la realtà ma di recupere una realtà diversa e da questo punto di vista appunto si tratta anche di vivere questo rapporto di sentirlo in un modo diverso ed è appunto non più da forme precise condizionate dall'artista questo è importante e allora è il momento in cui ed è strano che non ne parli forse la memoria non l'aveva consegnata più ad uccello ma in quegli anni tra i vari apropo che coso che Piero Manzoni realizzava cioè questa serie di panini è strano che non abbia a meno che non l'abbia visto Antonino però queste panine messe insieme incollate insieme poi tutte dipinte di bianco no? questo riproporre una realtà senza più colore in una dimensione anche cromatica che come dire consente una libertà assoluta e quindi un rapporto con la realtà che può essere modulato può essere basato su rapporti del tutto nuovo è chiaro che quindi questo uccello per uccello significava che cosa? la possibilità di trovare delle radici più profonde culturalmente più pavide in questa crisi europea quale poteva essere affermata da un Klein venuto dalla cultura francese da un restanì che come dire pone in termini critici piuttosto rigorosi anche se combattuti quello che è il problema del nuovo realismo e così via dicendo è chiaro quindi che per queste vie Antonio Uccello recupera una forza rispetto a quelli che sono gli oggetti che egli prende in considerazione in una libertà che per altri magari viene recuperato questo chissà quale qui e che per lui invece è come dire una linea continua ecco allora leggendo quel brano di Uccello si dice questo sono stati per me lo scorrere della stessa vita davvero non più un'operazione assolutamente culturale ma lo scorrere della stessa vita ed è strano proprio come il Piero Manzoni in un suo scritto del 1960 un titolato proprio libera dimensione a un certo punto scriva proprio nei momenti in cui sicuramente frequentava il Paolo Uccello vada sì che è una linea una linea come trazzo non è solo un orizzonte né un simbolo e non vale guarda sì che è una linea non è un orizzonte né un simbolo e non vale in quanto più o meno bella vedete non è più il fatto estetico prevalente anche per lo stesso Manzoni più o meno bella ma in quanto più o meno linea quindi diremmo nel linguaggio di più o meno a conclusione per non trapportare a lungo un discorso che quanto me è interessante e che mi ritrova il comporto appunto di Consolo che come dire parecchio è stato spettatore in quegli anni anche di questi incontri di questi problemi il Manzoni conclude dicendo non si tratta di formare non si tratta di articolare messaggi, e c'era la crisi in questi messaggi, la crisi nella demologia anche già allora, soprattutto nell'arte figurativa, da qui appunto questa dissacrazione, questo atteggiamento provocatorio di Viero Manzoni. Ne si può qui ricorrere a interventi strani, quali macchiosità paracientifiche, intimismi da psicoanalisi, composizioni da paracientifiche, eccetera, non sono forse espressione, fantasismo, astrazione, vuote funzioni, e finalmente la frase famosa, riportata in molti cataloghi, estrapolata appunto da questo scritto, uno degli ultimi di Manzoni, non c'è nulla da dire, c'è solo da essere, c'è solo da vivere, vedete, proprio, mutate le angolazioni, mutate la formazione, eccetera, si può dire che corrisponda a una situazione culturale, riguardo esistenziale, dello stesso primo cento. Perché ho tirato a lungo questo discorso? Perché certamente non è casuale che il tratto più lungo, il capoverso più lungo sia proprio dedicato a Viero Manzoni, che pure dovrebbe sembrare tanto lontano dalla psicologia, dalla formazione, dalla situazione culturale e anche psicologica in cui si trovava alla vigilia della partenza della sua vigilia in Antonio Concello. Detto questo, che per me rimane il problema più importante per quanto riguardava il tema che mi è stato assegnato, è vero, al di là di quelle che possono essere poi, come in questo catalogo, il titolo Denunzi e Rapporti con il Dade, le Neodade, eccetera, eccetera, è vero? Mi comporta anche, leggendo i cataloghi, le presentazioni che il Denuncello ha fatto per parecchi i suoi amici, come appunto ci sia questa posizione. In certo il Dade non c'è da ricercare il rigore critico, sarebbe assoluto con una simile posizione, dove era ben lontano da lui. Né la traduzione in termini letterari attraverso anche citazioni diverse, cosa che non è certamente imprequente, anche spesso è calzante, di brani, quanto piuttosto il modo con cui si avvicina, ecco, che cosa significa per lui? Non per essere strumentalizzata, per essere, per appropriassene, quanto piuttosto come forma di sodale, di sodalizio insomma, no? Di conoscenza, di approfondimento. E certamente ci sono alcuni che sono piuttosto importante. Ora, non tanto quello ed è strano che ho letto poco tempo fa, guardando pochi minuti fa lì nella bella mostra che raccoglie tutti gli scritti del nostro Antonio Nocello, non tanto quella dedicata a un compagno amico, intimissimo, qual appunto tra i cani, che gli aveva particolarmente caro, quanto piuttosto un altro dedicato allo scultore Carlo Russo. E' vero? Ed è strano questo, che spesso ci sia, non dico un taglio uniforme, come canovaccio nel modo di comporre la presentazione, ma è strano che egli per prima si ponga, come dire, davanti un'inquadratura in cui vuole riconoscere lo studio in cui opera l'artista. Quindi, proprio lo studio. E ritrovare quegli oggetti che più chiaramente o più profondamente ad avvolto lo riconducono ai suoi interessi. Per esempio qui, Carlo Russo. E poi successivamente dove avere un qualche piccolo accenno, attraverso oggetti soprattutto, ecco perché, vedete, non è tanto il bello, non è tanto un estetico, come sicuramente Pasquale sottolinea in quelle ultime righe, e come egli dice appunto nelle ultime righe di quell'avverto che della scultura che ho letto poco fa, egli comincia a guardare alle opere ritrovando quelle che sono, come dire, le più d'intime, le più, anche se stavvolta le più nascoste, che difficilmente potremmo riconoscere, che lo riconducono, che ripropongono per lui qualche cosa che rende tardi il legame che gli sente. Ed è strano notare, a meno che io, per l'altro umore con cui ho letto questa cosa, e non abbia per disattenzione malamente inteso, che sia come un allentarsi nel tempo. Cioè più ci avviciniamo poi al periodo siciliano, più restiamo dicendo, più utile soprattutto, cominciano anche forse perché riguardano una presentazione di artisti nordici, oppure lontano, non so se stessi, per l'altro questo si va attenuando, sino appunto a quella poi con Santino, che sembrerebbe, pur essendo siciliano, un artista che lui congeniale, ma che invece, appunto, per certi aspetti tra metafisici e strani di questa atmosfera che egli, questo artista, crea sempre un po' in fondo in fondo, lontano dagli interessi profondi che Antinio Locello ha dimostrato durante i suoi studi, durante la sua vita. Ma proprio quello di Antinio Locello invece si può dire che siano dei più profondi. E ancora una volta io, dopo aver, dopo aver, anzi no io, lui, Cello, ricordato qualche verso come quella appunto di Lozzano, che pure sono un pochettino estranei. Il recupero è invece quello che è il tono autentico che lo lega invece all'artista. E dice qui, descrive un po' la parete, un vecchio roccio, eccetera, d'un tratto, da un angolo russo tira fuoco un maranzano, l'antico strumento dei pastori dei carrettieri che si è costruito da sé. E allora entra i momenti che l'ansimare di lamentevoli suoni ci comunica un mondo che gli tiene fuori, piena a fior di pelle, pronta a traboccare. Ma tutto questo può sembrare a letteratura un pochettino, può sembrare pretesto. La critica è un pretesto per Antinio Locello. E invece poi, verabilmente, più avanti, quando passa a esaminare, ma non da critico, quanto con sensibilità di poeta, che però si accoglie il senso dell'opera, analizza una delle opere di questa, anzi che sia una delle cose più belle, il nevito che l'incello abbia scritto. Cioè, quando esamina la colomba, che mi spiace non poter far vedere, egli scrive. E lei, la colomba, veramente, è un pezzo in cui, che potrebbe essere tirato a sé, da parte dei critici d'Arte, che non potrebbe essere tirato a sé da Antinio Locello. È un pezzo che è più bello di questo scultore. E mi spiace non poter far vedere, lo potete guardare nel catalogo. La colomba del 1955, scrivo Il Cello, è pasta di frumento pronto per la portura. Là, in un canto della casa, dove era stata deposta a lievitare. Una di quelle colombe che si sogliono fare durante la Settimana Santa. In alcuni paesi della Sicilia, dove ancora vivo è l'uso del pane di casa e questa tradizione registo. La colomba, ottenuta da un blocco di pietra, conserva la morbidezza e la bontà della ferina tre volte spacciata. Un'opera sapiente di tocco, vibratile, in una lucida domenica, nantesi e copolesca. Ora, in questo tre volte, eccetera, non vorrei qui annoiare con un'analisi che contrasterebbe con quello che ho detto a proposito del modo di sentire l'opera da manzoni da parte di Uccello. Senza dubbio, senza che dichiare un processo tecnico di approfondimento da parte dell'artista, a parte del fritto, corrisponde benemente più, se non, brani in cui Antino Uccello cerca di rendersi conto, di rendere conto all'attore di quella che ha a decine che l'artista, diciamo così, adotta per raggiungere un certo effetto. Ed è proprio qui, ottenuta la colomba, ottenuta da un blocco di pietra, conserva la morbidezza e la bontà della ferina tre volte spacciata. Questo senso del volume morbido, no? Questo senso di attenzione. Ora, è evidente che si capisce il perché quando Antino Uccello così parlava e presentava gli oggetti che se non vale errato portava con sé anche a Santu e a Milano e si presentava, certamente nel momento in cui le presentava a queste altre artiste, le presentava in particolare a manzoni, è chiaro che i miei di questi oggetti significavano anche per questo complesso protagonista della storia dell'arte italiana che è Manzoni, che morì giovanissimo, è vero? Nel 63, molto più giovane del nostro uccello, ecco, doveva rappresentare un fatto certo dubbio che lo entusiasmava. E si capisce allora perché l'uccello, scusate lo se lo leggo, ritrova, anche se è più anziano dallo stesso Manzoni, un po' secezionato di fronte a un continentale, scrive, ecco, assoluto cosa scrive e dice Manzoni, mi dice di più uccello quando giunge da Palazzo, e lui tutto questo mi inorgogliva come un bambino. E non so perché, non vorrei fare guida alla retorica, ma certamente mi pare che questa descrizione della volontà possa benissimo corrispondere a uno di questi interventi del nostro uccello lì a parlare con questi artisti, specialmente a Manzoni, soprattutto se è vero come credo che sia vero la posizione, l'impegno, il gesto iconoclasta apparentemente ma ricostruttivo di un Manzoni quando appunto fa quell'operazione che questi scandalizzavano e che è un uccello contro ogni verosimile, come dire, attesa da parte nostra, accetta pienamente, mentre apparentemente dovrebbe respingere, non è vero. E non soltanto qui, io potrei anche continuare, ma il discorso vedo che già si è fatto lungo e non vorrei patentare, dall'altra parte qui non mi sono previsto un compito di completezza, quanto piuttosto così di indicare sulla base di certe impressioni, come dire, un orientamento, una posizione da parte di uccello e come dire un diverso impegno da parte di noi critici a considerarlo alla luce di una situazione culturale molto complessa che è quella appunto degli anni Sassanti. E per esempio quando esamina la stanteria proposta di Federica Gabli, quando appunto parla dell'Ulivo, oppure ancora quando parla di Guerricchio e appunto scrive Lucania come Sicilia, che certamente non è retorica, è vero, ed è portato, senza che se ne avveda, senza nessun atteggiamento retorico, a ricordare il Guastella, ricordare la testa di San Sebastiano e così vi dicendo. È vero, non è, non sono di quelle scappatoie che talvolta usano i letterati quando si prendono l'impegno di presentare gli artisti, e per lui invece è come dire una porta che si apre e che insieme percorre con l'artista per approfondire un problema che egli crede di riconoscere appunto nelle opere che gli sono state consegnate per comprenderle. I nostri applausi sono più che un giudizio. vorrei dare la parola a Salvatore Mircofaina che ci parlerà degli aspetti della ricerca di Andrino Unceno nel campo della musica popolare. vorrei dare un taglio statistico per quello che mi sarà possibile. analitico della materia musicale che è compresa nella grande ricerca di Andrino Unceno. Ho intitolato questa mia relazione Aspetti della ricerca di Andrino Unceno nel campo della musica popolare, non soltanto per un motivo precauzionale, cioè per cautelarmi sulle incompletezze che certamente realizzerò nel corso di questo intervento, ma anche perché vorrei dare un'idea precisa, sottolineare il fatto che in realtà il corpus delle musica popolare registrate da Uccello è contemporaneamente una delle cose più notevoli del suo lavoro ed anche una delle più sconosciute. Due parole sulla figura, sul carattere di Uccello come ricercatore di reperti popolari. Mi sono anche un po' guardato dal parlare di etnomusicologia in questo titolo ancora, in quanto secondo me Uccello è un ricercatore sui generis. Per prima cosa va detto che altri che come lui hanno affrontato questo problema lo hanno fatto in termini specialistici. Sto pensando che ne so intanto soprattutto a Bartok e a Codari, sto pensando a Favara, sto pensando anche a personaggi minori della nostra parte orientale della Sicilia come Pastura, come Frontini, che erano tutto sommato dei musicisti, cioè dei compositori, persone che avevano nei confronti della musica di qualsiasi estrazione, popolare o non popolare, un atteggiamento abbastanza accademico, devo dire, un po' forse esageratamente lontano dal vero significato della musica popolare. Questo aspetto di Uccello, cioè del fatto che lui abbia inquadrato la sua ricerca non in una dimensione specialistica ma in un senso onnicomprensivo, cioè la ricerca musicologica di Uccello appartiene ad un contesto del quale fanno parte anche i ricami, i dolci e tutto ciò che Uccello ha studiato, tutto ciò di cui Uccello si è interessato. Questo secondo me è un dato notevolmente positivo perché, come vedremo tra poco, libera il ricercatore dal condizionamento di natura estetica, cioè dal condizionamento dell'obbligo di esprimere giudizi in un certo senso. Per Uccello la musica popolare, mi riferisco anche a quello che citava Vimbrano prima quando leggeva il passo inserito nella città del legno, appartiene appunto ad un contesto generale di diventire che fa parte della sua stessa pelle. Il fatto che Uccello poi non avesse un atteggiamento, cioè non avesse una preparazione tecnica musicale che ha suscitato anche una serie di considerazioni forse non sempre benevoli nei confronti del suo lavoro è secondo me anche un'altra cosa da tenere presente che lo libera sempre nel senso di cui parlavo prima, dalla schiavitù appunto del rapporto diretto, cioè per esempio Uccello è completamente al di fuori da quelle operazioni scalenti come possono essere composizioni, con temi popolari che poi hanno finito per prendere il sopravvento su alcuni personaggi di cui parlavo prima, compreso il Favara, cioè non gli interessava questo tipo di operazioni che peraltro è anche squallida e questo secondo me lo pone su un livello superiore. Già abbiamo parlato in un paio di occasioni, ho parlato in un paio di occasioni di Favara, il confronto lo ritengo inevitabile, cioè perché Favara è tutto sommato fino adesso anche se appartiene alla sfera occidentale, cioè ha ricercato che nella zona opposta rispetto a questa nostra, però devo dire come dirò che Uccello ha poi esteso le sue mani anche sulle zone di pertinenza favariana, ma comunque dicevo, il punto vero di contatto fra Favara e Uccello credo che sia di natura quantitativa, cioè si sa che il corpus di musica popolare del Favara, quello pubblicato a Palermo se non ero nel 57 è costituito da 1090 brani di tutti i generi, cioè ci sono canti, ci sono balli, musica strumentale, musica vocale strumentale, quello di Uccello secondo una mia analisi molto approfondita dei cataloghi che ho a disposizione sono esattamente 918, cioè è un numero che è molto vicino a quello del Favara e quindi questo secondo me è un punto di contatto, però ci sono delle divergenze notevolissime, per esempio, questa è grossolana però ve la dico perché poi voglio procedere ad altre sottodivergenze, per esempio il fatto che Favara abbia scritto, per una inesistenza di menti tecnici, Favara ha lavorato nel 1903 più o meno, mentre Uccello come altri ricercatori ha registrato e qui mi viene in mente un fatto, cioè un fatto di cui parlerò anche dopo, della opportunità della trascrizione del canto popolare perché esiste un'enorme difficoltà maggiore, comunque non rilevante negli altri settori di questa ricerca, appunto nel canto popolare, che è quello dell'approfondimento, cioè del mettere in condizione le persone, i fruitori, di utilizzare questi reperti e quindi della trascrizione, però dico nei confronti del Favara, la trascrizione è stata fatta in una maniera diretta, cioè immediata, il Favara andava sul posto quando aveva tempo, nell'estate, in campagna perché insegnava e con una capacità notevole in quanto era un tecnico, era un compositori, direttore di conservatorio, scriveva opere liriche e cose del genere, segnava immediatamente il canto e quindi è chiaro che nonostante tutta la sua attenzione, scusate, la massima attenzione, il massimo impegno qualcosa doveva costruire, cioè non c'era il diretto, la diretta registrazione del prodotto. Quando parlo quindi di trascrizione, intendo dire che la trascrizione, che una cosa è trascrivere dal cantore direttamente in un tempo limitatamente breve e immediato, perché il cantore non può ripetere tutte le volte che il ricercatore pretende che lo faccia, e altra cosa invece è trascrivere da un nastro, cioè un nastro permette la riflessione continua di soffermarsi su determinate zone, quindi il fatto che ci sia questo enorme materiale, credo che in un certo senso ci sia una sorta di colpevolezza, o almeno ci sarà, se non si realizzeranno determinate cose che proporrò a conclusione di questo intervento. In effetti il Favara, per concludere questo confronto, è un compositore, cioè il canto popolare del Favara non è il vero canto popolare, il canto popolare del Favara è un campo popolare interpretante, composto, realizzato sulla base delle convinzioni, della preparazione, della cultura dello ricercatore, cosa che naturalmente nel Stato di Cielo non esiste per motivi evidentissimi. Il catalogo che io ho consultato, e che certamente voi conoscerete, è che è un catalogo naturalmente assolutamente inadatto oggi a soddisfare le esigenze che da più parti ci sono in mezzo a catalogo di questo genere, cioè non è possibile avere un catalogo ancora di questo tipo, che non sia una schedatura, che non sia computerizzabile, che non contenga incipit, che non abbia una serie di confronti, di apparati, è solo un elenco. Da questo catalogo quindi io ho ricavato solamente dati di natura statistica, come dicevo io, che sono secondo me importantissimi per darci il senso, la misura del lavoro di uccello e anche come esempio per eventuali programmazioni di lavori in questo senso. Guardate che ci sono molti movimenti in Sicilia soprattutto che riguardano appunto questo programma della registrazione totale a tappeto del campo popolare, cosa assolutamente impossibile e irrealizzabile. Anche questi grossi lavori di pavare e di uccello sono delle gocce in un mare gigantesco che non sarà mai esaurito e che non può esserlo anche secondo gli stessi criteri di uccello perché richiederebbe sempre confronti, continui, ritorni sul luogo, vedere varianti, moltiplici. Comunque sulla base di questa indagine, di questa serie di dati che io ho ricavato dal catalogo, si tratta di 11 raccolte sulla musica popolare siciliana su 20 o 21, non credo di sbagliare, di ingenerare, fatte da uccello, a partire dalla raccolta numero 54 fino a quella 125, due nelle quali esattamente la 64 e l'ultima fatta in collaborazione con James Grench e l'altra con Anna Uccello. Io ho segnato le date, voglio dire che prima di registrare in Sicilia però Uccello aveva fatto delle esperienze in Brianza perché aveva registrato una raccolta esattamente nel 59 accanto a 2 e poi una seconda però mentre già cominciava a lavorare in Sicilia, si era spostato, poi l'ha ritornato per completare un rapporto di foro che aveva preso. Il catalogo è quello del Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare e sto citando due edizioni, cioè una edizione che è quella integrale che però arriva fino al 63, cioè integrale nel senso che comprende tutte le regioni italiane, poi ce n'è un'altra pubblicazione parziale che riguarda solo la Sicilia che invece è del 1970 ed è totale perché comprende tutte le raccolte di Uccello che vanno, come dicevo prima, dal giugno del 60 al novembre del 69. Il totale dei giorni lavorativi, scusate ma io voglio essere preciso perché è importante, sono usati da Uccello in questo lavoro e di 142, cioè Uccello ha registrato per 142 giorni divisi naturalmente in queste raccolte di cui vi parlo con un numero che è 918 e che parte da un massimo della prima raccolta, la 54, di 299 reperti prodotti fino ad arrivare ad un minimo di 7 che è quella, la numero 74 e con una media lavorativa della prima raccolta di 18 e qualcosa registrazione al giorno fino a scendere poi man mano verso il basso, questo lo dico perché secondo me c'è stato un iniziale approccio di Uccello nei confronti della musica popolare di natura abbastanza onnicomprensiva, cioè non specializzata, non orientata verso determinati settori, man mano poi il criterio così monografico della raccolta, cioè il criterio che tendesse a mettere in luce determinati punti, momenti, riti particolari, ha preso il sopravvento e quindi il numero diminuisce e diminuisce anche la media, però la raccolta acquista un sapore particolare. Naturalmente poi ho fatto una schienatura di tutte queste raccolte per raggiungere poi una conclusione generale, riassuntiva di tutto il lavoro che non trovo naturalmente, scusate, che mi ha fatto realizzare un elenco innanzitutto di località, cioè le località che sono state toccate da Uccello sono innanzitutto quelle che riguardano la sua particolare area di azione, cioè Canicazzini, Bagni e Palazzola Credecio, lui ha registrato esattamente 92 brani a Canicazzini, Bagni e 83 a Palazzola, con una media del 10% circa di ognuno di questi. Poi un altro aspetto molto importante di questo lavoro sul catalogo è quello che riguarda gli organici trattati da Uccello, che io ho classificato in tre gruppi, cioè organici vocali, cioè esclusivamente vocali, organici vocali e strumentali e organici di natura esclusivamente strumentali. Ognuno di questi gruppi è stato sottodiviso in voce sola, coro e piccoli gruppi vocali, voce sola più coro e piccoli gruppi duetti, voce recitante piccoli gruppi eccetera. Gli strumentali hanno dato luogo a una serie di presenti, degli strumenti come trombe per esempio e altri normali, come il fiscaletto del zamponico uccello chiama all'inizio zumo, o strumenti vari, bande, però anche cose abbastanza ghiotte come la presenza dell'organetto per esempio, oppure del svaldo dottone, antipiedi canna. E poi per finire la voce che riguarda gli organici profondali. Anche in questo caso è venuto fuori un tipo di esistenza che è a favore dei canti esclusivamente vocali, sono 758 su 918, un po' seguiti da quelli strumentali che sono 83, da quelli vocali che sono 73. Questi dati corrispondono in generale ad una situazione abbastanza normale, cioè voglio dire si possono confrontare le stesse cose anche nella raccolta di Favara e questi dati quindi sono significativi e emblematici di una situazione in generale, cioè il campo volare siciliano è soprattutto di natura vocale, poi è anche di natura strumentale e per finire è anche di natura vocale strumentale. Molti altri comprometti si possono fare, esistono una serie di rapporti anche nei contenuti, nei testi, nei titoli, ma questo sarebbe un lavoro spaventoso, io mi sto girando un po' a orecchio queste cose, nel senso che le ho viste qua e là, ma non ho fatto un lavoro di settimana, ma andrebbe fatto. La terza ed ultima considerazione di grazia del statistico che io ho fatto, dopo quelle delle località e quelle degli organici, peraltro io su una località avevo anche il numero totale di questa località che naturalmente adesso non riesco più a trovare, ma non importa. La terza ed ultima dicevo è quella che riguarda i Cegli, che io ho classificato però con una approssimazione, con una certa approssimazione, voglio dire è difficile trovare una classificazione dei Cegli assolutamente perfetta, esatta, non ci ho riuscito neanche a favare. Ho cercato delle linee principali, considerando poi quelle non collocabili in queste linee, quelle registrazioni, sotto la voce alti, che sono 327, ma poi ci sono 164 canti di lavoro, dove sono compresi mietitura, trepiatura e cose di questo genere, 130 canti religiosi, canti, scusate, brani, canti in questo canto religiosi, che comprendono anche quelli natalizi compresi alle novene, ci sono 51 nitenanne, 43 balli, eccetera, eccetera. Sappiate che in questo catalogo sono compresi anche brani che riguardano interviste, per esempio, a cantori che spiegano i significati dei canti che hanno precedentemente seguito o altre cose. Sono contenuti anche richiami, oltre alle appagniatine famose, che è bellissima di appagniatine, ma racconta il corpo di Duccello, oppure cose particolari come quello del Muzzuni, famoso da Cala Vecusi, che è un rito del quale Duccello si è interessato moltissimo, che io ho messo a parte, sono 12 le registrazioni che riguardano il Muzzuli. Parlavo prima della mia non conoscenza, mia di nessuno, profonda, di questo corpus, cioè queste cose che io ho detto sono quelle, secondo me, possibili come precisione in questo momento. Io ho lavorato con Duccello in alcune occasioni, una di queste è stata, per esempio, una serie di trasmissioni che abbiamo fatto per la RAI, che era titolata Era Sicilia, un titolo molto familiare per Duccello, come tutti sapete, e che credo sia nata nella mente Duccello, perché l'iniziativa era naturalmente sua, per una sorta di esigenza riguardante una certa carenza organologica sentita da lui e avvertibile in questa registrazione. Cioè, in effetti, una delle carenze principali che avverte anche lei spesso quando cita Duccello, quando parla del corpus Duccello è di natura organologica, cioè non si specifica mai di che tipo è la zampogna, se è a paro, se è a chiave, se è zoppa e cose del genere, non si specificano altre cose che riguardano strumenti. E Duccello sentiva questa, credo, questa carenza. Tant'è vero che mi parlò di questa serie di trasmissioni che sono state dedicate ognuno ad uno strumento della musica popolare siciliana. Un fatto adesso non ricordo bene, ma certamente sul Friscaletto, sul Maranzano, sulla Brogna e su tutti gli altri strumenti. Un'altra occasione è stata una brevissima mia appendice all'ultima edizione, quella della Bellicano Libri di Risorgimento e Società nei canti popolari siciliani, che riguardava appunto questo brevissimo repertorio che esiste di canti risorgimentali, la maggior parte tratti dal Favara, perché appunto i canti di Muratti, il cerchino di Muratti, e poi con l'aggiunta di una cosa idiotissima, interessantissima, che aveva trovato Duccello e che era Sparano Porti in Landria, che è un'applicazione di questo testo su un altro canto napoletano del 48, credo, che è la Palometta Yanka, che io poi ho trascritto. Una terza occasione, credo la più importante, è stata invece la mia appendice all'ultimo, almeno l'ultimo così di natura antologica, monografica, insomma, lavoro di uccello, che è quello che riguarda appunto il presepe comunale in Sicilia, dove io ho scritto una serie, un appendice che contiene una serie di trascrizioni. Vi dico questo per un motivo molto semplice, cioè alcune di queste trascrizioni che io ho fatto, come quelle per esempio della novena di Natale Francofonte, oppure quelle del santuario della Madonna di Custonaci, o altri che riguardano la serie reale, c'è un canto natalizio del pastore, un'altra di Cusceni, c'è poi una registrata a Ventini, però di uno zabbognaro che è di Maletto, questa è una cosa che ha prestato il fianco alla critica di lei, perché appunto le edifici appena Ventini, però di una storia di Maletto, perché adesso la scienza, chiamiamola così, etnopo psicologica, ha raggiunto posizione di alta precisione, cioè lo dico anche un po' in tono polemico, in un certo senso, e quindi magari ci si attacca a cose che poi non sono estremamente importanti, però dicevo questo perché alcuni dei canti che io ho trascritto su nastri forniti da uccello non sono completi nelle 11 raccolte di cui parlate, questo secondo me significa che esistono altri nastri che non sono stati mai classificati e che si devono trovare da qualche parte e che per esempio io ho trascritto una pastorale natalizia per ocalina e chitarra, anzi due, registrata a Melilli e un'altra registrata a carta di, un'altra pastorale natalizia per ancora per flauto, per mandorino scusate, chitarra, poi ho trascritto anche una novena di Natale di Minera, per esempio Minera è una città che non è compresa in quelle appassate a setaccio da uccello che è per in coro misto e armonio. Ecco, io vorrei concludere per non dilungarmi troppo presentandovi una serie di proposte, che forse in parte ho anche detto prima, per esempio secondo me la prima cosa da fare, io colgo l'occasione che mi è stata fornita, la quale ringrazio dagli organizzatori di questo convegno di darmi appunto l'opportunità di parlarne, sarebbe assolutamente necessario, non funziona più questo, sì, è necessario una schedatura, la costituzione di un archivio, di una schedatura siciliana, possibilmente al soleno, oppure non so, di questi canti di uccello però con criteri, di questi brand, di un uccello che sono moltissimi, come dicevo, con criteri però estremamente moderni, nuovi e che soprattutto dino la possibilità di indicare gli incipit non soltanto letterari ma anche musicali, con criteri, tra l'altro lo stesso collage che è quello che ha lavorato con uccello indicava una serie di elementi per trovare, per esempio, per alfabetizzare gli incipit musicali e fare in modo che possano essere poi inseriti nella scheda in una maniera che poi sia confrontabile con il resto, in modo da trovare lì, oggi per esempio è nuovo, è normale, ricavare confronti con modalità di natura classica, non so stabilire ciò che è d'orio, ciò che è ipodorio e cose del genere, oppure di influenze di natura giustantina, perché a me so, sono lavori che andrebbero fatti naturalmente non in maniera allegra, ci vuole un'equipe. Poi, una volta costituito questo archivio, secondo me, si dovrebbe procedere alla totale trascrizione e pubblicazione anche di questi scanti con relativi apparati critici e di confronto. Contemporaneamente si dovrebbe procedere ad una continuazione della ricerca per controllare sul campo se esistono, per esempio, delle modifiche, dei cambiamenti nelle stesse zone battute dall'uccello e per completare anche su zone non battute dall'uccello. E poi, ciò di cui parlavo prima, procedere ad una precisazione di dati tecnici, che non sono contenuti in questi cataloghi, che riguardano soprattutto l'aspetto organologico. io vorrei concludere con un'altra indicazione di tipo programmatico, cioè parlare anche di un aspetto iconografico del problema. Oggi, finalmente, credo, perché è una cosa estremamente necessaria, è nata una nuova scelta che eravano oggi. Diciamo che questa nascita è attorno, si può farvi salire, a tre o quattro anni fa. C'è stato un convegno a Palermo due anni fa, credo, con studiosi di altissimo livello, che appunto aveva il compito di diffondere e di cominciare a fare ampia promozione di questo discorso della iconografia musica. Ancora più recentemente, l'aspetto iconografico della musica è passato nel settore popolare. E io direi che anche nel caso del cielo, per esempio, tutte le immagini, comprese i pastori, cioè io so che i pastori sono uno dei fondi più importanti di questa ricerca iconografica, i pastori che sono strumenti, che sono zamponi e altre cose, e io so che nelle coalizioni del cielo esistono pastori, preseghi e cose del genere, e credo sarebbe molto opportuno integrare, rendere più agile e più completa questa coordinazione del programma di lavoro che vi propongono, anche con un approfondimento di tipo iconografico. Grazie. Sollecitante imitazione di lavoro che è il modo migliore di rendere omaggio al successo, continuando la sua opera, darò la parola a Giuseppe Quadriglio che darà una testimonianza di amicizia sul nostro comune amico. Pronto, va bene così? Giorno, signor, signor, porto al convegno la testimonianza del giornalista ed il ricordo dell'amico, testimonianza sull'impegno esemplare che ha pronunciato, ricordo della sua battaglia combattuta ad armi impari contro la burocrazia, l'incomprensione, i preconcezioni. Il mio intendimento è quello di, per così dire, scolicizzare i tempi di un rapporto che si nutrì di stima, di simpatia e di solidarietà. Conocchi a tutti un uccello, Tari, soltanto nel 1979, in occasione di una mostra di dolce del Seracusano che si prende a Bavaria. Ci conoscevamo di nome, ma non c'eravamo incontrati mai più alla dolce, l'affiettamento fu immediato e spontaneo. Antonino mi parlò della sua raccolta e della casa di Parazzola Greve, mi incuriosì e mi invitò a vedere l'una e l'altra. Partivasi subito per fare una scoperta che già nelle parole di un nuovo amico mi aveva entusiasmata. E proprio in quell'anno, il 21 maggio 1969, a parte nella terza pagina del giornale Sicilia, il giornale sono sempre volato, il mio primo articolo su Antonino Uccello porta questo titolo, ha trasformato il museo la casa dei vantaggi. Il più recente articolo su Uccello è stato scritto sempre sul giornale Sicilia il 30 ottobre 1990, a un anno in tappo dalla morte di Uccello. Corrono dunque undici anni dal primo all'ultimo articolo, e dentro quest'arco di tempo scorrono la mia testimonianza e i disensi della mia amicizia e del mio rabbio. Nell'ultimo articolo, più sopra citato, sono condensati sentimenti e ricordi, ma c'è anche la denuncia delle pastorie che hanno impedito la riapertura della casa museale. L'articolo ha questo chiede, un anno fa moriva al tuo annuncello, e questo titolo esplice, la burocrazia nella casa museale, quando ci vederà? La mia testimonianza è così articolata. In questo periodo dell'anno, a Palazzola Greide, l'autunno è il volto dell'inverno, se il cielo è nero, di nuvole, le giornate diventano fortissime. Spesso il vento che corre nell'altavale dell'anapo costringe la gente a chiudersi nei circoli nelle case, c'è freddo e silenzio nelle strade. La ricordo così, quando al sorreire nell'ottombre del 1971, pochi giorni dopo l'apertura della casa museo, voluta e realizzata da un uccello. Antonio Uccello previdava, ma era pieno di speranze. Attorno a un grande cammino acceso e continuamente alimentato, Uccello parlava come se fosse in generale, diceva a se stesso, nelle fatiche che aveva dovuto affrontare per entrare in possesso delle quattro mura necessarie per creare un museo. Un museo che fosse soprattutto una casa della civiltà condadina e desse testimonianza nel tempo di un mondo al limite del suo definitivo risolvimento. Si parlava della casa di Tari e della casa di Massaria, della stalla e del fantoglio, del piccolo e del grande Maiazzeo, il ripostiglio padronale dove venivano conservate le terrate e la raccolta dell'anno. Venivano passati in rassegno almeno 3.000 oggetti raccolti dal morino uccello nel corso di una preinternale ricerca in tutta la Sicilia ed anche in altre regioni, tutti legati a un universo popolare, contavinesco, povero e tuttavia nobile per ispirazione, fantasia, uso. Attrezzi per lavorare nei campi, oggetti di ferro battuto, in taglie di legno, tessuti nati in telai domestici, ceramiche, pitture su vetro, ingenue figurine di tante sete, giocattoli di cartapesta dei più piccoli. E intanto al campo e per cammino acceso, mentre fuori si trevava dal freddo, la serata era contortevole e carica di sorprese. Dopo il pane nero, le salsicce e le olive del vino di casa, giunse sulla menta una bottiglia colma di un limbo misterioso dal colore ambrato. Lo assaggiammo, era forte e delicato nello stesso tempo. Non riuscimmo a indovinare, mia moglie ed io, che tipo di liquore fosse. Gli androni ucceto si divertì per un poco a lasciarci così in sospesa. Alla fine era rivelazione. Quel liquore era chiamato dai contadini e pastori del seracusano, spirito di fasceggiare, ed era prodotto dalla distillazione, mi dico, miele di plemo. Era un autentico nettare, degno di essere cantato in un verso di Omero. Questi ricordi oggi sono denti di malinconia. Cos'è stata la Casa Museo lo sanno tutti. Per sette anni, questa rispettibile testimonianza della civiltà rontanina siciliana, realizzata da un uomo tenace e solitario, è stata erogata da tutti, ma non ha avuto la fortuna che meritava. Ma dal suo credito è stata meta di studiosi e interescolareschi, ha appassionato esperti ed ha incuriosito profani, e è stato un punto di riferimento preciso per l'intera Sicilia. E Antonino Uccello, nella consapevolezza di per messa a disposizione della collettività uno strumento di conoscenza e di riflessione, per lunghi anni, con l'aiuto affettuoso della moglie e dei figli, ha cercato di gestire la Casa Museo di Palazzola Treve, trasformandosi anche in custode e pagando di tasca propria le bollette della luce e quelle del tabello. In quel primo incontro del 1969 a Palazzola Treve, Uccello si è prì alle confidenze. Mi disse fin anno di aver investito ogni suo avere per l'avviso degli oggetti che figuravano nella raccolta e di essere stato costretto anche a chiedere l'accessione del quinto ed altri prestiti bancari minori. Mi raccontò anche la storia della Casa di Palazzola Treve, storia che così venne raccontata in quel tipo di servizio. Abitava a Caricattini Pagno dove è nato quando seppe che a 29 di distanza a Palazzola Treve era in vendita un palazzo settecentesco malandrato che nessuno voleva comprare se per il prezzo fosse veramente buono. Il motivo c'era. In quell'edificio dei balconi panciuti era stato ucciso un uomo, il padrone di casa, ed il paese si assicurava che il morto tornava di notte del palazzo a lamentarsi a gran voce della sua ringrazia. Ce n'era abbastanza per lasciar marcire quelle vecchie mura, ma Uccello si fece avanti dal tratto angelo luogo dove il palazzo sorgeta, un quartiere popolare rimasto intacto con il suo primitivo rimpianto urbanistico, le viuzze acciottolate e le piccole abitazioni a un piano con le decole da togliere. Il palazzo aveva anche un'altra caratteristica, era stato ricostruito dopo il terremoto dei muri 693, su frammenti di muri di un precedente edificio, forse un magazzino, e costituiva quindi una scoperta per chi avesse voluto e lavorare. Il mio secondo articolo sottornuccello è ancora un servizio ben inviato pubblicato della terza pagina del 15 settembre 1971, dodici giorni prima dell'apertura della casa museo, fissata per il 27 settembre. Il titolo a prima pagina è «L'ultimo rifugio della città contenita». Sono registrate in questo articolo alcune considerazioni di Uccello che vado appena riferite. Poteva anche essere un capriccio il mettere insieme una collezione così vasta di arte popolare, ma tra poco saranno immolti a rendersi conto che si tratti di un strumento culturale destinata a creare lievi ed emulazioni altrove, perché tutti, negli altri centri dell'isola, hanno qualche cosa da salvare e tutti possono salvarla dalla distruzione, dall'obbligo, senza attendere il bel vento delle autorità. Antonio Cielo si accalora difendere il suo prendendo al fresco condadino che ha creato in ampi e saltanti ricerche ed è contento di aver avuto finalmente la spinta giusta per realizzare la sua non segreta aspirazione, quella di aprire l'avvitamento al pubblico da prima casa museo privata di cui si conosca l'esistenza». Ed ecco nello stesso articolo un'altra considerazione di Uccello, che è anche documento dell'amore che egli metteva anche nelle piccole cose della sua fracolità. Tra poco, mi disse, mi dice Uccello, «di alcuni uccelli si perderà la memoria, nessuno conoscerà il loro uso vero, chi li troverà nei rigattieri li adopererà magari come motivo ornamentale». E nel dire ciò mi mostra uno strano rettangolo di ferro, vero oggetto misterioso da quando non giunge la sua spiegazione. Si tratta della scaletta che il contadino adoperava per aprire e mantenere aperta la bocca della bucca o del cavallo in modo da poterla poi ispezionare senza difficoltà. Il 27 febbraio 1973, una recensione dell'Opia di Uccello, la civiltà del legno in Sicilia, pubblicata dal compianto editorio di Tocanotto, gli consiglia di sottolineare la particolare attenzione che Uccello aveva sempre dedicato alla cultura del legno, ed anche ai misteriose crisi dei cagretti al legno stesso legati. Antonino Uccello ha dedicato a largo spazio gli strumenti del contadino e, prima fra tutti, all'albero, che costituisce l'arnese principale della sua attività di uomo legata alla terra. Nella civiltà del legno in Sicilia, l'autore parla della fula che il contadino dedicava alla ricerca del legno dal quale doveva entrare l'albero. L'albero stesso, quasi sempre nella querce, doveva essere abbattuto quando la luna era infanzia crescente perché il legno non venisse agredito dal taglio. Altra cosa a cui bisognava fare attenzione era l'inclinazione naturale del tronco. Doveva infatti formare un angolo ottuso in modo che il contadino, bozzandolo con le ori libere, potesse agevolmente ricavare l'aratro. Se l'aratro con il tempo si rompeva nella parte più debole, là dove sosteneva il ferro, allora il contadino, sempre conoco, usava il pezzo ormai inutilizzabile in campagna a casa propria come dall'astivale. Andrilo Uccello narra questa avventura del contadino con il calore di che racconta una bella favola antica. Il 30 marzo 1976, la prima testimonianza delle delusioni di Uccello. Il titolo dell'articolo è «Ciuso alla Casa Museo di Palazzola Greine, l'ultimo rifugio sequestrato dalla civiltà contadina». Nel servizio è documentato l'interesse per la Casa Museo a livello popolare e nel suo passeremo l'incomprensione delle autorità. Gli allunni della scuola elementare Kennedy di Modica lo hanno scritto nel loro giornaletto, a Palazzolo situ della Casa Museo del Massaro siciliano. Lo ha deciso Antonino Uccello perché, dopo quattro anni e due mesi dall'apertura, non ha ricevuto gli aiuti necessari. Secondo noi il Comune, l'ente provinciale del turismo, la regione siciliana e lo Stato non si sono interessati dalla Casa Museo. Eppure l'articolo 9 della Costituzione dice «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Ma niente è stato fatto. La Casa Museo di Palazzola Greine conserva le tradizioni popolare e contadine del popolo siciliano e ciò per noi che siamo figli di contadini è importante. Da Ferrare partecipando al convegno per la ricerca e la riproposta per la cultura orale, adotterebbe a farlo. Il convegno addolorare scupefatto per la forzata chiusura della Casa Museo esprime piena unanime solidarietà. Si usa a marito profondamente per l'assoluta mancanza di aiuti pubblici. Sono solo alcune delle voci che sono giunto l'uccello da quando, nel primo di dicembre dello scorso anno, decise di chiudere temporaneamente la Casa Museo. Quella volta allorino uccello mi diede una condolente testimonianza dei suoi sentimenti. Mi disse che la Casa Museo restava chiusa agli esitatori, ma che gli ambienti restavano vivi ed abitati. Mi spiegò che il piacere rimaneva acceso non soltanto all'inverno, ma finché c'era freddo tra le vecchie mura. Aggiunse che quel calore era necessario perché gli occenti respirassero e non diventassero gergibenti di museo. Anche se quel calore non si doveva sprecare nulla, concluso da un sorriso, poteva servire ad affumicare la sassiccia appena assorbita. Il 17 gennaio 1979, anno del 2002, la chiostura definitiva della Casa Museo annunciata con questo titolo, il disinteresse appiegato a Antonio Uccello. Chiude l'ultimo rifugio della civiltà contadina. Nell'articolo c'è un documento grammatico. Il biglietto che Antonio Uccello ha inviato nei giorni scorsi agli amici dice semplicemente, la Casa Museo di Palazzola Reide, conclusosi la fase sperimentale della sua attività dopo circa un decennio, chiude in gennaio definitivamente. L'Associazione Amici della Casa Museo intende ora proseguire ogni sforzo soprattutto nell'ambito della ricerca. Una postilla battuta a macchina verde, oltre evitare disagio a scoladesche gruppi e associazioni a quanti hanno in programma di organizzare visite alla Casa Museo, si prega di dare rinievo alla notizia e di pubblicarla a più riprese. Così insordina, con pudore, a dove un uccello getta la studia, si arrende di fronte a una realtà costituita da apatia, disinformazione, ignoranza e malacoscienza. Un privato con le sue sole forze, soltanto con qualche aiuto sporadico, non può gestire un museo che richiama tutto l'anno scoladesche, rispettore e studiosi anche la lettera. È necessario un visto impegno organizzativo, sono dispensabili finanziamenti di enti pubblici a carattere comunicativo. È quello che Antonio Uccello ha chiesto in vano da anni, fino alla mala decisione di questo freddo gennaio 79. Chiudere e magari smembrare le condizioni per non restare tardamente a rodersi dentro, ricevendo quelle parole di solidarietà e promesse di interventi che non vengono sistematamente mantenute. Il 25 settembre 79 ricevetti un drammatico biglietto di Antonio Uccello, scritto appena con una fotografia confusa di persona ammalata che si sta a letto. Il biglietto vergato il giorno prima diceva, carissimo, ti butto in mano questa patata calda, arrangiati. Ti ringrazio e ti abbraccio, tuo mio. Unito al biglietto a quattro fogli di una lettera fotocopiata, lunga, penosa, disperata. La pubblicai subito, integralmente, nella terza pagina di mercoledì 26 settembre 79, con questa premessa. Giunge al suo pilo con la vicenda della casa museo di Palazzola Crede, creata da un candidato alla ferma determinazione del primo uccello, a giudicare dalla sua lettera aperta, amare e disperata, sembrerebbe di sì. È una vicenda siciliana lunga e complessa. C'è uno studioso che costituisce un museo privato con la direttore e la custodia, insieme con la moglie e con i figli. Studioso da ogni parte d'Europa vengono a visitarlo, le scolaresche giungono da ogni parte dell'isola, è così turista. La casa museo costituisce un punto di riferimento, ma un privato non può gestire da solo, con lo so le forze, un museo, la cui proibilità è stessa alla volettività. I piccoli interventi storici non bastano, ci vuole di più, ma gli interventi più volte richiesti non vengono. Un cielo esasperato giù del museo, ma i giornali uomini di cultura e associazioni financo scoladeschi in soldo, si muovono anche i politici, fanno promesse che allora il trenuccello riapre ancora una volta il museo, e attente, fino a quando, fino a quando esasperato, per l'inutile attesa, prende una drastica decisione e gli invia ai giornali la drammatica lettera che qui di seguo pubblichiamo le sue interesse. Manca appena un metano a porto dietro il trenuccello. L'amico se ne va con l'angoscia di quella lettera quando ormai per tutto un'isperanza militare. Il 31 ottobre 79 la sua morte venne annunciata con un titolo in prima pagina che dà il senso della sua opera. Inventò da nulla il museo vivo delle nostre radici. Queste le prime parole di crepezzo battuto in fretta con autentica pena. Sapevano agli amici che Antonio Uncello era molto malato, che la recente vicenda della sua casa museo non aveva ulteriormente frustrato, ma nessuno di noi pensava che la sua fine fosse così vicina. Ed ora che Antonio Uncello non c'è più, ora che si è placata, la sua ansia, ora che ha smesso di spattersi perché la sua straordinaria testimonianza del mondo contadino siciliano restasse integra al tempo, solo ora, nel silenzio di queste ore e di questi giorni, possiamo renderci conto del senso della sua lunga battaglia. Possiamo veramente capire la sua statura di studioso e finalmente comprendere il suo amore viscerale per la Sicilia più autentica. La scomparsa di un Uncello non può che fare affrettare i tempi perché la testimonianza voluta da un solitario poeta resti integra al patrimonio di tutti degli anni avveniti, per rispettare la memoria di uno studioso esemplare del tenace, l'obiltà dei motivi di fondo del suo battaglio, l'attaccamento delle radici, della sua e della nostra vita. E' un voto questo che ancora non si è compiuto, questo convegno con la probabilità delle sue odorevole voci esplicitamente lo sollecita. Un applausi con la possibilità di commosci. Per questa testimonianza drammatica, ascolteremo un altro intervento che sarà il contributo conclusivo prima delle poche parole che io dirò e che ci aiuterà a dare un senso a quello che questo convegno così degnamente ha cominciato a dare per quello che è il nostro debito di una condizione di oggetto do la parola a Vincenzo Conturo che ci parlerà sul tema la casa della nostra memoria io non sono uno specialista uno studioso di tradizioni popolari né uno storico né un critico sono un narratore quindi l'unico linguaggio che io conosca è il linguaggio narrativo quindi vi leggerò un brano di Un mio viaggio in Sicilia estate 1982 dedicato ad Antonino Uccello che è preso inedito che è preseduto proprio per ragioni del raccordo di comprensione da un piccolo brano iniziale già edito col titolo La casa di Icaro fu nel 63 o 64 che conocchi Uccello a Capodorlando dove era venuto con la inseparabile moglie scendendo da pesini sperduti dai nebboti da floresta longi al cara in un inverno carico di neve lo accompagnai a San Fratello in casa degli eredi di un farmacista etinologo era stato collaboratore del P3 e primo maestro di Cocchiara la figlia dell'etinologo Rubino ci introdusse nella biblioteca del padre ci fece vedere i libri opuscoli manoscritti Uccello con quelle corrono torrenti scandite dalle geometrie dei murecchi a secco che recintano campi di Timo e da Spodelo ombreggiate da Caputi qui si disponevano le arnie e quel famoso Miele Ipleo cantato dai poeti viaggiavamo insomma dentro la più bella Arcaglia arrivamo al paese di Sortino Antonino mi disse che doveva fare una breve sosta doveva andare a salutare un suo amico uno degli ultimi mielai della zona entrammo nella casa pianterreno del mielaio Blancato ci accomodamo nella grande cucina lì c'era la madre seduta su una sedia bassa una vecchia senza età ingoguita chiusa in lunghe donne in fazzoletti neri la faccia rugosa gli occhi persi un sorriso immobile altre due donne la moglie e la figlia di Blancato entravano e uscivano dall'Aftan Uccello e Blancato si misero a parlare di miele delle armi e di ferola dei torchi della raccolta del miele bianco a maggio di zagara d'arancio del miele scuro di agosto ad agosto di timo e di cera di coppe di pavini poi Blancato disse alla moglie di offrirci lo spirito di Vascitaro venne la donna con bantiera un po' di litiglia e picchieri si versò un liquido scuro denso era un distillato di miele un liquore che appena bevuto dava subito tono un senso di benessere mi dissero che il liquore non era in commercio veniva prodotto solo per l'uso familiare quando uscimmo dalla casa di Blancato il sole era ormai basso troppo tardi per raggiungere Pantavica viaggio in Sicilia è stato nel 1982 a Efficinia a Oreste a Pilade a Ancelle della Sacerdodessa d'Artemide quale disinganno quale altro dolore per voi che tanto avete tramato la patria lontana vauro mentre veleggiate felici verso la Grecia che venti e tempeste vi sospingono altrove che mai possiate vedere argo distrutto durante il vostro esilio ridotta a rovine a Barbara Terra più Barbara della favore che avete lasciato vi resti solo la parola la parola di Olifide a mantenere intatta nel ricordo quella vostra città fuggire indomani da Siracusa corsi veloce in macchina su quegli plei a rifare un viaggio che anni prima avevo fatto in compagnia di Antonino Uccello il mio amico scomparso giunti a Sottino e andai a ritrovare Mielaio Blancato non c'era più sua madre la vecchia rugosa e sorridente immobbere sopra la sedia gli disse che voleva andare a vedere Pantalica ma accompagnò allora da un vecchio pastore uno che aveva trascorso la vita con le pecore nelle vade di Pantalica che conosceva gola per gola conca per conca grotta per grotta Paolo Cartinteri si chiama il pastore che ora vecchio passa il suo tempo a intagliare il legno a fare cuori collari pastoni zucoli tutti decorati a motivi geometrici a foglie a foglie occhi soli arabeschi in taglia legno di papolare di gerson di gersonero di salicone mi ricordai di carpintieri per averne letto sul libro di uccello la civiltà del legno in Sicilia era il pastore che aveva orecchio per la musica dei campanacci che sapeva legare i lupi con giacuratori che sapeva curare le pecore dal male chiamato pirania diceva il pastore tra tutti questi di campagna è il più sensitivo più paziente più buono ecco il pastore o è dono di Dio o è per lo stesso mestiere che fa o è la sua stessa natura ha un po' di pazienza in più degli altri e quindi ogni cosa è così il mondo si fece così e così è sempre lasciò che a pintieri il suo banco di lavori sui legni e le sue sborbi e salì con me in macchina arrivammo a Fantalica ci arrampicammo sui bel sentieri di capre entrammo nelle tombe della necropoli nelle grosse abitazioni nei santuari scavati nelle ribide paredi della roccia il vecchio parlava sempre mi raccontava la sua vita la sua fanciullezza e giovinezza la guerra e la prigionia la sua vita di pastore in quei luoghi mi diceva di erbe d'animale dei serpenti dell'anapo e c'è un enorme serpente la pittina fantastico drago che pochi hanno visto che fascina in goia uomini asili, pecore, capre raccoglieva camminando stevi d'olivano e ne faceva mazzetti fermo sul bisolo sotto l'arco di una grotta nel taglio dell'ombra e del sole guardai questo vecchio la faccia nera e rugosa le grosse mani sugherose e mi sembrò che dopo millenni uscissi in quel momento alla luce dal fondo buio della protta arcaico estraneo remoto metatisico partì per sottino partì per comiso arrivai nel primo pomeriggio in questo paese che sembrava folgorato dal sole sembrava uno di quei gusci vuoti dorati di scala che da bambino in campagna trovavo attaccato ai tronchi dei tulivi deserti vicoli le strade le piazze solo nella piazza principale alla breve ombra di uno steccato di bacheche infisso con aste sul pavimento erano seduti dei vecchi non erano né svegli né dormienti stavano con le popoli in testa immobili gli occhi semi chiusi a bambinella stanno sempre così perché in Sicilia notte e giorno non dormono per paura di non svegliarsi più per non perdere col sonno il loro ormai breve tempo e leniscono la stanchezza dell'insonnia con questi occhi semi chiusi con questo riotturno mezzo sonno semi veglia questo perenne semi torpore un modo per allungare la vita per ritardare la morte dietro la fontana dove era una pinta di palazzi color rosa antico oroveggio era aperta soltanto il negozio del tabaccaio giornalaio libraio entrai allora in quella fresca confortevole caverna in quel bagno d'ombra ristoratore compro i giornali e chiedo al negoziante che mi scluda attentissimo se c'è un libro di storia un qualsiasi libro su comiso contento allora Gomo mi presenta un librone di quasi 500 pagine dal titolo Gomo su comiso viva lo spoglio e vedo che è una sorta di florileggio un'antologia di scritti dei figli più illustri della città scrittori pittori storici uomini politici persone di varie intellettualità l'introduzione è di un elegante scrittore che vive qui a promiso dice nella sua prossa ornata ahimè l'universo è una patria troppo grande e fredda per creature così precarie quali noi siamo un teatro smisurato dove i nostri gesti non trovano eco ne hanno suono le nostre parole il paese il paese viceversa ci restituisce la nostra misura di uomini dà un senso e una radice alla nostra persona ci giustifica ci garantisce non fosse altro una labide compro il libro ed esco vado veloce a quel piccolo aeroporto appena fuori paese dove si sta lavorando per l'installazione dei missili bruise anche la campagna è deserta i forti gallupi proiettano a terra un'ombra rotonda davanti al cancello dell'aeroporto c'è una scritta zona militare di vieto d'accesso scendo dalla macchina e sto là sotto il sole a guardare il muro alto di cinta gli ocuaditti scarmigliati dietro i due pilastri sormontati da sfere di cemento mi sembra di evaporare che il cervello dentro la sua teca d'ossa si dico e fitte e sublimi che i pensieri si dissolvano anneghino in una immobile incandescenza poi da via poco arrivano davanti al cancello enormi camion carichi di pietrane camion con dietro il grande pozzo rotante dell'impastatrice sono in i claxson si apre il cancello e la colonna entra nel campo d'aviazione una lapide ci garantisce il paese o un'ombra un'impercettibile macchia di unto su una parete su una pietra su un tronco d'albero incenerito non resterà di noi neanche una vuota dorata carcassa come quella della cicala scoppiata nella luce d'agosto non resterà compagna figlio o amico ricordo memoria libro parola comiso comiso è la materializzazione e nello stesso tempo il simbolo di tante altre paure l'estrema minaccia dopo un processo di sconfitte di distruzione di ogni tipo palesi e occulte la casa museo di palazzola crete è per questo la casa della nostra memoria e io mi chiedo sempre come abbia fatto un poeta come Antonino Uncello così giovane come era allora un uomo così solo e fragile ad avere la capacità di vedere sin dai primi accenni l'inizio della grande distruzione della grande trasformazione ad avere avuto tutta quella tenacia tutta quella forza a salvare tanti oggetti tante reliquie del nostro passato ad avere tanta simpatia tanto fascino da far diventare la costruzione della casa museo un fatto corale di contadini pastori artigiani donne studenti di palazzola un fatto corale come era una volta nei nostri paesi la costruzione della chiesa c'è un romanzo dello scrittore cupano Aleppo Carpentier dal titolo Los Passos Perdidos I Passi Perduti visinata di un musicista latinoamericano emigrato negli Stati Uniti che a un certo punto fugge da New York fugge dalla civilizzazione e raggiunge la foresta vergine del Venezuela percorre lo rinoco alla ricerca dell'arte primigenia della scaturigine della musica della parola prima della musica ma in questo viaggio favoloso il musicista ritrova la gioia d'amare e di creare ecco la nostra arpa primigenia un'arpa ionica o se volete lo zucchero del pastore Ibleo l'arpa della nostra cultura della nostra vera essenza umana non è dispersa nella foresta e ancora custodita nella casa museo da Antonino Uncello poveri noi se non sapremo riconoscerla se non sapremo vederla se non sapremo ascoltarla dopo questa pagina poeta che viene di un poeta con le ru non solo nei versi ma nella sua vita nel mio uccello mi sento rasserenato è in grado di dirvi fare qualche mia considerazione a quello che su quello che io a cui prima accennavo cioè qual è il significato di quello che noi possiamo giustamente dare a questo commegno grandi a coloro che l'hanno promosso perché credo che tra i musei di troppi o meglio che si faccia oggi in Italia e soprattutto in Sicilia sia qualche cosa di più e sia innanzitutto un atto di riconoscenza e di riparazione perché esiste nella religiosità civile degli uomini quali che siano le loro opinioni o le loro fedi la fede o l'ateismo sono sempre le fedi credo che ci siano dei momenti importanti che sono quelli di riparazione e quindi sono dei momenti felici in cui la serenità deve essere conquistata reprimendo le nostre emozioni io penso che questo convegno abbia avuto non è una lanteria ma credo che sia un doveroso riconoscimento abbia avuto inizio con la pubblicazione dell'autobiografia del frammento autobiografico la casa di Ivaro di Antonino Uccello curato da un mio scolario uno scolario di cui sono orgoglioso soprattutto perché nel pubblicare questo club è stato forse più che in qualsiasi altro suo lavoro misurato ed umile nei confronti di un uomo come un uccello sul quale è troppo facile e di cattivo gusto di ciò così facile di stotto diciamo in questo libro tutti abbiamo avuto sia pure attraverso uno strumento fondamentale come la bibliografia che lo chiude per la prima volta sia pure attraverso il nudo elenco dei chittori come dire la nozione dell'amore enorme di lavoro che quest'uomo in una vita non giunta difficile ricca solo della sua volontà e del suo amore immenso della Sicilia ha avuto modo di accumulare io presentai questo libro con delle parole che non voglio ripetere perché siamo in un momento ormai di superamento con i fatti di tutte le ingiustizie di tutte le offese che la cattiva sfida quella che ne maniamo ha recato Antonio Nuccello ma poiché oggi ci ritroviamo qui tutti insieme in questo atto di riparazione non è il caso di parlare cioè mettiamo alle spalle io parlavo di uccello con la cautela che è dovevo per un uomo di cultura quando si occupa di cose di cui non ha certamente un'esperienza personale in cui può essere al massimo un dilettante come io sono di etnologia ma io ho adoperato la parola dilettante nel senso in cui la ho adoperato niente meno che Santana il quale adoperava anche la parola amatore e mentre la prima può avere delle connotazioni negative la seconda non è reato ma io non adopero mai questa parola senza ricordare quello che diceva un grande maestro del marxismo italiano Antonio Pabrioli che solo i dilettanti che le volte scoprono la verità a fatto però che siano dei dilettanti di un vino e tal è stato a la mia la mia la frequenza poi in questi ultimi mesi con l'opera di Santana mi permette di adoperare queste parole per un uomo il quale si è occupato come sappiamo bene di musica di arti figurativi e di letteratura da dilettante e ha detto delle cose genialissime quindi la parola non può avere una connotazione negativa quando noi andiamo a rileggere questo frammento autobiografico poi vediamo che è così cremetto di cose ma vediamo innanzitutto che è l'autobiografia di un intellettuale che se sul piano della cultura accademica dei titoli accademici dei poveri nostri titoli accademici era un maestro diventare aveva però qualche cosa di molto importante era un intellettuale che non era andato al poco come è capitato a tanti di noi e anche a chi li parla ma veniva dal poco era un intellettuale questo bisogna ricordarlo perché è un elemento essenziale della personalità di un cielo cioè era un uomo di quelli che Gramsci chiamava intellettuali organici cioè che crescono organicamente dalla e nella loro classe sociale e non dimenticano che è per loro motivo di affoglio di dignità di nobiltà di fierezza un intellettuale che non aveva mai deciso le sue radici di classe e che le aveva ritrovati come emigrante uno dei tanti nostri emigranti anch'io sono meridionale in una terra che come Tospini che oltre che a essere famosa per i terremoti è anche famosa per l'altissimo nore degli emigranti oltre che l'identità e di tante altre cose che abbiamo in conto e c'è questo perché il problema dei legami con le radici e con le radici di classe è molto importante è così facile invorghesirsi così direi quasi ormai naturale vergognarsi della propria classe di origine e invece io credo che quale che sia questa nostra classe di origine siccome è la nostra radice non può essere rinnegata anche se noi abbiamo il dovere di approfondire tutti quegli elementi culturali che ci fanno superare i limiti della nostra classe e diventare uomini a un livello più alto in Brianda insieme con la sua compagna che non ci stancheremo mai di ricordare perché è stata un elemento essenziale penso alla vita poetica e alla vita di amore che ha realizzato lì questo emigrante frequentava ogni seda gli altri emigranti siciliani accanto agli intellettuali si è più di classi molto elevato che erano andati al popolo come il mio amico trecani e questo è il motivo di amore l'uomo come lui la frequenza di questi uomini è stata molto importante perché è stata la possibilità di acquistare quella consapevolezza culturale che rafforza le radici di classe che dà alla nostra appartenenza a una classe sociale quella necessaria consapevolezza quella coscienza senza la quale non si può costruire una nuova società che cosa nelle nebbie della violenza egli sentiva di di aversi apure temporaneamente perduto innanzitutto gli oggetti della sua città quegli oggetti che lui aveva visto quasi simbolicamente come il segno di qualche cosa che crollava qualche cosa che spariva essere sostituiti da altri oggetti e che per lui erano diventati come dire la ragione della sua vita perché egli poeticamente vedeva in questi oggetti qualche cosa di troppo più importante perché legati a tutta una civiltà antichissima autentica unica per cui si può parlare in una civiltà siciliana e questo fatto non era separabile dal fatto che lui scrivesse versi dal fatto che lui fosse interessato al po' che vuol dire appunto fare poesia con i versi come è un po' legno la costruzione di un oggetto come è il fare del padre dell'homo padre e gli oggetti siano essi versi dure superi musiche per una barca per un cassetto omato un arano uno scialle sono un lavoro sulla materia specifica e solo se noi siamo interessati a tutto il processo produttivo nel suo contesto nella totalità del suo contesto noi possiamo veramente dire di amare e conoscere questo oggetto nella sua storica genesi nella sua destinazione nel fatto cioè che non solo conta l'oggetto il suo uso ma innanzitutto chi lo ha fatto come lo ha fatto eccetera eccetera quelle considerazioni molto acute che ha fatto giusto migranno si possono estendere a tutti gli oggetti di cui si è interessato con una curiosità di amatore che è veramente di tipo sandaliano anche se il sandal era un borghese e un ucce quando lui parla del suocero che era Mazzaro dei viaggi che lui faceva invece di trovare questi oggetti dice una cosa a un certo punto molto interessante la presenza di un Mazzaro come il mio suocero scioglieva ogni impaccio e la conversazione si snodava per ore sicché ogni oggetto veniva caricato di notizie significati storie vicende la vita no? fluire della vita ma il fluire della vita che era legata al lavoro su questo parato e sono cose fondamentale per capire questo particolare tipo di amatore quest'uomo che ha vissuto poeticamente tutto quello che ha fatto e restituire al soggetto che studia decretti la sua integrità di un uomo che non è recuperabile al di fuori della classe sociale nella quale egli si compie la verità è che l'amore per questi oggetti era spaziano talmente che noi possiamo andare dai casi vinti gli artisti che possono sembrare come appiccamente ha detto il grano così pensare da lui fino a cose che noi possiamo indicare esteticamente orribilanti come dei pastori di plastica e che lui ha avuto l'amore veramente straordinario è come credo dare un bacio a un ebrovo una persona che sia come dire malata di estetismo che come ci può essere di più immondo diciamo noi che siamo malati di estetismo ma lui non aveva questa malattia dell'estetismo che è una malattia essenzialmente bruttissima perché in quel quello ma io non mi ritrovi a voi dicevo anche in presepe di plastica come tante altre cose incredibili in cui lui vedeva la rapida possibilità di scomparire in questa storia così turbinosa e così veloce del nostro tempo in cui gli oggetti si sostituiscono agli oggetti e non si fa in tempo ancora dicevo questi oggetti che nella vita contemporanea vengono sempre più continuati sempre più velocemente sostituiti da altri oggetti più perfetti più straordinari meravigliosi va bene che ci che ci elettrizzano e ci insumanizzano contemporaneamente sempre di più e che sono la nostra dannazione di uomini moderni in questo terribile e grandissimo secolo XXI di cui siamo i testimoni martiri e oscuri eroi probabilmente gli uomini futuri si maraviglieranno noi abbiamo saputo sopportare tante cose bene purtroppo fra queste cose poetiche che ha creato e che ha vissuto Antonino uccello qualche cosa noi abbiamo irrimediabilmente per lui ed era il modo come lui faceva rivivere ai visitatori la casa in te la cosiddetta casa in te soprattutto il fatto che lui aveva avuto questa straordinaria capacità veramente di maestro maestro si può essere sempre a tutti direi ed è una delle cose maestro anche ad insegnare come si può fare da lui una cosa che tutti potevano imparare e che tanti avevano imparato insieme lui oppure a mettere insieme questa casa museo che non è stata messa insieme lo dice lui non è stata perché sembra addirittura che sia opera magica di lui solo non è te lo dice lui innanzitutto l'amore ma lui ricorda la zia lui ricorda tutti coloro i quali hanno collaborato con lui e quindi ha praticato questa come dire questa collaborazione questa scuola va bene nel creare questa cosa meravigliosa di cui ovviamente l'elemento straordinario era rappresentato dal suo amore e dalla sua capacità di comunicare questo amore per gli oggetti a tutti quelli i quali avessero anche la sola occasione di poterlo contemplare e di poter stare lì a tariari come diceva un vecchio che ci ritornava continuamente e come dicevamo tutti noi visitatori quando tutti e ho visto le testimonianze a cui posso aggiungere la mia sperando che non mi ricomuori quando ho ritrovato in questa casa oggetti nella mia infanzia quel bellissimo strumento che copriva il braciere e che serviva per asciugare i panni ecco tutti abbiamo riconosciuto in questa casa la nostra casa perché è chiaro che è la casa in cui ci sono questi elementi di universalità e questo è un fatto di ricettiva perché è legato a quel mondo in cui lui aveva organizzato questo non museo ma casa vivente della grande civiltà della loro siciliano e il fatto che lui ricordi alcuni illustri visitatori ma non di me i visitatori che firmavano con la crocezza perché era un alfabeto mi dice che in lui c'era questa istanza profondamente umanistica che la sua cultura aveva erupato aveva sublimato proprio perché aveva il fondamento della classe sociale proveniente ecco io penso che noi da questo convegno attraverso tanti contributi e io mi dico che non ho ascoltato il film di stamattina ma potrò leggerli in cui tutti siamo venuti con desiderio di imparare qualche cosa che non conoscevamo proprio per avere questa visione globale nella sua attività quando questo convegno sarà finito quando saranno pubblicati gli altri noi avremo altri elementi per tracciare una biografia intellettuale e sarà certamente una biografia di altissimo interesse perché è certamente un intellettuale sui generi uno di questi intellettuali meridionali su cui si è permesso di realizzare l'avvocato Agnelli in una intervista bellissima avremo il rinuncio di non contrapporse sul e nord per il rispetto che abbiamo a tutti quei lavoratori soprattutto meridionali che sono lì a Torino in grado a costruire tutta la civiltà italiana non sostanzialmente della siciliana e la civiltà europea che speriamo di vivere ancora di uno per poter veramente considerare l'unico ecco io non vorrei togliervi ancora molto tempo penso che avrete un po' stanzi però io penso che noi l'esempio dell'amico Cailla dobbiamo anche se ci è permesso dare qualche succedimento per continuare questa opera di riconoscenza e di riparazione e innanzitutto la ristampa di questo volume che spero qualche grande fase di trice siciliana e non ne mancano vorrà ristampare perché è certamente un modo di riparare un modo di ripararsi con un po' di lucella ecco quando io penso alla sua vita penso alla citazione che lui ha fatto una citazione da un'indicazione di un bar di uno di il tema tempo giusto con amore ecco questo è stato il tempo della vita di altri di ecco noi riconosciamo in lui uno dei tanti siciliani che crescono dopo la loro morte nella stima nella migliorazione nella considerazione di quelli che sono cattivi di quei grandi siciliani che hanno fatto conoscere quella che è la grande Sicilia la Sicilia barba la Sicilia è lavoro quel lavoro che in tutti gli oggetti anche nel paesaggio anche in questo meraviglioso paesaggio qui che abbiamo a facettare la volta in ogni altra c'è il lavoro siciliano questa Sicilia di cui anch'io con la cosa e che mi ha fatto le più grandi le più più nature le più semplici le più vive esperienze questa Sicilia che io riconosco nei visi di tanti uomini come quel pastore che ci hai parlato in questo senso di vedere più spontaneo sono i siciliani gli altri sono i siciliani che amiamo sono i siciliani che contribuono a sconfiggere tutto ciò che ci minaccia da lontano e da ucino a comito per in altri posti del mondo a sconfiggere le forze mega liber e a partionfare le forze sane della società le forze della costruzione e le forze della vita quelle che amano a sconfiggere con questo intervento del professore Carlo Muscetta termine questa prima giornata del compegno sull'opera di Andorino Uccello i lavori della seconda giornata avranno inizio domani mattina alle ore 9.30 a Palazzola Avere ringraziamo tutti gli intervenuti e vi facciamo in particolare tutti i relatori grazie e vi facciamo in particolare grazie del confezio dedicato all'opera di Andorino Uccello ieri si è portata la buona giornata carica di tutti i dati il posto dell'affare è stato trattato in prevalenza ma non esistimamente l'attività della regione di Andorino di Andorino che ci è parte di scusste di annorino che ci sono dell'attività di Armonino che si ritenesse alla tua attività in carattere Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. di tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... e tutti. e tutti. e... e tutti. e... e... e tutti. e... e tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e... 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 ... e... e... ... e... e... ... e... ... 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 tocai un affettuoso tranello, che lui indubbiamente scopri subito. Alzai, per così dire, la tenuta di quel discorsetto contenuto, sia pure breve, fino a spingere la civiltà contadina a quella dimensione omerica, non biblica per rispetto alla sua visione religiosamente marxistica, scuserei dire, c'è una religiosità nel laico che è invidiabile da parte invece di certa parte religiosa che il religioso può avere soltanto la professione. E quindi vado fino a Omero, la civiltà contadina, perciò tutt'altro che folcloristica e subalterna, mi sembrava, anzi, quella dominante e predominante storicamente, come la civiltà più ricca umanamente di espressioni. Cominciavo con Ulisse, che di fronte ai proci si vanta, badate, questo che già, secondo il suo mito, era stato obiettore di coscienza, si era finto pazzo e arando nudo, ma Esiodo dice che aravano nudi, anzi consigliava che si arasse nudi. Quanti i nostri siciliani, omericamente, nella prima guerra mondiale, perdevano i venerdì, naturalmente, o fingevano, si fingevano pazzi. Quest'uomo, perciò, non si vanta, Ulisse, di fronte ai proci, perché guerriero, non vanta, perciò, il suo ingegno, la sua astuzia, si vanta come contadini. Dice, se voi volete, domani, all'alto, vi mostrerò con la mia falce ricurva come si fa a mettere erba, vero nei pra, oppure prendiamo l'aratro e vi mostro come si tracciano solchi diritti. Ricordo che i nostri padri erano orgogliosi di questo solco diritti, mentre noi giovincelli facevamo scorsone. No, che non era questione di polso, era questione di stile, di tecnica, di questo orgoglio vero ala Ulisse, poesio e via dicendo, questa grande civiltà che arriva fino a Leopardi, al Verga, quindi tutt'altro da restringere nel concettuccio, ad uso folcloristico o ad uso ideologico della cultura subalterna, perlomeno chiamiamola cultura popolare. D'altra parte, sempre con Antonino, che mi portò in uno di questi peregrinaggi per i Monti Iblei, fra l'altro ci si fermò, poi a Sortino, dove si assaggiava l'infuso distillato di miele. Facceva queste distinzioni preziose e conobbila anche un grande puparo, Ignazio Puglisi, che poi è venuto qui. Ebbene, dicevo che, ecco scusate, dicevo che in fondo questa civiltà, questa civiltà contadina, io neanche la vedevo come capace di esaurire l'uomo, ecco permettendomi un richiamo biblico, però senza concedere granché alle sacristie, che altrimenti avrei irritato l'amico, ma anche me stesso, perché grazie a Dio non mi sono formato nelle sacristie, ma così, un po' in questi aranceti, insomma, tra questa gente, maestra, anche se mi analfabeta, è capace perciò di una biblicità diversa da quella di tipo ecclesiastico. Ora, nella Genesi c'è una civiltà, c'è una civiltà di pastori che appena appena passa, una vele, che sì, dovette essere per l'innocenza, ma potrà essere come uno dei nostri caprai, terribilissimi, o come un cowboy alla maniera americana, o certi terribilissimi pastori sardi, il padre padrone, e invece il Caino che subisce, e via dicendo, quindi, ma io penso che in fondo Abele sia stato lo stesso Caino. Ricordo che Antonino piacque questa cosa. si tratta di civiltà, l'uomo che in qualche modo uccide il se stesso precedente. Come Caino, leggendolo anche con una certa psicologia del profondo, che poi diventa fondatore di città, pensate, e industrialotto, insomma, si dà anche alla metallurgia, forse, ecco, Caino poi verrà ucciso dall'operaio. Quindi è lo stesso, l'uomo è qualcosa di più del suo essere pastore, del suo essere contadino, o del suo essere operario. Non blocchiamo. Nelle scuole medievali dicevano omo o dammo domina est, l'uomo è in qualche modo tutte le cose. E Antonino, questa cosmicità o microcosmicità umana, l'accettava. Anzi, lui stesso poi spiegava che la casa, museo, cioè quello che lui tentava di, come dire, di ricostruire, era questa immagine direi cosmica, nel senso qui ellenico, greco-mediterraneo, cioè dell'uomo che pone, se volete, il suo limite, il limite ordinato, la sua misura, in contrapposizione allo scatenarsi è quasi caotico e io ho ascoltato e ho sentito che c'è questo che stava usato nelle varie vero relazioni. Ecco, così, fronteggiare perché nel limite, nella sua misura, l'umanità si esprime. Appunto dico che l'arte non è in contrasto, certamente, con una certa scientificità. Cercava senz'altro di vincere una prova come uomo, non come contadino intellettuale o sentimentale o romantico, che possono essere espressioni di tutte. Era soprattutto in lui la misura di umanità. Ecco, quello che poi mi impressionò, scusate, ho preso qualche appunto qui, era anche il suo rapporto con le cose, con gli oggetti, questo cacciarsi dentro, questa relazione che stabiliva, cioè il voler abitare l'oggetto, ma non l'oggetto in sé, ma i significati di umanità, di civiltà, di arte, umile o grande, dell'oggetto stesso. Cosa che gli altri antropologi, intubbiamente, non hanno fatto anche perché avrebbero dovuto in qualche modo rompere determinati equilibri di carattere o metodologico, o comunque anche quella specie di ipoteca per cui la scienza, io l'ho sentito in qualche relazione, e perfino l'Onigro, se permette l'Onigro, il professor Onigro si è macchiato un po' di questa ipoteca che si sconta e che gli aspetti umani, sentimentali, affettivi, possano in qualche modo turbare la scientificità che invece ha da essere, come dire, di sta. E Lombardi Satriani, del cui ingegno per carità io sono uno degli stimatori, stamani però mi infilava appena appena, sono sfumature che si capisce la preoccupazione dello studioso quasi che il sentimento turbasse, però quella che è in fondo la doverosa scientificità asciutta, quasi arida, quasi che alla maniera di eracrito, l'essere veramente aridi consenta ancora una maggiore obiettività. E parlava, a proposito dei canti del carcere, come ci fosse a volte un'aggettivazione, come dire, un po', un po' mi pare che abbia espressionistica, che è liquidatoria rispetto invece il rapporto scientifico che può tranquillamente stabilirsi, anche se c'è l'irruzione del luogo, anche se sotto le tessere della migliore ideologia o della migliore politica, palpita il cuore. Il cuore non è nemico della scienza. Purtroppo qui ancora una volta dobbiamo fare i conti con il nostro stregone teutonico Hegel, che nella stessa opera citata, nella fenologia dello spirito, squalifica le ragioni del cuore, la cosiddetta coscienza infelice. Si diverte, si accanisce da tedesco, che certamente non ha la discrezione ironica e melanconicissima, anche se asciuttamente elegante di un Voltaire, ma carica coi carroarmati, direi, pesantemente, il cuore squalificato, a tal punto che i francesi poi finiranno col dire che la buona letteratura, figuriamoci la scienza, si fa coi cattivi sentimenti. I grandi geni della poesia se ne sono infischiati di questo. Hanno battuto trionfalmente la strada dei sentimenti buoni, anche delle lacrime e via dicendo. Non hanno avuto paura delle ragioni del cuore. Però, ecco, purtroppo si pagano certe ipoteche filosofiche, ipoteche culturali. In realtà, ecco, Antonino Uncello, in virtù forse dei suoi istinti di vita. E direi, il suo talento reale di ricercatore non teneva conto di questo, procedeva, quindi abita la Casa Museo. Un'altra impressione, e credo che possa concludere, anzi, era quella che veniva, perlomeno a me, nel suo rapporto con le ideologie, con le culture. Stamani ho sentito un ricamo prezioso, impressionante, del professor Francesco Faeta. Un'introduzione che mi ha letteralmente incantato. Poi ho cominciato a vedere questi giochi pirotecnici delle culture. Per cui a un certo punto si aveva l'impressione, questo lo dico scherzosamente, che un Antonino Uncello fosse quasi una marionetta con tutti questi fili, per cui spostando una statuina faceva capo, non so, a Levi-Strauss. Spostando un altro, un braccio a sinistra, c'era Rudolfo. Di là, invece, noi abbiamo, che so, una lettera, tra Vittorini, o che so io, o Guttuso. In realtà, Antonino Uncello era sanamente, sanamente autonomo. E le culture, e lo stesso marxismo in lui, erano strumenti di espressione. Non credo, come non credo che forse in nessun marxista sia sostanziale, come è invece una sua realtà umana. E guai se fosse così. Mars sarebbe il primo a sconfessare, perché anche lui, mentre era persuaso della strumentalità di ciò delle idee stesse che offriva, strumenti di spiegazione. Ma guai ad avere queste idee come se dovessero esaurire il reale. Engels, che fornisce quelle lettere che poi i nostri, i nostri Galvano del Volpe, d'altro, hanno preso tanto, dommaticamente, anche lo stesso Lukas, no? Questo genio di un certo pensiero estetico, tuttavia, però, chiuso, scusate, dommaticamente, rispetto, invece, alla discrezione, al controllo, all'autocontrollo, la capacità autocritica di un Engels. Quando scrive a Mrs. Arkness, questa romanziera tedesca, dice, cara signorina, si guardi, ecco, si guardi bene intanto dallo scrivere romanzia tesi, ma poi, più o meno, ha un'espressione di questo genere. Guardi che le idee, quanto più sono, come dire, nascoste, nascoste non nel senso che bisogna averle impegno, è proprio quanto più sono dimenticate, tanto meglio è per l'arte. Anzi, cara signorina, le dico una cosa, che molta arte, per lui, realistica, si attua anche a dispetto delle idee dell'autore. Portava l'esempio di Balzac. Quindi, se Engels, padre fondatore di una certa concezione, anche estetica, del mondo, ci dice che bisogna stare attenti alle idee, superfodire che lui, come Marx, erano attentissimi a buttarsi nelle proprie idee, domaticamente, e credo che questa raccomandazione valga per tutti. Antonino Uncielo si può dire che la raccogliesse istintivamente per quella capacità critica che è in fondo dell'uomo, il quale trae altrove i lunghi. Insomma, l'idea, il suo marxismo di tipo gramsciano, perciò umanistico, Gramsci, nel suo intelligentissimo geniale, candore, filosofico, ci restituisce, il lettore di Croce, ci restituisce che cosa? Ma un marxismo molto umanistico, che confida anche nella rivoluzione culturale. Il fondo è molto, molto, molto vicino, per così dire, anche a quella che è una certa impostazione un po' letteraria, o comunque umanistica del mondo. Antonino Uncielo, perciò, si serviva, aveva presente, soffriva. Questo è un punto che mi pare, anche nella presentazione, persino, nel giornale, mi pare di avere notato, è stata letta. Lui forse, insomma, in questo convegno avrebbe notato che, con quel suo sorriso tra amaro e affettosamente ironico, e che c'è, insomma, che si trascura che lui ebbe a soffrire per il fatto che una certa cultura ufficiale, accademica, burocratica, ecco, lo aveva un po', come dire, estraneato, ma questa è la prova, in fondo, della sua irriducibilità a certi contesti ideologici, se questi contesti non si risolvono in strumentalità, in metodo di lavoro, e invece presumono di essere concetti assoluti risolutori del reale. Ecco, qui, anzi, bisogna forse, mi pare, e in questa mia testimonianza rispetto, ripeto, di affetto verso di lui, credo di doverlo ricordare, bisogna rispettare una sua capacità di essere al di là della gestione ideologica, della gestione culturale, accademica, ufficiale. C'è vederlo in fondo come capace di suggerire una scientificità che supera le nostre stesse spiegazioni. Infatti, e qui io concludo, proprio quel mondo degli affetti, quell'andare cercando gli elementi di un'autobiografia familiare, ma di una famiglia che era tutta l'umanità. Anche se qui era il luogo, un'altra delle cose che lo facevano soffrire era questo considerarlo limitato al luogo invece di capire che un certo mistero significato del luogo può garantire una universalità maggiore che non la città poi sentisse europee queste vaporose generalizzazioni di una certa cultura incapace di capire che storicamente certi luoghi hanno garantito il massimo di universalità. Forziamo ad esempio in poesia, se volete, di Leopardi, legatissimo al borgo selvaggio, odiato, amato. Ma proprio in virtù di queste gallinelle, in virtù di questi tramonti della donzelletta, ha una cosmicità universalità superiore a quella di un dannunzio o di altri che invece furoreggiavano e così giganteggiavano intercettando tutta l'Europa, ma che non avevano questo momento, questo senso, questa dimensione profonda di umanità e di universalità reale. Quindi a cani, cattini, bagno, a palazzola, a creiti, in qualunque di questi nostri paesi, queste cittadine là tra le pietre, il mio cognato stamattina dice ma qui il padre eterno ha seminato pietre, come può l'uomo competere con questi massi lanciati dal cielo? Ora, in un paese, direi un uomo, un pastore solitare, bisogna sapere scoprire l'universalità poetica, scientifica, la cosmicità, altrimenti la cultura, beh questa volta possiamo farlo anche dire a Hegel perché lui che cosa non abbia detto questo tedescone, dice diventa la follia, diventa essa stessa la vera alienazione, la sostanziale alienazione, se si perde il segno dell'uomo. L'uomo al di fuori, perciò di queste categorie, certamente la subalternità, la egemonicità vanno bene fino a quando si riferiscono a condizioni sociali, ma guai se si coinvolgo, questa era in polemica, appunto se si coinvolge l'esistenza stessa del luogo, non solo l'Engels è citato, ma perfino Stalin, cheppure certamente non aveva molte finezze teoretiche, ma quando alcuni giovani sulla Praveda gli chiedono se il linguaggio, la lingua, dovesse intendersi come sopra la struttura della base, cosa che i nostri Pasolini, tutti questi, certamente credevano, lui rispose no, in fondo la lingua, anche se la base zarista è caduta e ci troviamo in una base diversa, sovrastrutture diverse, carattere politico e via dicendo, però ecco, si continua a capirci, la lingua russa è questa, le tradizioni possono restare, nessuno le chiama subalterne, ecco, uno si gode anche quelle parti folcloristiche, quindi c'è un ponte che va al di là delle culture, al di là delle civiltà, se volete, questo ponte è nell'essere uomo, ed è anche nell'avere quella capacità di affetto, di amore, senza anche scomodare, che so io, le Bibbie, perché le Bibbie o si hanno dentro di noi, oppure è inutile cercarle. E allora, anche l'Antonino uccello poeta, questo che viveva un po' come quel contadinello, e Lombardi Satriani e altri amici antropologi ne hanno certamente fatto un uso significativo, quel contadinello di una delle parità morali, anzi un racconto in fondo alle parità morali, di Serafino amabile Guastella, questo contadinello che al Gesù che un giorno passava, sapete quanti di questi evangeli apocrifi abbiamo noi nella tradizione popolare, a un certo punto, angariato com'era dal principe, eccetera, dal cavalieri, chiede come capacità, e Gesù Cristo anzi glielo dice, come capacità di liberarsi, di affermarsi, di ottenere quello che gli era stato tolto, di essere il poeta. Ecco qui il poeta, il poeta Antonino uccello, in fondo mi pare che possa intanto dirci una verità superiore forse a quella che ci sembra ancorata la stessa sua capacità di ricercatore, cioè una verità che è la stessa scientifica, insomma una volta tanto il poeta, l'uomo anticipa qualcosa che è della scienza di domani. Grazie di domenica non abbia portato qui questa sera ragione di polemica anche vivace, io credo che l'occasione per la quale siamo qui non ci consente di polemizzare sui tedesconi, pare però che Furtanto Pasqualino abbia qualche cosa contro i tedeschi, perché in fondo Marx si era tedesco, è inglesi era tedesco, però Faeta e Luigi Lombardi, i tedeschi non sono, e dunque questa è una cosa sulla quale probabilmente non mancherà, dicevo, occasione di ritornare in altro convegno, in altri incontri, anche per non turbare questa serena atmosfera che ci vede qui tutti insieme, essenzialmente per celebrare un uomo, uno studioso, il quale come giustamente ha detto Fortunato Pasqualino non pensava ai tedeschi, ma pensava ai suoi contedini, pensava alla sua gente e per la sua gente ha lavorato e ha sofferto. Do la parola a Sebastiano Burgaretta adesso che riferirà sul cello e la sua gente una storia di crescita culturale. Il titolo di questo mio modesto intervento potrebbe ad un primo approccio sembrare pretenzioso e devo per la verità precisare che pur avendo avuto sin dall'inizio chiaro l'argomento di questa mia comunicazione, ho tuttavia affaticato non poco a trovare un titolo che da una parte fosse chiaro e fedele all'intenzione mia, ma soprattutto ai termini della realtà da trattare e che dall'altra non apparisse come una forzatura nella lettura dell'opera e delle eredità lasciate da Antonino Uccello. Essendo vissuto e formatomi nell'ambiente in senso lato in cui egli operò, ho creduto opportuno in questa circostanza abbottare un tentativo di analisi del rapporto che Uccello ebbe con la sua gente per cercare di vedere quanto di valido sia venuto fuori da questo rapporto e se qualcosa sia rimasto di esso dopo la morte di lui, se questo rapporto sia stato unilaterale o abbia trovato e quale rispondenza. Ciò mi sembra utile sia per evitare che in questa sede da parte mia si cada nel celebrare semplicemente e quindi nel rischio, sempre in agguato in simili casi, di santificare e forse conseguentemente mummificare un pochino anche la figura e l'opera di Uccello, sia per rendere, almeno intenzionalmente, un servizio alle idee e alla volontà di lui che furono sempre determinate al rispetto e al proposito di valorizzazione della vita e dei fermenti culturali dei piccoli centri, per rendere un omaggio, cioè alla dimensione della cosiddetta microstoria cui egli dedicò la sua vita. Chi ha conosciuto lui e ha presente la sua opera, sai infatti, quanto egli si battesse per lo studio e la valorizzazione appunto della cultura popolare di ogni sia pur piccolo paese della Sicilia. Si può dire che tutta la sua vita fu votata, con le varie iniziative, a quest'opera che, con termine mutuato dal linguaggio stereotipato degli ambienti culturali e politici ufficiali, potrebbe essere definita di decentramento culturale, ma che in lui non si configurò mai così. Essendo rovesciata rispetto alla consuetudine generale, la prospettiva dalla quale egli guardava agli aspetti della cultura popolare. E qui è necessario un po' fare riferimento alla genesi e alla fisionomia della formazione culturale di uccello, cosa che per la verità è stata fatta da alcuni relatori. In lui, infatti, la cultura popolare non fu mai un punto d'arrivo, una meta culturale cui fosse pervenuto dietro alla spinta di stimoli esterni. In lui la cultura popolare fosse mai un punto di partenza, o meglio, fu la dimensione nella quale visse sempre in un continuo processo di approfondimento. Ciò viene fuori dallo stile della sua vita, dalla la sua metodologia di studio, dalla sua opera, ma soprattutto viene fuori da un'esplicita dichiarazione di lui quando, ad apertura del libro La civiltà del legno in Sicilia, scrive quelle parole che coloro che hanno curato il convegno, ed è stato puntualizzato anche questo, hanno scelto come epigrofe nel programma, per cui vi evito la lettura di questo brano che avete sentito tre o quattro volte. La sua estrazione sociale gli permise sempre di guardare dall'interno ai fenomeni culturali della civiltà contadina. Del resto, bastava osservarlo o ascoltarlo nella Casa Museo, quando guidava i visitatori e illustrava i pezzi delle collezioni, per capire che quegli oggetti gli appartenevano, ed erano tante sue creature che conosceva in ogni sfumatura e in tutte le pieghe della loro storia. E fino all'ultimo si rammaricava di aver incontrato spesso, negli anni Sessanta specialmente, giovani che, attratti e alienati dalle manifestazioni consumistiche piccoloborghesi degli effetti del boom economico di quegli anni, si vergognavano delle loro origini contadine e rifiutavano il loro retroterra culturale di appartenenza, disorientati come erano alla ricerca di una diversa quanto improbabile identità culturale nuova. Questa sua origine contadina, la sua qualità di poeta, l'approfondimento culturale in termini teorici del mondo di appartenenza, iniziato in Lombardia negli anni Quaranta e Cinquanta, a contatto con ambienti, uomini e artisti di primo piano, quasi tutti legati per origine o per scelte politiche e culturali al Sud e ai suoi problemi, gli consentirono, dietro la spinta anche della lettura del pensiero di Gramsci e dell'informazione che tale pensiero dava in quegli anni alla cultura italiana di acquisire una chiave di lettura degli aspetti della cultura popolare e un metodo di ricerca che allora erano nuovi, ma che in seguito l'eredità di Ernesto De Martino da una parte e l'influenza della scuola francese di L'Esannau recepita anche in Italia e applicata agli studi di antropologia dall'altra, sarebbero stati comunemente accettati e impiegati nel campo della ricerca degli studi etnoantropologici fino ancora ai nostri giorni. A queste linee informatrici, Uccello ispirò tutta la sua opera di uomo di cultura e di cittadino. Ad esse fece riferimento la sua attività di operatore culturale. Ad esse rispondeva il rapporto che egli ebbe con la gente di Sicilia e con quella dell'area Iblea particolarmente. Venendo al tema specifico dell'intervento, mi pare che nell'opera tutta di Uccello si possano grossomodo individuare almeno quattro momenti nei quali sia possibile tentare di decifrare i termini del rapporto di crescita culturale intercorso tra lui e la sua gente. Un rapporto che fu sempre bilaterale e perciò fecondo per le due parti. A parte la produzione poetica della quale questo convegno si è occupato ieri e particolarmente, a mio avviso, quel documento di prosa d'arte rotante attorno ad antiche memorie di Sicilia Acheia e Aniattini, questi momenti sono il rapporto diretto con le persone nell'ambito delle ricerche sul campo e degli studi, l'opera di collaborazione dei palazzolesi e di altri alla costituzione della Casa Museo, il contributo politico che Uccello diede direttamente come consigliere comunale, la rete infine di giovani collaboratori che riuscì a mettere su. Vediamo ora come si configurano al loro interno questi quattro momenti, cominciando da quello relativo alle indagini sul campo. A parte le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto e hanno collaborato con lui, qui sono di vale d'aiuto le sue stesse ricerche e i suoi studi. Egli stabiliva e manteneva con le persone che incontrava e intervistava un rapporto umano che andava al di là dell'occasione di studio e dell'operazione momentanea di informazione demologica. Gli stesso ha lasciato scritto «Questi uomini sono a volte miei vicini di casa, amici, semplici conoscenti, congiunti o anche estranei. Se dello stesso Paese mi riconoscono per il soprannome di mio padre o di mia madre, seguendo nella topografia della memoria una specie di albero genealogico o delle aggrovigliate di romazione di parentela e comparatico che costituiscono un vero e proprio clan». Il rapporto umano che riusciva a stabilire con le persone del popolo spianava a lui il terreno dalle tipiche difficoltà che generalmente complicano i lavori della ricerca sul campo e consentiva agli informatori di superare le altrettanto tipiche diffidenze di simili circostanze. I suoi compaesani, infatti, che furono tra i primi suoi informatori, si trovavano a parlare non con un estraneo ma con uno di loro, col figlio di Nano Racciana e di Rusuliala Nuna, questi erano i soprannomi del padre e della madre di Antonino Uccello, col quale perciò i compaesani si aprivano e si confidavano con naturalezza. Per questo, scrive ancora lui, «le mie inchieste non hanno avuto schemi e questionari, o meglio, li hanno avuto sì, ma come semplice indicazione, che però si sono spesso infrante contro l'imprevedibile articolazione della realtà. E il filo del questionario, una volta dipanato, se rotto, riannodato, disperso, è ancora ripreso il suo fragile cammino. Uomini e donne incontrati, una volta allacciato il rapporto con lui, non lo rompevano più, lo coltivavano, anzi, col passare degli anni. Egli tornava a trovare queste persone ripetutamente. Stava con loro, mangiava, dialogava con loro e, come hanno testimoniato alcuni relatori, portava anche degli amici intellettuali in casa di queste persone. Durante gli incontri le aiutava, con i suoi discorsi continui e simpatici, mai noiosi per quanto lunghi, a conoscere meglio a se stesse, i loro valori culturali, il loro stesso lavoro. E spesso da questi incontri d'amicizia bocciavano fiori di consapevole coscienza civile e politica. Basta scorrere anche velocemente i nomi di alcuni di questi suoi informatori. Valgano per tutti quelli del potatore palazzolese Paolo Leone, da lui definito il poeta degli uccelli per le sue doti di scultore, e di Giuseppe Blancato, che è stato ricordato anche qui da alcuni relatori, apicoltore sortinese dallo spirito vivace ed energico. Nel corso delle mie ricerche mi è capitato di contattare persone che hanno collaborato con lui e in tutte ho riscontrato, pur dopo anni, l'incidenza di questo rapporto e della consuetudine di amicizia e di crescita avuta con Uccello. Dal rapporto con lui e dalla conoscenza della sua opera, contadini ed emigrati imparavano ad amare la loro storia e gli oggetti, gli attrezzi che hanno per secoli segnato il loro cammino di lavoro duro e di miseria. Agli emigrati, cui gli attrezzi da lui raccolti ricordavano appunto la miseria alla quale avevano voltato le spalle, spiegava che non bisogna gettare via il proprio passato, ma tenerlo presente nella memoria personale e storica per conoscerlo bene, perché esso, con i suoi segni, i suoi documenti, i suoi strumenti, belli e brutti, gioiosi e dolorosi, fa parte del nostro cammino e deve perciò vivere con noi nella prospettiva di un futuro migliore. Insegnava che il retaggio storico di dolore e di miseria non va insomma esorcizzato. Da buon marxista amava ripetere che la storia non si fa con i sé e aveva un occuto senso della realtà e dei limiti del tempo. Stabilito questo rapporto di stima e di fiducia con la gente, negli anni in cui la Casa Museo fu aperta al pubblico, qualche emigrato giunse al punto di affidare a lui oggetti, attrezzi di lavoro e immagini devote appartenuti ai parenti morti, nella certezza di trovare in lui un degno custode di quegli oggetti e di poter tornare un giorno a rivedere quei segni della memoria. Un rapporto privilegiato, in tessuto di affetto, ebbe con Giuseppe Caligiore il suo suocero, che negli anni cinquanta lo guidava a dorso di mulo nelle campagne palazzolesse alla ricerca di contadini e pastori amici ai quali il vecchio lo presentava. Il podere del suocero incontrata a Guglia di Palazzola Crede ricorre frequentemente nelle opere di uccello con il bagaglio di ricordi, di esperienze e di conoscenze fatte attorno ad esso per molti anni. E' ancora uccello che ha lasciato scritto. E qualcuno ha ricordato queste parole. La presenza di un massaro come mio suocero scioglieva ogni impaccio e la conversazione si snodava per ore, sicché ogni oggetto veniva caricato di notizie, significati, storie e vicende. Un aratro viveva come un personaggio. Il nostro massaro raccontava l'ora e il giorno in cui aveva tagliato il ramo dell'albero, le bestemmi per un nodo imprevisto nel tronco che avrebbe compromesso il lavoro di esecuzione, le terre che aveva arato. Ma c'è una dichiarazione di lui nella quale si vede chiaramente come egli, grazie alla mediatrice collaborazione del suocero, sia stato totalmente integrato, re Ipsa, nel tessuto dei rapporti sociali propri degli ambienti ad economia agricola. In fondo era anche egli un contadino tra contadini, anche se con diversa coscienza culturale, quando insieme col suocero andava raccogliendo oggetti e materiali vari per le campagne. Scrive infatti, allora si girava per le masserie. Mio suocero era molto conosciuto. Fra di loro i massari avevano rapporti di lavoro, occasioni di vari incontri, lungo le strade di campagna, nelle fiere, all'Ulino. L'acquisizione dei malfatti, così rinvenuti peraltro, non incideva sulla nostra economia. Infatti mio suocero li otteneva spesso poco. A volte faceva una specie di baratto, cambiava per esempio un collare in disuso con un po' di lenticchie o anche con prestazioni di lavoro. In queste occasioni si riusciva a raccogliere un materiale di studio che costituiva la base di ulteriori ricerche. E qui si nota chiaramente come con lui acquistasse consapevolezza della propria cultura anche il suocero, al quale lo legò un rapporto molto affettuoso che ricorda quell'altro carissimo avuto col nonno Sebastiano Ripa. Come si vede, il rapporto che Uccello stabiliva con le persone cui chiedeva collaborazione non era mai a senso unico. Era un rapporto di reciproco scambio, nel quale il dare e l'avere si intrecciavano consapevolmente. Un rapporto che consentiva la crescita culturale così di lui come degli interlocutori, che dopo averlo incontrato non erano più quelli di prima. Chi avesse voglia di approfondire questo aspetto non ha che da leggere le sue opere e particolarmente quelle contenenti delle interviste a contadini, pastori e artigiani di tutta la Sicilia. Un altro momento particolare del rapporto di crescita culturale vissuto con la gente fu per Uccello la costituzione della Casa Museo nel 1971. La storia della Casa Museo, come è stato ricordata in questa sede, è troppo nota perché se ne ripercorre qui la Genesi. Interessa far rilevare il contributo che vi diede alla gente di Palazzola Crane. Uccello in quella occasione si lasciò saggiamente guidare dagli anziani che gli erano vicini e seppe anche valorizzare le energie dei giovani che da qualche anno, nel clima prodotto dall'entusiasmo sessantottesco, si erano accostati a lui, attratti dal fascino di questo intellettuale di sinistra di alto livello che, rara Avis, viveva in un piccolo centro di provincia del profondo sud. L'occasione di incontro, come ha ricordato Luigi Lombardo in mattinata con questi giovani, era stata data da una manifestazione contro l'emigrazione che venne organizzata con Uccello nel dicembre del 70, lo stesso anno in cui a Palazzolo si riapriva la locale sezione del Partito Comunista Italiano. Egli aveva colto con entusiasmo e grande apertura mentale la richiesta di aiuto di quei giovani nei quali ammirava il sincero fervore di ricerca. Fu organizzato un corteo, in verità sparuto per le vie cittadine e poi un sit-in in piazza del popolo. Per tutto il giorno furono lette poesie di argomento civile e politico. Risuonarono allora nel cielo di Palazzolo versi di poeti vietnamiti e latinoamericani. È già chiaro da qui come Uccello intendesse il rapporto culturale con la gente. Era infatti un rapporto nel quale i problemi strettamente culturali si collocavano in un'ottica ampiamente politica che li informava dall'interno. Sarebbe stato sempre così, anche negli anni della sua presenza in Consiglio Comunale. Questo suo modo di concepire l'impegno culturale, se da un lato faceva vie più stringere attorno a lui i giovani che lo amavano e lo seguivano, dall'altro gli procurò accese antipatie e concrete ostilità. Un uomo che con la sua candidatura all'Assemblea regionale siciliana nel giugno del 71 aveva in un'ottica e conformamenti squisitamente culturali, avvenuta scusate, in un'ottica e conformamenti squisitamente culturali, sconvolgeva i parametri della condotta di chi alla politica si dedicava tradizionalmente con altra ottica e con altre categorie mentali e ideologiche non poteva non dare fastidio e colpire interessi precisi. Non stupisce perciò che presto dalle tribune del potere locale venissero le bordate satiriche, gli inviti ironici rivolti al forestiero a tornare al suo paese d'origine, del cui clima salubre, data la sua gracilità fisica, aveva bisogno per una cura ricostituente. E vennero pure i declamati propositi di non voler foraggiare un covo di maoisti in un paese di tranquille tradizioni cattoliche come Palazzola Creide. Col carattere che aveva, uccello, più era attaccato, più si sentiva stimolato e reagiva e più i giovani si stringevano attorno a lui. Nel settembre del 71 la Casa Museo fu aperta al pubblico. Avevano collaborato al suo allestimento persone che con quegli oggetti ancora vivevano e lavoravano quotidianamente. Tra i primi oggetti furono portati quelli della masseria di Contrata Guglia, a Casa Rauglia. Furono lo zio Paolino Caligiore e la moglie Marietta a sistemare ogni cosa al posto dovuto. Questi due vecchietti divennero come i padroni della nuova erigenda casa nella quale davano disposizioni e guidavano Antonino Uccello, così come il gruppo di giovani che con lui ormai lavorava a tempo pieno. Lo zio Paolino sistemò particolarmente l'angolo per la preparazione della ricotta in collaborazione con un altro contadino conosciuto col soprannome di Wot Iorna. Collaborò anche il già citato Paolo Leone. La sistemazione del frantoio per le olive fu opera dello scalpellino dito da Quino, al quale si devono delle chiare espressioni di maturazione culturale che lo stesso uccello trascrisse. Abbiamo fatto questo non per denaro, disse il da Quino, perché è un lavoro pazzesco che abbiamo fatto, ma almeno così resterà una testimonianza della vecchia tradizione che così si ricorderà nel futuro. Ecco perché mi sono impegnato a fare questo lavoro. È giusto che i ragazzi che vanno a visitarlo si chiedono come si è fatto questo lavoro, come è nato questo leificio. L'apicoltore sordinese Luigi Pagliaro fornì un piccolo torchio di legno per la preparazione del miele. A casa di stare fu opera della zia Marietta, donna di un ordine mentale straordinario e cui disposizioni, ha scritto uccello, noi non facevamo che eseguire. Pupi cu pupi, sante cu sante, replicava lei al nipote che si vedeva sconvolgere gli schemi museografici da lui precedentemente elaborati. Scrive ancora uccello della zia Marietta. Zitto, mi disse, rompe un disegno, cioè se si aggiunge qualcosa d'altro si spezza il disegno. Ma accorsi quando tutto era già sistemato che veramente c'era un disegno, un ritmo che quel vuoto, diciamo, esaltava. Un cernitore di frumento, tale Savasta, diede delucidazione e disposizione per la sistemazione del maiazè, con lo stesso magazzino, cioè nel quale in passato egli aveva già crivellato grandi quantità di frumento e che perciò conosceva bene. Ecco che, davanti agli autentici testimoni viventi della cultura contadina, uccello diventava e si faceva umilmente scolaro, disposta ad apprendere e lasciar fare ai competenti. Crasceva così anche egli alla lezione dei vecchi. E la zia Marietta, da vera padrona della nuova casa contadina, nei primi tempi accompagnava i visitatori del museo, dando loro spiegazioni e raguagli. Anche lei dunque imparava, già anziana, forme nuove di servizio umano e culturale. Ma furono immolti quelli che, ritrovandosi con la propria identità storico-culturale tra gli oggetti sistemati nei locali della casa museo, che senza quasi accorgersene finirono per guidare altri visitatori. Persino un ragazzo, una volta, fu visto dare spiegazioni sui pupi siciliani, in base a quanto aveva in precedenza appreso dalla voce di uccello. Gli abitanti di Palazzolo contribuirono in modo cospicuo alla costituzione della casa museo, offrendo oggetti e manufatti vari da esporre, oltre che consigli e prestazioni d'opera. Il lavoro più duro e impegnativo fu quello dei giovani del gruppo. E voglio qui ricordare i nomi di questi giovani. Luigello e Paola Lombardo, Giovanni Leone, Gianni, Mario e Rosario Malignaggi, ai quali si aggiunse Michele Canzoneri, che veniva appositamente da Palermo. In tutto, ovviamente, collaborava sempre anche la moglie di uccello, Anna Caligiore, definita da Franco Antonicelli custode delle memorie. Tutti costoro lavorarono notte e giorno all'allestimento della casa, trascurando i loro immediati interessi personali e familiari e vincendo le resistenze e i pregiudizi che all'occhio comune del perbenismo poesano facevano di essi più nemmeno che degli scioperati. In una intervista uccello ebbe a dire «l'entusiasmo dei ragazzi è stato vitale per la casa museo. Si sono impegnati in tutto, dalle ricerche nelle campagne, alla catalogazione dei reperti, alla stessa pulizia dei locali». Un lavoro svolto senza alcun compenso, perché i problemi economici sono stati sempre enormi, ma portato avanti in nome del grande amore per la cultura popolare. Questi giovani lo seguivano nell'impegno culturale e politico un tempo, sicché crebbero e maturarono con una chiara coscienza del loro posto nella società, cosa che con ruoli diversi perseguono ancora oggi. Quando costruivano presepi popolari all'interno della casa museo e organizzavano mostre periodiche, si sforzavano di esprimere i valori di quella stessa cultura popolare e contadina per la cui identità si battevano nel contesto della politica e delle lotte cittadine. Per questo era difficile, se non impossibile, scildere i due aspetti dell'impegno comune. Quell'impegno che portò un anziano militante segretario cittadino del PC a recepire le istanze di rinnovamento che i giovani avanzavano e a valorizzare il lavoro delle nuove leve. Come si sa, Uccello si era formato, nell'immediato dopoguerra, dietro l'influenza degli scritti gramsciani, quegli studi che permisero a molti uomini di pensiero un chiarimento dei termini culturali della nostra storia contemporanea e consentirono ad alcuni di essi l'abbandono o comunque il superamento della concezione storica ed estetica crociana per il passaggio o l'accostamento a quella di matrice marxista. Gramsci non fu uno studioso di folclore, ma in margine alle sue riflessioni sul rapporto tra classi egemone e classi subalterne, acquistava un'importanza rilevante il valore positivo e qualche volta rivoluzionario della diversità culturale delle classi subalterne, delle classi dei semplici contrapposte a quella degli intellettuali. Da qui nacque la scoperta del valore positivo delle tradizioni popolari come manifestazione di una cultura di contestazione delle classi subalterne contro la cultura egemone delle classi dominanti. Alla luce del pensiero gramsciano si spiegono e si comprendono l'informazione che Antonino Uncello diede ai suoi studi e alle sue ricerche, la creazione della Casa Museo e a Monte il culto per l'opera e la metodologia di ricerca di Ernesto De Martino, la cui lettura consigliava frequentemente ai giovani e si spiega anche il tipo di impegno politico che manifestò e testimonio pubblicamente. Così come si spiega il suo ritorno al Sud non appena egli ne ebbe la possibilità per lavorarvi e dare animazione in quelle condizioni difficili e isolate dalle quali purtroppo molti trovano comodo rifugire per approdare alle sponde gratificanti del nord. Egli fece il cammino inverso a quello che altri uomini di cultura siciliani generalmente allora facevano. Quando era ormai affermato, anche come poeta, decise di tornare in Sicilia per dare alla gente dell'isola il suo contributo di crescita. Per il tipo di collaborazione che si era stabilita tra uccello e quel gruppo di giovani e per la progressiva maturazione del cammino comune, arrivò il giorno in cui il capo, tra virgolette, dovette assumersi delle responsabilità politiche dirette e personali. Nel 1985, uccello capeggiò la lista del PC alle elezioni amministrative di Palazzola Cresco. Siamo, come si vede, al terzo momento del nostro schema di lettura. Da consigliere inaugurò un modo nuovo e libero di fare politica. Nelle sedute consigliari, alle quali fu sempre presente finché le condizioni di salute glielo permisero, sapeva aspettare il momento opportuno per i suoi interventi, che diventavano spesso delle vere e proprie elezioni, talora sottilmente ironiche, di grande valore umano e culturale. Intervenne per i problemi relativi al piano regolatore generale di Palazzolo, per la salvaguardia e la cura del centro storico del Paese, per qualificare sul piano della politica culturale i bilanci del Comune, per elevare il livello degli interventi pubblici nelle manifestazioni culturali cittadine. Durante la seduta consigliaria del 9 gennaio 1977, nella discussione relativa alla programmazione delle manifestazioni turistiche di quell'anno, intervenne a più riprese. A proposito del Carnevale, così fu verbalizzato il suo intervento. Il professore Uccello ritiene che il vero motivo della decadenza dei festeggiamenti del Carnevale, si intende, consiste nella mancanza di quello che era il vero senso del Carnevale, andando a ritroso nel tempo rievoca il periodo romano in cui tali festeggiamenti venivano considerati col termine moderno di contestatari, tant'è che anche gli schiavi in quel lasso di tempo potevano combattere la classe privilegiata. Nell'evoluzione della società, il Carnevale ha conservato tuttora la stessa caratteristica di manifestazione collettiva, di spiritosa allegoria. Il carro allegorico e le maschere dovrebbero conservare il senso originario di comunicare ai cittadini qualche sentimento di ironia, di disprezzo, ecc., pur nell'allegoria generale. In quella stessa seduta, parlando delle altre iniziative culturali, giudicò l'istituzione di un premio letterario a Palazzolo molto costosa ed ha i risultati poco positivi. Aggiunse, dovremmo incrementare invece quei gruppi artistici locali o dei paesi viciniori che, avendo la matrice popolare, creano spettacolo e ci fanno spendere poco. Dall'interno, cioè, intendeva curare lo sviluppo culturale della sua gente, rifiutando il provincialismo tipico dei progetti ispirati a mode e modelli estranei alla cultura locale. Col proposito di una qualificazione culturale programmata, rifiutò di approvare il bilancio comunale del 1977. Nel verbale della seduta, del 20 dicembre 1976, così si legge, il professore Uccello vota contro l'approvazione del bilancio in quanto trattasi di un bilancio burocratico. Difatti, la maggior parte delle voci si riferisce agli impiegati, mentre gli stanziamenti relativi ai servizi sono limitati. Indi afferma che una popolazione cresce quando crescono i servizi scolastici, quelli sanitari e igienici, dopo aver dichiarato che avrebbe preferito un bilancio più coraggioso, più fantasioso, più politico e meno amministrativo, per portare avanti il Paese e per cambiare e rivoluzionare il sistema attuale di stallo. Di servizi pubblici più efficienti, di maggior investimento per l'arricchimento delle biblioteche, aveva già parlato il primo dicembre del 1975, nella discussione eseguita alle dichiarazioni programmatiche del sindaco del tempo. Una lezione di civismo diede in modo sottile e raffinato, allorché durante la discussione sul piano regolatore del Paese, in data 22 novembre 1976, dopo una violenta baruffa all'interno del Consiglio, ebbe a richiamare i colleghi con argomentazioni e toni che la sintesi del verbale non è riuscita a cancellare. Si legge i fatti. Invita tutti i convenuti ad indirizzare la seduta consigliare entro il giusto binario di correttezza e serietà, sia perché arrivando a certi eccessi si fa scadere la seduta a livelli mortificanti, svilendo la funzione stessa dei consiglieri, sia perché c'è una chiara discrepanza tra i rappresentanti della cittadinanza in questo Consiglio e il carattere del cittadino palazzolese, il quale è per natura tranquillo e per niente litigioso. Soltanto operando con calma, continua il Professor Uccello, si può portare avanti un discorso costruttivo ai fini di superare la crisi e risolvere i problemi che assillano la cittadinanza. Conclude augurandosi che gli altri consiglieri si portino con l'autocontrollo di chi, guardandosi allo specchio, vede bene quello che fa. È davvero un peccato che non esistano registrazioni magnetiche dei suoi interventi completi all'interno del Consiglio Comunale. Con esse, infatti, si potrebbe veramente misurare il livello e il tono delle sue parole. Ma è doveroso precisare che il suo modo di fare politica all'interno del Consiglio Comunale, per quanto unico e irripetibile, ha trovato pur nella diversità di temperamento e di formazione personale degli eredi, uno dei quali proprio nella persona di un giovane del gruppo. Per molti anni Uccello fece di Palazzola Crede un preciso punto di riferimento culturale nel sud d'Italia, convogliandovi energie artistiche intellettuali di alta qualità e rendendola meta di visitatori illustri e non. Sarebbe fuori luogo citare i nomi, anche solamente i più noti, di tutti coloro che vennero a sostare a Palazzolo, attingendo alla freschezza e alla genuinità della cultura contadina iblea e lasciandovi i semi dai quali sarebbe germogliata la realtà di una crescita futura. Uccello, infatti, era maestro nel creare contatti tra persone e a lui amiche che non si conoscessero tra di loro. Nella casa museo, i giovani del gruppo entrarono in rapporti amichevoli con le alte personalità dell'arte e della cultura italiana che di volta in volta venivano. Sono in molti, tra i suoi amici, a dovere a lui la conoscenza e i rapporti con alcune persone di cultura interessate particolarmente alle tradizioni popolari. Uccello ha lasciato alla sua morte tutta una rete di rapporti e di amicizie tra coloro che in vita lo seguirono, gli furono vicini e impararono da lui. E' questo l'ultimo momento della nostra riflessione. Durante le sue ricerche seppe trovare collaborazione di vari giovani a Palazzolo e fuori, un po' dappertutto in Sicilia, e in nota riporto i nomi di moltissimi di questi collaboratori di tutta la Sicilia, presentava tra loro questi giovani, i quali poi hanno finito per stabilire rapporti di collaborazione che sono andati al di là dell'amicizia comune con Uccello. Essi impararono molto da lui. I palazzolesi, particolarmente, appresero in anni difficili, a causa di un generale processo di omologazione culturale, ad accettare se stessi con la propria identità sociale e culturale. Appresero poi ad amare la loro cultura e a difenderla. Aiutavano Uccello in ricerche d'archivio e in altri lavori pratici e intanto vedevano cambiare la loro vita, trovando delle motivazioni al loro cammino umano e culturale. Con naturalezza maturarono il corso della loro vita. Uccello, indipendentemente dal suo temperamento, dal suo carattere, non aveva la presunzione dell'intellettuale. Il lui non fu mai ombra di paternalismo, né di quel distacco professionale che spesso inquina o compromette, quando non falsa, addirittura i contatti tra le classi subalterne da una parte e i borghesi colti dall'altra. Sapeva vivere con la sua gente. Come si fermava nelle campagne a mangiare ricotta con i pastori o pane e olive con i contadini, così sapeva, insieme con i suoi giovani, entrare nelle taverne e, novello o machiavelli, mescolarsi alla gente comune, dalla quale, senza indulgere a vane forme di populismo, apprendeva continuamente usi, costumi, tradizioni orali che costituivano poi oggetto dei suoi studi. Era capace di arrabbiarsi con l'oste, quando questi portava in tavola oliva importate dalla Spagna e pretendeva quelle di Sicilia. Gli richiedeva piatti per sé e per i suoi giovani amici, confezionati secondo le ricette tradizionali. Così, da una parte, l'oste era indotto a riscoprire il valore della cucina locale, per riproporre questa sua volta agli avventori. Dall'altra, i giovani collaboratori imparavano a rifiutare i cibi in scatola e i prodotti preconfezionati dalle industrie alimentari nazionali. Durante i mesi invernali, nella casa-museo si accendeva il fuoco e attorno ad esso si cercava calore e si mangiava in un clima familiare. Il museo non era più solamente tale, era veramente casa, sempre pronta a ricevere visitatori a tutte le ore. Molte volte giungevano visitatori proprio all'ora di pranzo, ed era sempre lui, uccello, a volere andare ad accogliere la gente, che ascoltava e osservava con piacere e curiosità, e alla quale dava il suo servizio. Accettava la collaborazione di tutti, anche di persone ideologicamente diverse nel caso volessero prestare la loro opera o volessero apprendere a loro volta. Insegnò la tolleranza con le persone aperte e disposte alla crescita. Alcuni di questi giovani collaboratori, uccello volle vicino a sé negli ultimi giorni della sua vita, affidando all'uno e all'altro compiti precisi che egli non aveva potuto portare a compimento. Ad uno di essi dettò le memorie raccolte del volume della casa di Icaro. A tutti ha lasciato, oltre al rimpianto, la volontà di continuare, pur se con capacità e mezzi inferiori ai suoi, nella strada da lui segnata della crescita culturale e della ricerca demologica. Alcuni di questi collaboratori lavorano già da qualche anno nel solco tracciato da quello che non possono non considerare il loro maestro. Da quanto è venuto fuori dalla mia esposizione, mi pare si evinca quale rapporto viscerale e sincero uccello avesse con la sua gente e come questa avesse colto la sostanza del suo messaggio. Perciò è necessario che con la riattivazione della casa museo a questa gente sia ridato un lembo concreto della propria identità culturale, ma soprattutto è necessario che nel rispetto della metodologia e dell'informazione che uccello seppe impiegare nella sua opera, chi avrà in mano le sorti della casa museo prenda atto dell'eredità lasciata dal fondatore e tenga conto delle istanze culturali del luogo in cui la casa museo è stata concepita ed essorda. Pena, lo stravolgimento dello spirito e dei criteri che presiedettono alla fondazione di essa, ma soprattutto lo sradicamento totale della matrice storico-culturale del luogo in cui fu fatta sorgere. Grazie. Ringrazio Bulgaretta per l'appassionata e impegnata rievocazione dell'opera di uccello come uomo e anche come politico e questo è un argomento che sarà immediatamente approfondito da Paolo Greco che appunto riferirà sull'impegno civile di Antonio Morcello. Gli interventi precedenti in certo modo rendono superflua la motivazione per la quale nei lavori del convegno è stato inserito un tema apparentemente estraneo agli interessi di un convegno di studi sulla opera e sulle ricerche di Antonino Uccello, l'impegno civile di Antonino Uccello. Gli interventi invece precedenti hanno implicitamente dimostrato quanto fosse necessario inserire anche questo tema, il quale di per sé andava legittimato e motivato per il fatto che, e qui temo non di aprire una polemica, i livelli del resto sarebbero diversi e io sarei presuntuoso se volessi aprire una polemica con l'oratore Fortunato Pasqualino, non sono al suo livello, tuttavia oggettivamente devo dire che l'avere inserito questo tema si è tanto più dimostrato ora necessario dato che le posizioni e la riflessione che io tenderò di fare è letteralmente all'opposto. Il certamente arbitro di questa non virulenta polemica ma assolutamente serena sarà nelle cose, arbitro penso sarà il professore Antonio Buttitta, se posso intuire quale sarà lo sviluppo della tematica il marchistismo, gli studi antropologici meridionali e l'opera di Antonino Uccello. Sono convinto infatti e ho apprezzato il lavoro del professore Burgaretta al quale ho chiesto, non essendoci sentiti prima, se per caso qualcuno avesse avuto, avesse sentito l'esigenza di andare a ritrovare gli interventi di Antonino Uccello consigliere comunale. E' meritoria l'azione del professore Burgaretta perché questa esigenza altro non deriva se non dalla convinzione che non si può sdoppiare, come ho sostenuto, in un precedente intervento in questa stessa sala, Antonino Uccello poeta, Antonino Uccello antropologo, Antonino Uccello ricercatore e collezionista di cose popolari, da Antonino Uccello politico, cioè da Antonino Uccello persona impegnata civilmente. Chi opera questa scissione, a mio parere, perde una chiave di lettura importantissima per tutto il complesso della produzione di Antonino Uccello. Dimostrare questo è lo scopo del mio breve intervento, al quale però devo fare precedere una riflessione d'ordine generale, senza la quale non possiamo poi dedurre la valenza particolare del nostro discorso. non può non partire dal tentativo di dare una risposta ad un problema di sempre, come questa sera è stato dimostrato. Il problema del rapporto intellettuale-società-arte-società, problema di sempre perché non debbo ricordare a nessuno di voi come questo problema abbia avuto soluzioni antitetiche, a partire dalla filosofia classica, laddove c'erano posizioni che identificavano nettamente l'intellettuale con la sua funzione politica, basta pensare ai filosofi e al loro ruolo nella Repubblica platonica, a posizioni antitetiche, per non citarne molte, che vanno identificate chiaramente nella cultura umanistico-rinascimentale in cui l'intellettuale era considerato di per sé necessariamente lontano dalla realtà. Il concetto di studi liberali dell'umanesimo è infatti la definizione dell'intellettuale libero in quanto libero dai bisogni, di per sé aristocratico, non solo come dimensione sociale, ma aristocratico soprattutto come atteggiamento, come coscienza di essere espressione di un'elite e di una internazionalità, di studi che del resto si esprimeva se non dopo Leon Battista Alberti si esprimeva nel linguaggio universale del latino, ancora. Solo con Leon Battista Alberti si ritorna alla rivalutazione del volgare come strumento di espressione culturale. Dunque è il problema di sempre definire il rapporto intellettuale-societale. E noi, per quanto riguarda Antonino Uccello, dobbiamo uscire da questa forbice, dalla forbice che vuole l'intellettuale disimpegnato, pasangage, direbbe Montaigne, dall'intellettuale invece marchissianamente impegnato nel trasformare la storia, nel fare la storia, non, come diceva Hegel, nel riflettere sulla storia. Perché la sinistra hegeliana, rindroverò ad Hegel il fatto di avere operato una riflessione a posteriori giustificazionista, in definitiva, della storia, come tipico dell'idealismo, mentre la sinistra hegeliana e il marchissismo poi pensano al ruolo dei filosofi e degli intellettuali come coloro che non riflettono sulla realtà ma operano per trasformarla. Se la tesi sarà sbagliata qualcuno me lo dirà, ma io sostengo che per avere una chiave di lettura dell'opera di Antonino Unccello è necessario pensarlo come intellettuale impegnato alla ricerca di una fondazione di coscienza, non solo di classe, ma soggettiva, se volete alla Lukash, che non va citato in questo caso per, tra parentesi, come ha fatto Fortunato Pasqualino. Va citato secondo me invece in modo pertinente proprio, perché Lukash con il suo concetto di totalità, con la sua categoria di totalità nella quale si pone come condizione della comprensione e della realizzazione del progresso e della storia, la identificazione fra soggetto e oggetto, intendendo per soggetto colui il quale innanzitutto in sé si libera da tutte le incrostrazioni della cultura tradizionale, della cultura non propria. Il concetto di coscienza, a mio parere, e ritengo di avere anche modo, di provare quello che dico attraverso la mia conoscenza, diretta, profonda e intima, a livello di dialogo culturale con l'amico Antonino Uccesi. Io non so chi possa smentire che sia la sua opera, sia le sue raccolte, i suoi studi, le sue interviste, gli oggetti stessi, e penso soprattutto alle pitture sotto vetro, delle quali parlava come del prodotto più genuino, del prodotto più raffinato, più spontaneo, della innata eleganza di una certa espressione di arte popolare. Io non penso chi possa sostenere che tutta l'opera e tutti gli oggetti non significassero per Antonino Uccello non tanto conservazione di tradizioni popolari, quanto prova della partecipazione popolare, quanto e dunque prova di una presenza popolare capace di trasformare la cultura contemplativa, come dice Lucas, che è la cultura della borghesia. E questo non significa né dogma né ideologismo, come avrebbe forse sostenuto l'oratore Pasqualino Fortunato, che soltanto per caso, essendo intervenuto prima, ha dovuto far assumere a qualcuno, in questo caso modestamente a me il ruolo di contraddittore a distanza, nello spirito di cui ho detto prima, perché non oso sfidare montagne. Tuttavia, ripeto, mi rimetto all'arbitro, sarà apprezzato un giudizio su queste posizioni, perché i convegni di studio, se sono prefabbricati, sono falsi, se sono liberi come questi, sono veri e dunque possono portare a conclusioni problematiche. E ripeto dunque che le cose, gli oggetti, in la casa museo, sono la dimostrazione di una partecipazione popolare, quella testimonianza di come i nostri strati popolari abbiano trasformato la cultura contemplativa in una cultura attiva, propria e dunque in una prospettiva che ha visto il nostro stesso popolo, come diceva il professore Burgaretta, capace di progredire. E penso anche all'interpretazione questa sì, di prima mano, diretta, che Antonino Uccello dava delle nostre feste religiose popolari, nelle quale feste Antonino Uccello ammirava e vedeva un tipo di partecipazione che non era solo conservatrice tradizionalista, ma che era fatta di una partecipazione attiva, non passiva, di una partecipazione laica, e questo concetto l'ha espresso il professore Burgaretta, quando specialmente vedeva, per esempio, e lo ammirava e lo apprezzava, il compagno comunista, sotto il simulacro portato a spalla di San Paolo. E commentava col pittore Guerricchio, a proposito dei contatti cui si riferiva sempre il professore Burgaretta con questo ambiente culturale nazionale, il professore Guerricchio che allasciò quattro disegni, uno dei quali ho la fortuna di possedere, sulla festa popolare di San Paolo, in cui il pittore vedeva questa partecipazione, il concetto di partecipazione, nel senso di cui ho detto prima, come protagonismo, come presa di coscienza, come liberazione dunque da un tipo di cultura, io non dico subalterna, nel senso di cui qualcuno ha parlato prima come inferiore, ma nel senso di cultura sentita dalla parte non elitaria della società. E pertanto, se così abbraccio io mi avvio alla conclusione, io devo dire che l'impegno civile di Antonino Uccello, per chi non lo coglie in tutti gli aspetti delle sue manifestazioni, perde un'importantissima chiave di lettura per tutta la sua opera. E non è, qui mi permetto in un certo senso di dissentire dal professore Burgaretta, non è il terzo momento, quello dell'impegno civile politico di Antonino Uccello, perché Antonino Uccello scrivendo voleva fare politica, non faceva politica. Antonino Uccello ricercando e avendo i contatti voleva fare politica, voleva come scelta, perché parto dal mio originario assunto che non è possibile l'ascissione di Uccello antropologo poeta politico. Perché proprio quella coscienza individuale, quel rapporto soggetto-oggetto, quella categoria della totalità in mini-uccello si incarnava, si incarnava tanto da poter costituire, come ha costituito anche per il sottoscritto un esempio di vita attiva impegnata sempre sulle cose, non per diventare così collezionisti delle cose, ma per trovare nelle cose il modo di sfuggire da esse, di sfuggire da quella che io con Lucas vado a chiamare reinificazione, di sfuggire cioè da un nuovo modo di alienazione, che se era vero nella prima metà del Novecento è a maggior ragione vero oggi quanto sono capaci di darci tutto quello che loro vogliono nella società dei consumi. E allora Casa Museo sì, come elaborazione culturale alternativa, come centro di cultura per la presa di coscienza delle classi popolari, la Casa Museo come presa di coscienza per tutti e soprattutto per i giovani che l'impegno civile non è scindibile dall'impegno culturale, che l'impegno civile anzi porta alla cultura, che l'impegno civile va scelto nel pluralismo, va scelto nella problematicità, siamo d'accordo su questo? Che l'impegno politico porta a crisi di coscienza, può portare a cogliere contraddizioni e ad andare a cambiamenti. Se però i cambiamenti non sono ricerca di interesse, ma sono ricerca della verità, ricerca di un proprio ruolo, ricerca di una prospettiva che dia sempre più dignità al nostro lavoro e ai prodotti del genio umano. Gentile signora Uccello Per più in parte si raccorda con alcune delle sue osservazioni, col contempo che c'è la verità dei miei più giovani e anticipo il mio discorso riservato di da solo una parola dubbio. Le commemorazioni, quando sono autentiche, è questa che i miei e oggi ci ha riunito e autentica, ma ciò non sempre, caldo. Devono mirare segnalamente a ponderare con obiettiva franchezza la figura e l'opera di coloro che hanno camminato tanto a noi come amici, come colleghi, o come compagni della vita, e a riflettere su quel che al nostro vedere della loro opera è marginale, caduta, di circostanze, e su quanto diciamo noi che non siamo morti all'incanto della vita, deve essere traduzione nel tempo. Ponderazione e riflettione, che sono sempre prodigue, soprattutto quando, ed è in nostro caso, sono rascosti alcuni anni dal giorno che l'amico ci ha lasciati, per presiderci sulla via, alla via della fata, ci si ritrova tutti nel comune della vita. Lo scorrere del tempo, il maturare delle condizioni politico-culturali e in loro vita, gli inevitabili pensamenti che col tempo nascono dentro di noi e crescendo ci premono nel formamento e che soltanto la nostra verna volontà ci preclude di manifestare a chiare lettere, ma che ci si ritrova lo invito, o se si riesce a intenderlo, tra le rigeni dei nostri fri, o per le parole dei nostri fri, tutto questo al nostro avviso. E di grande rilevanza per percorrere la ricorda, gli anni d'ascoste, e tentare un qualche bilancio su quanto è stato alto, da qui se ne ha in realtà, come il nostro Antonino, ancora prima che fosse terra, quando poteva dare ancora tanto alla sua famiglia, alla sua terra, che amò come la letà dell'altro. Di mili, anni. il distacco della persona fisica, i pensamenti a cui va vero, in un modo o in un altro, la credenza natale, sono più acevolmente condotti a un giudizio critico più spazionato, più sicuro. Al nostro vedere l'alta degli affetti, in sé dove lo regista, lo degono, non deve esistocere il nostro discernimento, condizionare il nostro mentale. L'esaltazione angiografica, alla quale spesso, forse anche troppo spesso, si è portati a esercitare su coloro che non sono più da noi, fattorico a chi ha lavorato per chiarire a se stesso i molti problemi che ostacolavano il suo procedere sulla via della città e per rimuovere gli ostacoli che infanziavano un materiale realizzazione di un dicevo, per il quale ha dovuto subire, offese anche cari, fattorico dicevo, a chi ha dedicato tutta una vita a e meno lunga e le proprie normali sostanze a un'opera di alto valore civile e centrile. Nelle riflessioni che sono venute facendo in questi anni difficili, anni che direi di tempi, per se gli enti non maschi attraverso le quali è passata per giungere a confine la massima opera realizzata da Antonino Uncello, la casa di un vero, il mio quotidiano lavoro, come egli tristamente la definisce, ho collocato in queste impressioni più volte, tra lei e me, il nostro Antonino vicino a Giuseppe che non ho pensato né penso a un parallelo con Pitre, sotto il profilo degli studi con il nostro. Ma vicino a Pitre, magistrale a ricercatore e industatore dell'avventura tradizionale cristiana, bruciato dentro dall'amore per la sua terra, primo raccomandatore in strada con contenimenti scientifici, di oggetti della cultura nazionale del popolo siciliano, un settore della vigenza demologica a quel tempo negletto, io benvenuto, se volgo lo spazio a quest'ultimo ventennio, il nostro Antonino. Come mi credo, anche il partito abbaglia assai animali per il suo lavoro di studioso. La raccolta e l'illustrazione dei campi del Pantino, apparsi nel 1259 da Scheidinger, spesso sono il suo primo lavoro nel settore della letteratura popolare della visione. Certo, non ci rimettano, come dice invece Scheidinger, aspetti ignoni e segreti della Cina, ma essenzialmente un rapporto notevole di materiale inedito al patrimonio già vinto della poesia popolare siciliana, come aggiunge lo stesso. E' però estraneo il sottotitolo. Canti nel mal di no, sottotitolo, poesia popolare siciliana, che è indicato all'amore. Non è stata certa idea di che Scheidinger mi tenne necessario fare con sottotitolo una indicazione geografica. Forse preoccupato che i saluti ventori pensassero sono il partenoso in uno dei tanti stati del padre Gaviera, o che sono. E non sempre in questa una battuta che è vero. Nel 1954 io cominciai a direzze il disespegnamento universitario e mogli con lei e non con lei mi chiedevano notizie di uomini e di cose dell'articidio, come in tempi lontani si chiedevano notizie simili a quelli che avevano viaggiato sulle orme dei pochi nell'area misteriosa terra. Oggi si chiedeva dove sta l'articidio. E' bello. Non è bello che un'immagine di essa sia troppo spesso a prevalere sulle altre, che sono in penale da valenza, ma fanno molto meno rumore. La predicello per quel volumetto è il nome. Ma non sempre. E' lo debole, la cura nell'abbandizione dei campi in Italia. Dico questo perché proprio lui riproverà Pasolini l'incubia nella traduzione dei testi provenienti dal sud dell'Italia, raccolti nel volume canzoniere italiani che erano sempre sull'articidio. Diario alla testa di Coreano, la volute a sconunciare, non si possono tradurre come pancie o la testa strepolata, la vidotta sconunciare. Ho voluto ricordare questo esempio di traduzione poco benissimo, perché furono per l'appunto i gravi problemi in traduzione tanti studiani che mi invece ricordare. Mi scrisse da tanto per avere da me consigli su un bel manduro di formule di incantesimo con il malocchio e varie malattie e calamità da lui per forte che aveva in animo di pubblicare con quei campi. Poi mi mandò il libro e venne a trovarti un libro. Io lo avevo informato per iscritto della mia perplessità sulla luna e sulla luna. Ricordo come fosse ieri il nostro enco. Sono passati 25 anni, ma ho sempre davanti ai miei occhi il nomino di suo, Carbani, che però diventava coraggioso e anche un po' aggressivo, parlando della sua terra, di Palazzò, di un'ottica di Carbani. Mercenius, devo dire che il suo ardore, ascoltando lo parlato, il suo ardore interno ne parve poere, ed è evidente che quel primo approccio colpò per il tramite campi, ma come sia di nuovo, avrebbe avuto modo di adattarsi e di crescere enormemente. Anche qui, cominciò il suo lavoro con la raccolta di campi immobulari che diciamo, di tre era mosso da motivazioni storiche, letterali e pariottiche, come la maggior parte della comunità dedicante del secolo scorso. Ma anche dopo che quelle ragioni perdessero ricordente attualità e riuscite con questo, si continuò a lavorare sulle metatranci, cioè nell'esaltazione spesso poco visuale della produzione poetica raccoglata popolare. Giuseppe Contiari, che inizia la sua carriera di studioso come raccoglione di canti, è un esempio festivo della consuetudine di iniziare lo studio delle tradizioni muovendo dei canti, i quali di Sicilia si incontravano nei raccoglitori dovevano, Salomone Marino, Castella, Orio, per citare i massimi esponenti in quel settore, nel secondo ottocento. Vitrea, un certo avvento è presente in Vitrea, in questi anni studiati, ma per il modo con cui riuscita ai campi, mi senta di poterlo affostare a Vitrea e più a cucchiata, e in particolare a quella raccolta da lui curare popolo e campi della Sicilia d'Otto e l'anima del popolo italiano, di sei campi. Senza raccoglierne però la carica di evidiasmo ormai tardivo, romano o patente. Ho detto prima che ho raccolto qui alcune riflessioni e la mia ferma volontà mi pregunte di allargare il discorso che mi porterebbe prima. Mi animo soltanto che queste norme possano a loro volta suscitare le interiore e le persone in attrazione a me stesso per l'altro. Mi sposto quindi su un terreno contiguo nel quale ha soffermato operato il nostro indimenticabile amico e dal quale sono venuti riconoscimenti più grandi e meritati. Intendo riparmi al settore della cultura materiale o oggettuale che chi si voglia, settore in cui in un certo ha lasciato un segno luminoso che deve essere preservato e convenientemente alimentato. La scelta di una carriera e il manifestarsi di una vocazione sembrano assai spesso dovuti a quei fattori imponderabili che si è soli di designare come caso. Ma a me guardate, per solito, una vocazione condizionale, se non generata da particolari interessi e richiami che l'ambiente naturale e culturale offre a una mente sollecitata dall'ansia di conosce e di amico. La vocazione di Antonio Centro è da ricordare da una parte alla disponibilità di vite e efficienti esperienze che l'ambiente cantivo spontaneamente di ottima. E dall'altra è un intervento di studio che negli anni cinquanta il pensiero di Antonio Gramsci sul folklore come cultura delle classi subalterne e quindi, come cosa seria da prendere su sé, su parole di Gramsci, suggeriva agli spiriti più aperti e più attenti al mondo e alla società circostante. Uccello ebbe modo di addentrarsi nel patrimonio di forme comunicative, credenze, usi, consumi, arredi oggetti che costituivano l'attivisionomia culturale della sua vita. I campi dell'apertura e della terziatura che ancora lietavano i campi e le aree, e le aree lo attrassero particolarmente. E' bene che i campi di raccogli, perché pochi campi siciliani di questo tipo sono stati fermati sulla carta dai raccoglitori che li hanno sotto valutano, poi per i nuovi calzamenti, poi per poca pazienza e poca amore per il tuo lavoro dei campi nella torre d'estate di Ciliano, più di ogni anno, perché non avevano mai assistito alle operazioni di previatura, o le avevano vedute come fatti curiosi, o dai buon matone di un vestigiale erano stati fuorubiati. Nel corso della rivoluzione culturale cinese si accambia a manca animale. Per capire a fondo le verbe contattive, è necessario penetrare delle campagne con un'inchiesta sulla situazione attuale passata, comprendere lo stato della produzione e la vita dei contattivi, studiare il loro pensiero e loro servizio. Sangue e lacrime senza piedi, odio, miseria, cogliere questo punto di pazienza richiede di andare sulla campagna, dividersi nella vita con i contattivi, non c'è altra cosa. Ve lo sapevo certo che era di estrazione contaminata, che aveva visto i contattivi al lavoro con gli dei contattivi, che aveva visto i contattivi da loro stessi costruiti. Uomini, luoghi, mamma, prima di costituire documenti etnogamici, ha scritto un certo nel suo precievole lavoro di scrittà nel legno e vicino, prima di costituire documenti etnogamici, c'era o espressione l'arte o lune o l'altra cosa un tempo sono stati per me lo scogliere della stessa vita. Il comitato organizzatore di questo convegno viene a far non mettere come figa di altro gamma nei nostri lavori un passo che è molto interessante per intendere lo stato talico di un certo e le sue convinzioni in amore. Nell'attemazione il mio collega e il mio carissimo Antonino Furtista, avversato per amore e patrimonio della vita del popolo ducigiano, scritti di vari autori a cura di un certo, una delle sue ultime patiche, ma ci manco di poterlo effaginare. E' detta, nulla è più eloquente negli oggetti quando sono ricordotti ai rapporti di corruzione che è iscritto al mosaico della vita nazionale di cui sono le tessere, ai sistemi ideologici. Ogni sistema di oggetti nasconde uno o due messaggi e non importa cosa, povera e nuda della sua solubile, è parolativa ma materializzata in un atto, nemmeno la solubile. Negli oggetti messi insieme tanto di non c'erlo, non hanno nulla più, niente di cosa. Questi sono a contare lenti di un modo di essere in te e comuni, il loro obiettivo è un modo di organizzare in sistemi culturali l'universale biologico che fa la vita, che non hanno nulla più, non hanno nulla più, non hanno nulla più, non hanno nulla più, ma documenti dedicati a un sentimento, che quanto sono un'ottomessia e condizionamento che di un'chappi della classe enorme a la valietà e al capricho sono tanto di un, sicuri è durato. E' quanti dei nostri contemporanei, amici, e quanti delle nostre autorità contemporanei non hanno scambiato o spacciato, perché è ancora vero, uccello per un romantico tantico attaccato a forme e cose superali. Io credo che uccello dovesse rimanere colpito da quanto Pitre dice nell'apprezzazione al della posta etnografica siciliana, da lui ordinata un'esposizione nazionale di Palermo del 1891-1991. Dice Pitre, la classificazione degli oggetti non è rigorosamente scientifica e non di meno è tale da non discontentare i clienti che manifestazioni più importanti e curiose della vita fisica e difetti questi oggetti, il quale per denominazione sopportano per molte ragioni etnine che soffre singolare interesse allo storico, siccome presenta il genere del ricordato etnografico e non che non abbia familiarità con tutto ciò che esistiamo. In quella mossa furono presentate parecchi migliaia di oggetti appartenenti alla cultura materiale e per finla con Pitre connessi ai costumi e ai dubbi del cuore. Un cieco dico che la distampa del catalogo della nostra da lui urata con l'aggiunta di un'introduzione del 1968 che intende rappresentare un onesto contributo al risveglio e alla difesa degli studi sull'alto comunale. Si dimostra che anche in questa nuova patina sono le parole e qui dentro rilogano una carina passione per raccogliere gli oggetti relativi ai costumi di raggiungere il popolo siciliano e soggiunge che il catalogo rappresenta per noi la prima documentazione e una fonte preziosa cui a stigliere per ulteriori stigliere rileva anche che la nostra erano scarsamente rappresentanti le città e i paesi della Sicilia orientale, i quali a quelli che diceva lui, erano stati tipi di osordi del tutto ai suoi reiterati inviti di partecipazione alla volta con oggetti curiosi come diceva lui che potevano far bene figurare i luoghi di una vita. La sua esperienza della vita agio-vastorale, la conoscenza di uomini e cose della sua, la sua tenazza, la ferma volontà di fare cosa ottima alla sua terra devono del fatto rimettere un centro che non era troppo d'arte per rilustrare la cultura popolare tradizionale della Sicilia e dell'Italia, e in particolare delle province di Siracusa e della Cusa, con una mostra permanente con un museo che fosse prima d'ognato a casa di abitazione e quindi luogo dico di quel particolare calore umano che nessuna frequentazione di visitatore vuol dare all'Istituto dell'Uso. Pitreale fa racconto il suo museo di antipografia siciliano, nato dalla mostra del 1892 di Palermo e la sua biblioteca è in incontri di salori più locali vicino all'Università. Le sue elezioni non se teneva nelle aule universitari, ma nei confronti del suo museo, molti oggetti che aveva pagato lui il museo era più suo che nel comune di Palermo. E chi frequentava le sue elezioni, e io ho conosciuto alcuni alunni, conservava il ricordo del vecchio maestro che poteva essere sbagliato a prima vista per un bidet, per l'abito della sant'acqua e i panni di messo. Ma chi si trasfigurava quando cominciava la sua lezione, quando parlava delle cose a rubicare in un uomo di recanto che ha visitato la casa museo con la vita amorosa, attenta, la carattata di un uccello che era sempre pieno, sempre disponibile a dare spiegazioni minuti con un sorriso sulle labbra, può essere gente che mai più verrà un uccello. L'amore e la passione che per quella casa è come se fosse cosa viva il suo contatore, ordinatore e inquilino proprietario, assistito con tele amore dalla sua impareggiabile compagna con un sorriso non possono riferirsi. Molte amarezze e il don di genere passarono l'animo del nostro individuo capitano, ma la sua ferma volontà di massimilare di andare in cose non lo abbandonano mai. le sue perplessità e i miei ammocci con le autorità regionali per la cessione della casa museo non riuscì a rimuovere e furono in tanti a tentare di convincere con la necessità di quell'operazione per la conservazione e la crescita di quella sua creazione. A belli in mente la sua sfiducia negli organismi regionali e il sospetto per le cose che da presto non nascevano da ancora. In questi ultimi anni con la legge 80 molti cambiamenti si sono avviati e ci auguriamo che crescano nel basso settore dei beni culturali in quella legge, tra i quali sono nominati i vecchi e non hanno valori. Nella casa museo la raccolta di valori, di documenti, di valori e di sentimenti dei quali si diceva prima, afferente alla cultura agriopassonale della Sicilia orientale e leghissima. Le scelte e a leggerla come si conviene che è il libro più bello, più vivo, più vero della sua. Questo libro sia l'odio all'eterno madre, sembra ormai solo. È però una grande responsabilità, è anche un grande grande e anche un grande onore. Grazie sulle autorità regionali, ma soprattutto sulle autorità comunali, provinciali, turistiche, del Seracusano. Signori di Marazzola e di Camigliani in bagno di Siracusa, soprattutto sulle vostre spalle, grava il peso delle verità materiali, materiali, spirali, unitarie, lasciate a voi e siciliani tutti da voi. La regione Sicilia sta svolgendo la parte che le convengo. Con la vostra vigile cura e il vostro amore costante, i quali non possono essere messi in dubbio dopo quanto ieri abbiamo con molto piacere ascoltato, voi non mancherete più a dire questo insignia monumento alla cultura popolare e tradizionale fisica. Andrino in cielo è stato un uomo che hanno curato anche le cose che altri, mogli hanno, hanno voluto dimenticare. Per loro, per loro che perdanno soli, per loro seguire, che lo chiedo sempre più pen ROBERT, per loro pensare, per pianto me, e conservare la memoria che non sentiamo, delle nostre festi culturali che oggi sono anche un patrimonio, di rilevante valore economico se opportunamente messo a noi è questo il mondo migliore il vendere omaggio al lavoro ai sacrifici alla memoria di chi all'ora è accresciuto il proprio paese grazie le relazioni le relazioni le relazioni le relazioni che seguono a cura di Francesco Faeta San Francesco Saverio Vitegrane e Maria Vignicucci riguardano Antonio Centro e la casa di Palazzo a cura di Francesco Faeta e il pregato si io vorrei fare una premessa direi che appunto le tre relazioni che pronunceremo vanno intendo concorso su e di osservazioni anche se sono fatte la materia che descrive separatamente da ciò sono di noi e che fanno riferimento al lavoro in corso della schedatura e del riorno della casa museo lavoro che è a un punto e che però è diciamo in qualche misura appunto a metà e quindi tutta la serie di osservazioni e dimensioni che vedremo è tarata su osservazioni di quanto abbiamo un punto di vedere da vicino ed esaminare e naturalmente qualche ulteriorità potrebbe nel corso del tempo nel corso dei prossimi mesi io leggo un po' il titolo della relazione che leggo proprio perché credo che dirvi un po' il senso della nostra inizia la casa museo di palazzo la greca è una cosmografia del periodo della finis sicilio sebbene inauda nel settembre del 1971 quando molto di quanto evocheremo era già trascorto e la stessa finis facili così facendo nel titolo avvenuta la casa museo era per così dire in gestazione della mente cioè delle azioni colubiali e del suo creatore come ci è noto dalla sua testimonianza e da quella di quanto seguirono la complessa realizzazione dell'opera sin nel Italia anni 50 da quando cioè in un certo seguendo i minerali che solo attratti da gelo o risolto della cultura materiale inizio a raccogliere alla rifusa senza sistematicità e senza un progetto esplicito oggetto del bobo dei costalini e dei pastori che ricordavano una sicura coscienza del tempo guidava il polcorrista in quelle prime ricerche dell'essere intanto quella l'epoca della fine di un universo aristocratico costalino la incontra culturali caratteristici centri centri miliari l'epilogo di un processo che credo la mente di cui era traccia iniziale nelle incertezze delle melancolie fabbriciate nell'astuta intraprendenza di don croce o sedare di l'ambedusiana memoria c'è un gioco compreso tal l'altro come tale fine non è possibile leggere le le solari spangate nelle altretture musiche nel deserto delle terre negli oggetti che abbandonati si trovavano o nuove i centri che lega a queste pellegrinaggi di campagne nuove e a speciale sostitudine hanno un'evidenza direi di per realista che dice della consapevolezza che viene nel momento e la sua complessità il fortuna impregnata infatti come la scomparsa del vecchio colpi e cose attraverso il tipo di nazione popolare stesse significando anche scomparsa di ciò che rendeva possibile in l'esistenza le lotte contadine avevano ridotto forse inevitabilmente e qui non ci si 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 in istru importanti del interno che per esi era diventato tuttavia adeguat e oppressiva coscienza non soltanto del tempo storico un cellulo dell'abossere in quell'epoca ma anche a cingentosi è una di quelle imprese per cui non basta una vita del suo tempo ridullo della sua durata E qui, appena uscito dalla giovinezza, dimostrava coraggiosa e indifferenza per la sua dissolutoria minacciosa e contente. E sempre puntualmente, lavorando nella carta museo, i suoi locali ormai abbandonati dal loro animatore, dei quali gli oggetti, malgrado la quotidiana decadenta che subiscono solo come cristallità di una grande fatta dimensione antroporale, il brevissimo racconto di Capica dal titolo Il prossimo villaggio, o di cui, credo, ricorderanno, nel quale un peggio si meraviglia per il fatto che, qui inizia la situazione di Capica, un giovane possa decidersi a cavalcare fino a vicino un villaggio senza venire e, a parte qualsiasi indirizziato l'accidente, lo spazio di una vita comune e felicemente scorrente sia infinitamente troppo breve per una simile cavalcare. Ebbene, con un uccello, ci troviamo in un uccello, in un uccello, in un uccello potente, in cui, appuntatevole per questo spessore, di affidamento alla sua isomotica corrente, insieme di cauto, che è straordinariamente lungilinato, come la diversa vicenda di calicità triturata dell'uomo e della sua opera. Nel tempo storico, dunque, di questo tempo post-verdico appannato di un contraddittorio, uccello potente, malgrado la sua cultura ancora incerta, la comuna per certi versi provinciali, nonostante l'emigrazione e lo spaziozamento, e parte proprio per essi, per essere stato potretto a obiettivare, con volontà, a estranearsi, aspetti importanti. Quali erano i tratti di novità più consistenti presenti in quel periodo e in quale misura e in quali promessi compaiono nella cultura del colorista e, soprattutto, nella struttura museografica da lui messa a conto. Furono quelli come nonno anni di estesi e di importanti, quindi, no, stranci, rilevanti dell'opera calciana che non c'erano a essere conosciuti, si definivano, soprattutto, attraverso le eseggezze martiniane, i termini della relazione di stesse tra storicismo, materialismo storico e antropologia, si degnava anche all'interno dello specifico antropologico e dal posto tra teoria e i prassi, tra elaborazione intellettuale e intervento sociale, sottraendolo alle più pesanti, ipoteche neofunzionaliste, sebbene con incertezza e il rivellamento del sapere. In proposito, in basso di una lettera, nel dicembre del 1949, nel dicembre di Pariglia, il resto del mattino, c'è il suo famoso intervento di società, intorno allo stesso intervento alterno, che lapidagnamente riassume certe oscillazioni da un punto di certe pertesità, come la vedete, studiare il valore delle loro magie e fantasie o, per meglio, per il mano e il maxifico di darvi, sistema funzionalistico all'intervento. Si vede dalla conoscenza del lavoro antropologico per alcuni temi, soprattutto tra i sottentori, e di alcune delle esperienze ricerche dei tu profondi, condutte nel meditolo italiano. E allora, nella lettera d'opera apotetramitaria o contraditoria, Paredes, Cocchiata e Martino, uno spaccato di alcune delle maniche simulanti dell'etrologia e dell'antropologia straniera, un trago in Italia con la traduzione alla pubblicazione di Degliar, Cassire, Luccai, Hubert de Moss, Lain, Rob, Frieder, Dienz, Robert, Marinos, Dienz, Levitul, Van der Ruhe, Kermit, ecc. Voglio subito vedere la rivoluzionaria di vita del conoscente riflessione che non è immediatamente ricorducibile e in due parti non viene immediatamente ricorduta alla dimensione lucidografica o della ricerca sulla cultura materiale subalterna. pur avendo, come vedremo, la sua importante rapporto a tale contesto. Ho voluto ricordare che il rinnovamento di questi democrocloni italiani si collocasse sullo sposo di una più vasta revisione delle teorie filosofiche e filosofico-politiche di cui tratti i salienti mi sembra di poter qui schematizzare non volanticamente, ma perché vedremo anche la sua importanza che viene nel riflesso di concetto di poche parole. Siamo una revisione sistematica delle teorie crociane che è stato in modo di forzare il prodotto inescismo idealistico nella delizia del prodotto inesimo dialettico in ultima età, poi, cioè da tutto di vista marziano che pareva un'unica di resistenza del verismo che è l'affermazione di una filosofia della Tassi si afferma la conoscenza dei culturali assistenti di un'unica di resistenza del fenomeno che nella loro diluzione italiana noi vi leggeranno il concetto corpo-monuco una linea, cioè, che partendo dalla posizione del dato percettivo transitando attraverso la posizione fenomenica di Dio giunge alla plasmazione del dato culturale un itinerario che ripercorre come si vede anticipato qui da noi con un'unica stati sovristicati quello tutto interno al campo antropologico dei rapporti tra cultura e personalità ma gli anni 50 furono importanti soprattutto per la cultura letteraria e figurativa italiana che oltre in un processo di specchiamento e di stromigializzazione era in grado di prodotto l'unico di mento e nella scuola quella neorealista in dubbio spessore non mi saperò certo che in questa serie l'unico modifico culturale osserva di notte ranziare del realismo in quel momento rendiva una letteratura molto densa inerito a tali dalle progetti internazionose dell'unico che si perroce per molti mesi ancora compliciti su un aspetto del realismo culturativo interessante nel nostro assunto vorrei invece sottolineare attraverso di essi nelle sue varie espressioni cinema fotografia di una ma particolare e stuttima per il trabile del mondo popolare e della realtà del lavoro emerge l'attenzione verso il video e è un processo per qualche verso simile cioè il gruppo di corrente e trafai letterata a quello che attiene avendo come referente la società industriale e la popata americana ricordo un passo tal riguardo esplicito di attenso peccato e corrente di animatore e poi un po' dietro per i isti del movimento reale dice peccato si è fatto di fronte la collina inutata potente come un anale in un lo studio si apre sulla collina sotto di me è un piccolo campo di erbacce del di avuto guardo gli oggetti abbandonati da sempre un cavo inservibile una nave altri oggetti che ora non vengono forse ipotardisti vorrebbero un po' scelto ricordo le cose che esistono abbandonate e pretende in una società di rari di usi se si scorre il catalogo da lì ci si vede una vieta di venese del 19 40 una di più affornate di pretenze che in proposizioni reale si si vede come le opere esposte dello stesso peccato di sinato dal canaro ma va e il punto destinato di uscino di di aria aria ducato ricci borgonzoni eccetera si dispieghi una sorta di inventario degli oggetti del lavoro e in particolare al loro poter di questi emergono da un universo ora fermo ora in intervescente trasformazione come religi apodatici spezzoni sopravvisi alla defragazione di una società di una società che richiede una struttura essenza sovente più che le azioni sottolinee rappresentate sono le cose che all'interno di esse con inerzia soltanto apparente giacciono che illuminano lo spettatore che rende un spettico importante la rappresentazione l'emergenza dei soggetti del mondo del lavoro testimonia della cultura legislativa di quegli anni l'irruzione nella storia per dirla con la cegre contestata confusione dell'artigiano delle masse superterne pari a livelli di lettura minima di di cristrissima fortemente operale soprattutto nelle più complesse personalità artistiche dell'epoca triccate in tutto da canale e per strada per qualche verso che vedremo le il senso di una perdita di città di una immediata di un di un ecrisse di politica e del resto nella forma esplicitamente il prezzo da pagare per essere nella storia questa dematica della rinuncia alla cultura originale per correttissimo il fatto di concludere dell'epoca soprattutto da delle lezioni legali amicata e dematino e noto come la cultura e il movimento realista e le personalità che all'interno operavano fossero per lì in cui al grado delle sue indagazioni che volgessero a chi ha visto in altre direzioni un centro di impattere durante il periodo romano nè nè evidente di che ripenzi avrebbe potuto andare diversamente di legno a silo frequentatore della galleria della polonna a milano dove esponeva il gruppo di regali sponcifico al regno di presso della città e non potre si come dal contatto con il mezzogiorno e con dobbini quelli emigranti intellettuali che testimoniano di una storica condizione di per le città e dicevano che ragioni di una sconvolgenza della realtà civile quella delle masse bottadine insubordinate che politica o che si inurvavano e metropolizzavano si annunfasse parte della cultura della proposta della prassi politica del movimento credo sia proprio tanto realismo e modellando solitane realistiche che l'uccello mutli la sua prima consapevolezza e concessione con lezionate con l'uzeo e devo fare a quando si dicevano di not prende cosa l'uccello proveniente da un universo orale e isolare individualmente così caratterizzato portasse con sé c'è la tradizione di studi demologici siciliani passati e contemporanei operanti tra l'altro anche all'interno di l'antica pontea comunicata che riuscendo a per essere la regione storica della storia una tradizione che non non dev'è espresso interesse nei controlli della materia popolare ma che si era coagulata nella prima iniziativa museografico forclorica italiana il museo di pensato tra l'altro con criteri tanto che annulli con curiosità culturale vasta significativa della vastità di interesse della demologia l'ascensione di st di coagulata di coagulata proprio guardando le esperienze del suo paese l'indagine del mondo popolare non poteva quindi non omegitarsi in modo preciso di un progetto museo grande ma questo museo non poteva essere per un certo figlio di una società contadina e contatore che si una cultura umanistica rurale e una casa mi sembra significativo che iniziando a descrivere il suo libro la sua creatura è prima cosa la nazione più cosmogonia quell'ante la Sicilia appoggiata su tre pilastri dei quali incrinati a presarsi da Dallino già ieri era stata ricordata una comogia da far scendere unicamente in quell'ansia del mondo quella paura della fine della perdita d'ordine del caos che identificava a ragione come tratti salienti della cultura popolare sua una canta dunque che sia strumento di fondazione di differimento del caos di svolgimento della vicenda terrenale secondo un ero a partire da un centro spazio temporale un mezzo di interazione plastica del Dio che le consenta difesa e durata e è stato detto il corpo real di atto minoceno il corpo della nullo rispetto al corpo che è tutto ciò era in qualche misura presente a minimo in centro anche se si andrà poi entendo via di la compagione santeste e bellezza del corso del tempo già nella attenzione del corso anno di mila durante il secondo nome internazionale di museo del vieto antropologica maria di luci sottolineava essere il tempo il suo spessore la sua durata civica uno dei elementi distintivi della proposta museografica di luce la casa contemporanea è il condettore di un tempo metastorico che oggi è presente e dà senso alla sua attività e capacità lo stagio di l'estito è quello di una di anonia le relazioni più significanti all'interno di un'abitazione non sono conseguenze spaziali ma quelle temporali una casa museo che come istituisce il luogo d'elezione della memoria normativa spazio protettore così che il tempo si spiega senza rischio esso appoglia al suo interno oggetti carichi di vicende che testimoniano la storia di una cultura di una comunità di vita umana ecco io credo che luce l'idea regolidrice di casa museo non sia rivoluzibile soltanto alla cifra informata tecnica oggettivamente riflessiva di tratti culturali evidenti delle società e di cariche delle cifra mistico democratica che ritroveremo qualche anno più tardi in pilantri in se direi a dare il titolo in istruzione di modello estremo tradizionale siamo in natura comunale che possiede enti ancestrali e che si risolve senza angustie senza bughe di una creazione a essa totalmente omogenea sull'indianco multidale in cui ho tentato di generare in due dei suoi tratti essenziali si mettano come decenni stimoli suggerimenti le suggestioni provenienti dalla tecnologica di l'estero sull'indianco tecnico non immediatamente museografico da essa provengono innanzitutto la consapevolezza storica della crisi contadina e medionale cui succedo a sistema nella sua contraddittoria fenomenica di presa di coscienza e mantenimento e l'impegno a uscirne la normativa di valenza fondalina in direzione propria di sista e occhio ancora di sempre il valore del lavoro di oscuro di un tipo come passaggio inesperitabile da biliazione a una realizzazione delle cose la supposizione del giorni alle opere è certo di che appare dato della formazione personale che addirittura anche operateriale ma mi sembra che tale tematica così fortemente presente in tutto il movimento artistico letterario dell'epoca che aveva diventata scendente carciale si è riportata la ribalta codificata in norme e comuniche che poi incorporeranno la vita dell'evoluzione proprio in tale concetto di l'evento come lo vedete ad esempio nella fatica infrastrutturale di lucello riflessi delle scelte che ad altri diventi ecologico certo con maggiore ritorno di errori e dicimo mille una dialettica del lavoro serrata e continua o si resta in base eternamente polemica o ideotale come non vedere un riflesso di tutto ciò nella vicenda che porta alle indicazioni della casa musea e alla sua trasformazione posta in una struttura pubblica su bravi il piano proprio dell'ideologia museografica mi sembra come accettato che la regolazione dell'evento ben prima e meno oltre la consapevolezza etnologica dia un senso dell'importanza dell'erconomico del materico dell'oggettuale attraverso l'osservazione della cultura dell'evento l'ascolto delle sue istanze delle sue proposizioni che certo a loro volta vediamo altre istanze dalla proposizione e per lanciare in un' istanza si si risce il senso di oggetti raccolti alla l'entrisa e senza un premio autografico quello di documentare amici i uri e conti una sicilialità declinante che come il stesso ricorda ritrovata come confondo e sostegno dell'esilio invernale della pianura portale in questa procedura di senza che nella sua prima parte il lavoro museografico di oggetti rappresenta un tentativo di per cose con medico di literario di realizzato la raccorda di oggetti deve servire a concorre un grande attresso un mosaico un politico realizzato e ordino intiene a un oggetto e informativo come nella tradizione della presentazione polemica del mondo popolare siciliano deve dirne più serio lo spuntamento la sofferenza la dignità legittimante lo sforzo emacinatorio la grande l'interna coerenza e il piatto culturale dal punto di vista di una storiografia democronica ci troviamo a quel che si torna di fronte a un episodio unico che non casualmente nasceva da una realtà extra accademia quello di un'opera diciamo neorealista scaduta da una zona di confine della disciplina ma dove cioè una sensibilità colorica incontra un movimento politico culturale vivendone dall'interno ma secondo il proprio referente il travaglio generativo la collezione di oggetti che poi confluiranno nella casa museo è in della fase opera neorealista e si interisce con una nostra specificità etnologica in quel contesto culturale sto mi sembra da questo punto di vista che gli esperienti di un certo museo che abbia uguali del nostro momento ed avendo un'unicità in questa situazione come recente la spinta museografica non si era manifestata per il tempo in comunità anzi a interno di distanze possibilistico realistiche come il museo nazionale delle altre tradizioni popolari il quale non è caso mi ammila proprio nel periodo che stiamo esaminando e il museo di tre se vede con c'er in contente le realtà diversi da quelle che preghiamo di santo post testimoniali del progetto della casa museo concluiranno presto e si avvaleranno il lenzio in passo verso un incontro tra tradizione e in semifero realista alcune delle formulazioni di rinnovamento degli studi che abbiamo prima chiamato pensiero canciano consapevolezza per la attenzione stridifica aspirazione all'intervento del sociale altre al contrario quali quelle provenienti dalla letteratura antropologico religiosa o antropologico simbolica straniera dall'ottuturalismo dalla pedagogia dalla dimensione epistemologica saranno le civile del dalle quando le saurizie dell'esperienza realista la tematica della spinta movimentista ricordurranno un centro nel proprio campo vicino per ricercare in esso in lo che a sei minuti in Africa e in l'anno di certezze ragionistabili e profonde della storia a tali momenti che potremo consecronologicamente far partire dalla metà degli anni sessani fare rispondere un modo e fondamentale di un progetto della carta di un allargamento della sua idea delle decisioni culturali a essere segnate e conseguentemente le sue condizioni da presto di accanto centrativo dell'esistenza subalterna e lavorato per il portere a pubblici e felicità realistica attraverso anni di più solitaria di lezioni e studiare teatro e pubblici senza perdere il suo carattere rappresentativo anzi come vedremo potenziarlo essa legge una potenicità di gestione prima in l'universo del lavoro era a parte di inizialmente della sua più immediata e erogena e erologica discarica delle sue complesse valente simoniche gli affetti e memorie e religione occupano gli spazi lasciati inizialmente di lezioni e lezioni il popolare perde la segmentata e solitessa cui era stato organizzato e inizialmente si si vive a un otro con otro ma dove questo interesse rapporte importanti con esso il mondo delle cose e quello delle valore si continuano in una realtà in concluita la situazione la realtà popolare es contra così non son tanto che la società realista aveva familiarizzato ma aiuta la sua complessità mentre tramonta la società geopatoria tradizionale siciliana esistra riscono le interne al suo live la casa museo sarà il luogo dove con teatro e venga la gentilità del per poter un itinerario deve trovare una apura alla dispersione della memoria e della cultura un certo mette appunto il teatro lo mette in modo che riassuma il mondo dello stelio che identifica la realtà che incidia la tradizione culturale che supplisca lo mio e l'anomia che sono all'esterno delle sue cura due episodi la luminata mi sembrano rivelatori delle più vaste e complesse significazioni che la casa museo assume rispetto all'originario progetto corregionista quello della pezzina invenuta nella casa prima della cultura che aveva girato in ogni stanza riconoscendo oggetti e ambienti e con compozione del carola identifica come la propria quella di l'anziano vicino esso deva continuamente sedere all'ingresso e guardare e coprire e dei innanzi ritumati dunque che rifondano la vita e la potrebbero che ne svelano il disegno e la luce e questi viaggi non possono essere costituiti all'insegna del democchio del desiderio si ve importanti verso la triacopriazione strumenti dell'eserci del cuore proprio per risuscitare il movimento e il pianto la casa di cielo pochè è perfetta nitida esalta coordinata accogliente e severa come il odio infantile con l'intensi che avrei come nessuna casa ristali o rimazzaria potre mai trattata così è traspare da dei grandi che sono negli catalum e negli di un centro come dai ricordi di quanto osservano a meno e che ancora il progetto vorrei scordare come in questo nuovo progetto che diventerà per varia parte materia nell'assetto del dettivo delle fusioni primi anni 70 non rispondono soltanto all'imminario misterio contadino di modi ma è incontri certo risulti secondo proprie odiche all'interno di una condizione di relativo risolamento e per il dicionario e è sicuramente una situazione della lezione dell'alegra anni fatta propria e ciò mi pare importante se si vende le speciali significazioni alle sinossoni all'immediato puntuale per il cambio di anni con un strana sostenizione come se il punto della critica dell'alegra che a un centro poteva certo essere noto fosse riduito tuttavia che provocasse riflessioni che successe un'altra grande prudenza vi sono vede una struttura che trasparano nella comunicazione degli oggetti nei criteri mai veramente classificatori con i quali essi sono esposti nei mesi spesso assai sottili tra essi in l'un mentre spesso per il valore delle armi ricordo di la moruzo la for con i musei e la istoria più intensi anni di ricerca di strauss che tra pare la descrizione partecipa e commossa dell'america miniosa di parla di città la guada si intravede la crocetta di otto e di armi di cari del mosso e la valoranza con cui sono collocare i manufatti di devozione e i documenti di religiosità popolare traspare il concreto del lavoro mitra di lano che diviene fonte e rete degli rossi salienti come si 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 dice un dettaglio di preferenza che a partire dall'originale carico di realistico si allargava le dimensioni contenti che la morte prematura non termina e altra è un territorio la rappresentanza del interno è diventata dunque retattola ma essa è a sua volta contenitore di attra un attualto a quanto è condizionato al suo interno agli oggetti che afforano le salle i passaggi in cui si composta credo che fuori evidenza di questo bianco lavoro realistico al simbolico lucidamente consapevolmente nessuno anche se mai comunicato per mancanza di tempo per omaggio a quella religione del lavoro materializzatore di cui prima si diceva e questa eccemonia della metafora che man mano quegli spazi si iniziano a prima di internazio economico social che si traga a puntare la casa del museo è un intento di restituzione exatta e direnta di strumenti laborale tecnico maquinario e locali alla lavorazione di prodotto instante e maggiore della concentrazione di dos milie di di interna potenza si un poco con con la logosofria e articolata essenzialità all'occhio dello spedatore. Questa realtà è una presa chiusa nella sua talità, mostrata nella sua invenza, avendo una attività degli anni essi che vengono lo spazio antitettorico all'attezzo e alla sua tecnologia. Ma all'osservazione più profonda, dall'interno a fare percorsi da modelli di città, da strani di verità, da entri di città, essi con sempre percibili. Se proviamo a cambiare il viso dell'osservazione, ci accorgiamo di quanti gli anni di una, con veci, differenziali del nostro scambio. Voglio fare un solo esempio, quello dell'articolo dei mani, ai scolari, alle rappresentazioni. In tale costituzione, la carta museo ma appare come un grandissimo teatro cattolico, analogo a quei giorni tanto dei centeschi intendi a distruire il malacambiato, restituiti all'attenzione e all'assessibilità contemporanea attraverso l'automiglio di spazio antitettorico. Il principio del loro funzionamento è quello della infinita modificazione del punto delle parti attraverso sapienti e individui speculari. o dalla modifico di una realtà iscritta nel programma rappresentativo del polizio. Nella carta museo è una linea di immagini che si spiega, si affianca, si raffonda segura tutto. Fotografie degli antenati, immagini vivine, simulati di corporee e di esposo, ideografici, simoniali e simboli rituali, figure diattoliche e icone a proprio paio, personaggi e storie di realtà, simulati libici, rappresentazioni devote, compongono un universo idonico di sorprendente varietà e di straordinarie studenti. Le immagini del tavolo, la carta museo, la caderno, la scantiscono, colocandose ovunque nel espazio teatral e all'interno di ogni oggetto. Tutto potrebbe essere letto e diventato da volerlo sulle specie di immagini. In essi, le atteguivie e le significazioni di tale gioco di dormi, l'india, sono come le devono in tale vastità da trascendere totalmente la struttura realistica dell'esposizione. L'occhio scivola velocemente sull'unione di nato, che conduce in un abilito speculare, nel quale, certo, è facile sparrirsi, ma anche ripenire in condizioni, tra oggetti e segni apparecchemente disparati, migrante frega al terreno. Quanto si è stato consapevole, un cielo, della progressiva invasione delle figure, un campo esatto del suo teatro e la scarica. Quanto dei misteriosi percorsi di sguardo che si studevano attraverso la loro presenza in cui credo fosse stato avverdito, non so dire che credo possa essere uno dei tipi di pressione da un luogo di assieme, in questo nostro libro. C'è l'allarganza del progetto di racconta che ho definito realista, testimonia di un percorso intellettuale, della trasformazione stessa dell'idea di museo nel fondo degli anni. E' interessantificativo che anche in epoche degli assolto e mai dal conclore, i musei come manifesti immediatamente politici e politicamente italiani, di estenuante loquacità museologica, la concessione del progetto di Ocello non uscirono mai, compiacendosi dal severo e minerario che era nella sua mente e in parte notevole come abbiamo visto nelle cose in Sicilia. La carta di Ocello resterà come cosmografia di un mondo di un libro, scritta affichendo il senso e la morte, composta da un delicato e libero tra il piego e il vuoto, la luce e l'ombra, il narrato e il saggiunto, il trascendentato e il nascosto. Un ecclipio così in caso, come ricorda un certo narrato dell'anziana nonna che rispondeva le immagini sul bianco muro della carta cristale e che si opponeva al suo apparentemente discreto in maniera, o inserimento del che avrebbe pronto insegnio che in mezzo a qualsiasi potrebbe invitarlo. come dice Nell'Alone, le opere dei saggi, per concludere, la carta di Ocello è una regia del mondo, del mondo popolare, del mondo. E proprio per far adattare il suo carattere, visto che è ancora capo con il quale ho iniziato questo intervento, l'amico di Ocello è una regia del mondo, e gli avvicini che diceva che il suo rega con lui, che dopo la sua morte, minacciano anche gli storici del mondo fatto al suo quotidiano, concreto, di trasciarci nell'universo degli unatterrati, con la I maiuscola, inconoscibile per te. Dopo aver preso tale contattazione, lo scrittorete che c'è un bravo con l'opera tra i due personali che vengono. Allora uno dice, per te lo chiedete, se voi vivite di categorie, e per te categorie lo chiedete, sarete un'impecita di un quotidiano di lavoro. Un altro dice, scomento che hai preso di categoria, il primo dice aiutico, il secondo dice, ma un troppo sopra di categoria, il primo dice no, nella realtà, nella categoria, aiutico. Allora uno dice, in un mondo che vuole visitare ragione, la memoria è di sotterrare, la premiante virtù dei signori, a parte della realtà del mondo. Noi credo che abbiamo finito in la realtà del futuro, noi crediamo che in la sua decovigianza del mondo. e quindi la sua lunga esperienza e la sua lunga familiarità, ha dato un problema che in cui gli hanno, certamente, questa relazione ampia, articolare, ricca di osservazioni interessanti, che allegiscono il quadro dirigente del mondo, e il quadro che siamo venuti delineando, tra gli ideologi. Adesso ho la parola, a un'altra persona che è venuta, che è il scrittore degli oggetti della Casa Museo, che fa la sua cremina, che gli è venuto, per dare un'unica cosa così, a questo il Signore, che è la Casa Museo. Un giorno più brillante, da un commentato dell'elettorale, è un momento fondamentale dalla produzione elettorale di Milice, all'interno che venne concessi, come la sua pagana di Cantù, e che ci sono i miei figli, che è il suo lavoro, che inizia a sviluppare, anche da, che attraverso, ma non parte che scelta, che cresce alla Sicilia, dove vede recuperare, in un primo momento, in maniera confusa e camionale, e successivamente, potere campagne di ricerca, ma inizia a queste mani, a loro famiglia, che rivolte sempre, inizia a Napoli, anche a meggiore, e spesso, al primo giorno passato. Questi oggetti, cari, i pubblici, iniziali, 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 creavano, a Cantù, un'odine di Sicilia, e aumentavano, ogni ritorno, iniziali, con le vacanze, delibili. Per favore, che, se possiamo dire, che, se possiamo dire, se possiamo dire, che, che, sono qui, per raccontare, questi discorsi, che riguardano, un uosso, che, non abbiate, per andare, quindi, di breve, se volete parlare, naturalmente, può rimanere in sito, per molto tempo, o parlate, prima visite, e poi direttate. Fate come ho fatto io, un momento fa, che sono andata a prezzo, con l'avvocato. Grazie. scusate. Prego. E aumentavano, dicevano, che ritorno in Brianzo, dopo le vacanze, periodo in cui, venivano attentuate, le ricerche, e la raccolta, i manufatti. Gli stessi oggetti, diventavano, una volta così, parte integrale, della casa, e degli affetti. E lo stai succedendo, succedendo, via via, la casa di Cantu, si entiva, ad ogni nostro amico, per comandare, da qualcuno, di nuovi oggetti, di cui noi conoscevamo, di ogni pezzo, di una storia, di un mondo e di un giovamento, che erano oggetti, che facevano parte, della storia, della nostra stessa vita, mia e di mia moglie. Ogni ritorno alla Sicilia, significava un momento, di curiosità e di interesse, delle nuove scoperte, delle nuove testimonianze, che andavano ad adicchire, le collezioni. La monta strada popolare siciliana, nel 1959, che rivela, vittorini, aspetti, di quella cultura, lui stesso, e la mostra, la sua struttura in India, nel 1961, testimonia, ampiamente, del consenso, e del interesse, suscitato. La mostra del 61, dove erano presenti, collari per cuori, mentori, i crocivissimi, colubiti dal portadino, Vincenzo D'Ossino, fu accorto, vita finanzione, al di là, della sua struttura, che stima che sveglia, che vede la società. La struttura in linea, dei contadini siciliani, erano da pochi a Milano, e se la sede, dei crocivissimi, esaltò la fantasia, la fattura benissimo, e certe condizioni, che ho mai visto, la serie di oggetti di futuro di Milano, con corrigo, ad una precisa funzionalità, in loro appartenere, dal mondo del lavoro, e dalla manifestanza di contadini, in quanto le facciate. Romero, non ha mai potente i suoi manufatti di vita, suscitare le curiosità e gli interessi, ma, soprattutto, le notizie, e le vicende che riguardavano, tutta la cultura, che le altre conti, di cui erano depositati, tanto Milano ne hanno un certo. i protagonisti di questo mondo, per certo, che parla, soldanini, zonbatani, erano già emigrati nelle gallerie di Milano, nelle opere di cultura che non vignette in più, ma erano questi aspetti dei reti della loro cultura, che ancora non si conoscevano, erano dei testimonianti diretti, che si citavano interesse, che fingevano al loro movimento e alla loro comprensione. La casa di Icaro, ricorda una significativa frase già ricordata di Pietro Maduro, un regrettatore assito, che quando vince nel studio del vittore di Romanova, della tipografia di Antonio Maschera, e della stessa Carlo Cello Alvino. Vedete, ormai non mi diceva nulla in clinico, l'artista che giocano da Milano, da Tokyo, da New York, da Amsterdam. Hanno ormai i miei quadri di caso di riforme, una specie di esperanza. Mi dice più Cello, quando giunge la palazza. Prendendo spunto da questa fermazione, mi sembra di poter dire che il rapporto per legato in periodo di individuali nazionali e individuali del teneci è un rapporto di reciprocità e di incanto. Certo, Cello decide dalla cerchia degli ispiramenti e come già accennato di eventi precedenti che viene riconosciuto a vostri successi, fondamentali. Tantavia, la patente di cegna di un'orturio della giornata che viene e viene molto importante alla produzione culturale di due amici. ciò rappresenterà per lui ulteriormente di crescita culturale per rendersi conto che ciò che nel suo paese si va a parlare di una frase di un'orturio di un'orturio di un'orturio di un'orturio di un'orturio di un'orturio di una dimensione di un'orturio complessa. Ciò si trasferisce rapidamente in una metodologia di decimabiliazza, non più meno soltanto oscillante una religiata sistematica nella passione collezionistica, ma orientata su un progetto cinque. Ma cultura da tempo immaginata, che è con un uccello che parla, ci fa dunque incontrare i nomi, uomini, delle più diverse situazioni, a parlare che in un linguaggio della potentevolezza si organizza nei termini dell'istituzione ideologica. Si può bene dunque a questo punto ritorno in vicino. Anche qui, in avanti a tutti i vicini strimoniali delle parole del Cielo, ritorno un corpo tipico della cultura progressista dell'Eno, quello della politanza e il posto per i nostri figli assegnati all'istituzione. Il tema dell'assenza, come l'insezione, ricorda infatti molte fagge del Cielo. Palazzo del resto è la loro favorevole, il proseguimento delle ricerche degli studi purologici, non soltanto presa terzello inizia, che in anni di grete appoggia la sua oltre dall'interno con i quasi immagatti in cui si poteva disporre, quando per essere luogo, un materiale amenimento finanzii, ci intervoggiati, in cui era una lontana corruzione. Luogo costamentale, perché ci asciuggini alla relazione, interpermianzioni, se ritorno di nera la casa si chiama il mio Eli, non soltanto perché le substituenze della memoria la succederanno di biblici sostituzioni, o li interagliamo, o ciò che interagliano, quando perché la casa, il complesso di in essenza aiutato da un uccello e mezzo per l'affermazione con la città più vasta, che avviene insieme a Rodine Baitano e a quello più bellissimo anno che era stato ed era per il regno del uccello e del piccolo. Intanto la casa stessa è l'immagine della batteria dell'Auguglia, di proprietà della Maria Garigiorra, chiunque con quella che si è molto potente, non ci siamo più belli di questi giorni del tempo, e che quindi avviene l'avventa con il suo pagato di conoscenze, mandatemi a moglie nei locali di parte. Il trasferimento viene materialmente seguito da Paolo e Maria Garigiorra, presentatore dell'Auguglia. Ciò è importante perché riduccia nella città di amici, parelli, principi, cambi, tutti appartenenti alle classi di Pantello, che costruisce il primo referente di formaggio, per esempio la casa, e che continuerà a frequentare anche l'avventa della famiglia, dando gli spazi con un'interessante visione, la gestione reale e le presentazioni europee. Ma come un tempo, infatti, una prima testa operata con una casa propria dell'agente, luogo c'è di incontri, gli scambi, i rapporti, di informazioni di convivio, che al conto di condurre attraverso le esperienze delle caratteristiche della prima persona, a città di dare la seconda sostenibile dalla storia dell'intorno. E non sostanto nei consorsi del fondo popolare e della certa presentazione di scambi della casa, quanto nei consorsi di quella dei correnti e dei rituali che avvenuti a parte, era stato di stimolo, come già detto, alla versione dell'idea. A non c'è il mio sonno, una cascata per esempio, come un progetto di Domenico re, proprio a giocare una casa di inserimento, guidassero come un volo contigliato e lo avendo rimasto nella memoria dei marci di scambi, come testimonia per la sua propria vita, ma soprattutto per i figli e gli ecchi che da qui a me, da quell'estituzione e momentanea vivano. Tutto ciò determina un processo di evoluzione di crescita e di sovraggento di tutti i colori che sono coinvolti nella gestione della casa e che voluscono gli spettatori più o meno civili del suo servizio. Anne, Sebastiano, Rosalia, quanti che formano le parole locali, le attrezze e i macchinari incrementano la loro conoscenza di tecniche, di rapporti produttivi, di modalità russo, che prima avevano conosciuto soltanto in parte e secondo l'anno dell'aspetto particolare per cui ciascuno guardava la realtà. Ma parallelamente, mutare la quantità di oggetti, non mutare la sostituzione nazionale, ma crescita della consapevolezza e della necessità di una scelta del proprio passato. Il rapporto che, anche con la presenza del museo, la gente interesseva con i propri oggetti con la vero e di una, un rapporto di alimenti, di infezioni, di ogni coscienza, che presentava un rapporto fondamentale diverso da una città in un'unità di pura e di rischiuto che aveva costituito tramite la educativa e la scelta dell'unità. E tanto, 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 si riprende il museo, accrescendo nella volontà della città in un'unità del museo. Forse, però la verifica di una volontà di un'unità storica che è stata una cultura originale costituisci la mostra di un professore di condizioni di un museo, di un paese a parlare. Cosa sarebbe successo se il museo non si risulta e avessi voluto compiutamente a resistere a un processo, che dovrebbe essere già iniziato sui suoi occhi, quello che non va, nel passaggio da una certa parte dell'atteggiamento spolare nei conti della cultura originale, quello della umilizzazione e della commercializzazione, con le loro economiche e logiche di scambio dei sessi di tutti gli anni, e dall'anno dipende dal carattere dedicato a nessuno del museo e sui ingressi nella logica umana. Grazie. Francesco Sperio Medelliana, augurevolmente, ha richiesto per riguardo con i vari e lo stesso museo interessato che offre la città di questi due nostri animazioni. E' come già ci nata la terra, Antonino Cello non nasce in un museo raccomunsapevole, ma inizia la sua attività su ogni sfide che non puoi da più studiare il museo a un secondo progetto che mi chiede. Dalla parte è convenzionista, con una passione popica di convenzionista di raccogliere di conservare, e raccoglie e conserva inizialmente quattro tracce del passato del nostro parello e testimonianze della cultura di cui si sente in parte e di cui intuisce, lì dall'inizio della sua attività, tutta la pregnanza e la porta. Dall'altra, è un intanto libro che della classe sociale, in vari traccianti, attraverso gli oggetti, senza incidire la cultura, una storia quotidiana, si fa intende questo territorio. A macchina del nostro discorso crede che si è perfetta con attenzione, sui gini, a mio avviso, profondi, ma anche su una riflessa dedicazione e destinazione che scatolisce dal campo italiano, una demologia fortemente influenzata e accettata da persone politiche. Penso al di mattino, naturalmente, che manca molto, allo stesso genere, e di un tanti, seppure con la sensazione diversa, dalla nubella rossa e alla demologia di Stato, e che raccadenti all'experituzionale, che fiorisce nella stagione del sessato. Il processo di maturazione è una consapevolezza scientifica del proprio lavoro e la formulazione delle ipotesi scritte nel mondo che proverà in significazione la presentazione del museo si copia nel corso degli anni attraverso esperienze diverse, amiche e complesse, resumitate da alcune stagioni del mondo di cui si è già avvisamente parlato. Non mi soffermo su questo. Ho voluto solo ricordare gli inizi perché una lettura del museo dall'interno, del museo già realizzato, qual è quella che vorrei parzialmente dare alla mia comunicazione, non può prescindere dalle abilità di evoluzione e di crescita, ma anche di risultamenti di una situazione che si sono operati da un'interno. Di questi testimoniano gli oggetti, modi raccogli, incontestualizzati e rispondi, che ci consentirebbero di stare all'incorso sostenizione per sostenizione e dal voto all'oggetto per oggetto, il generale individuale e quello più specificamente il museo pratico della provincia. La casa museo può essere legata su quegli anni, interagente di certo, ma pure per accumularsi di veri, il progetto di tagli, la storia delle colezze. E a questi secondi anni devo rivolgere l'attenzione di un'intermitagine che non c'è il museo. Il dato che potremmo fare un bel esito, quando noi siamo arrivati a lavorare sulla casa museo, questa non aveva già più nello suo stato originario, così via. Per l'oltre di inventare l'azione del materiale, che è ormai chiusa, non ha, non può osservare solo un pari per l'aspetto che aveva la bandera aperta. Questo ha contribuito insieme a un vantaggio, un vantaggio, un vantaggio, perché appunto non l'abbiamo ritrovata nella città di Piena, sebbene, la conoscessimo, però lavorata su una casa di parte restrutturata. Un vantaggio che riceverà spero dalla comunicazione e che ci ha consentito di vedere tutti i singoli oggetti delle collezioni, spero parziali, staccate anche da terra. Da che ripeto, quindi, la possibilità di analizzare la parte. Come già accennato nella comunicazione precedente, il criterio di sistemazione degli oggetti si è prima di generarci di più caldo, in uno sposo costante di infracciare l'essi culturali da essi e di ordinare la realtà con il suo dipendimento interno. Nella strada di un esempio che si può perciò riuscire a considerare la strada di mare e spazia nel diverso da queste strada di un siciliano, cartelloso, sfondo e fatti di carnetto, per cui può illuminare la città. E' sposto in quel città e non adesente delle carte, adesente delle mazzarie, con attenta della sensibilità, perché se ne vendicano i tratti di teatrali eventuali, privilegianti che si spetta poi immediatamente questo. Nella disposizione originale e esagerante, di altri esempio, si segue un minerario psicologico che consente di infracciare il nostro compito dei modelli di coraggio. Va detto che nessuna vettura legge deve essere fatta parte della mente agli spiriti di un certo in modo particolare per le strutture materiali e psicologiche e alle coste per le realità. Non tanto e non solo nel modo di dispostare gli strumenti, il lavoro colessivo, le protezioni, emergono in esistitutte le possibili delle cose che in diverse idee sui voli cui esseri viviamo e con cui sono segno, quanto nelle espressioni libri e sub e in portandesi il cielo ha lavorato e ha guidato la struttura. Tutti sappiamo come è organizzata la casa musea quali fossero gli oggetti più presenti e come disposti. Ma non tutti gli oggetti che la risposta, di alcuni sono stati degli elementari, per esempio le governi, i sacri e gli dacci, quelli utili a dimostrare una situazione o una parte del ciclo milito di sacro di lavoro. Le circondanti, nelle quali le proiezioni venivano spiegate nella loro interenza o al massimo della loro responsabilità, erano le mosse, organizzate secondo i feri che distribuivano un minerario di carta museo, ma che consentivano anche i suoi abbracciare i modi e i suoi abbracciarli e gli esplicitati, le mosche inizie, messe in interazioni, la disposizione di un geografico ordinaria poteva dappon lasciare la mostra. E nelle mosse, nel catarsene al giovane e negli altri stritti sui oggetti che meglio e più confinamenti possono ritrovarsi nel metodo di lavoro adottato dall'ocello e gli apporti scientifici scegli adatto, la problematica di un'ora e l'estate. Più posto che seguire la formazione di ogni correzione, perché di correzioni si può parlare per quella parte dei progetti, ne sceglierò insubblicativamente più, quella dei distrutti, di carnagini, quella delle chitrume e quella delle forme per le rocce. A questo punto un altro ciclo di rimpone, che noi abbiamo ripetuto il 36% di questo rapporto su quale sono i problemi e ci si muovono le fronte di una comprensione dei dinarii musulati di un uccello. E qui, con un uccello di cittadini, secondo un uccello di 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 un uccello uccello di un uccello di un uccello di un uccello che abbiamo.. oppure, al destra, a questo punto, la volta avanti Mettete questo, mette questo, mette questo, mette questo, mette questo, lo devo girare, un po' dopo lo finisce, speriamo di venire, speriamo di venire da, si stacchierano, mette questo, mette questo, mette questo, mette questo, mette questo, mette, Grazie. 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 Io ho deciso di consegnare queste cartelle agli organizzatori di questo convegno, che certamente Cureranno gli atti, la pubblicazione degli atti che va fatta e spero, se sono fortunato, non Pasqualino, di trovare anch'io in futuro i miei quattro lettori. Per il resto, una parte delle considerazioni contenute in quelle trenta cartelle si possono già leggere in un volume recentemente apparso, Marxismo e cultura mariglianale. Consentitemi allora una trasgressione, cioè di dire in cinque minuti, forse me, una cosa che ritengo ben più importante delle cose che ho detto in quelle trenta cartelle. Io ho sentito, ho avvertito, lo abbiamo avvertito tutti, una qualcerta preoccupazione negli oratori, negli ascoltatori pazienti, in ordine al futuro della Casa Museo. Ed è su questo che per cinque minuti io voglio intervenire, in chiusura di questo con lei. Solo da alcuni anni si sono potuti leggere i testi, che poi i testi non sono perché si tratta di tavolette in terracotta, scritti tra il quarto e il terzo millennio a.C. A Sumer, nell'area mesopotamica. Sumer, come molti di voi sanno, è forse la più antica città che l'uomo abbia costruito. Bene, queste tavolette, che non si erano prima potute leggere, si sono ritrovate in gran parte in un archivio, perché già allora gli uomini avevano la preoccupazione di conservare certe cose. Siamo nel quarto millennio a.C. L'archivio di Mari, fra le migliaia di tavolette che ci sono nell'archivio di Mari, ce n'è una che mi ha molto incolpito e di cui vi dirò, perché mi pare che quello che c'è scritto in questa tavoletta dà una risposta esaustiva al problema che ci siamo posti in ordine e le preoccupazioni di cui abbiamo parlato prima. Il re di Sumer, che scrive a un suo governatore, il governatore di una città che sta ai confini del regno sumerico, dell'impero sumerico, pressano, premono su questi confini, quegli strani popoli di cui abbiamo letto i nomi nella Bibbia, gli amorrei, gli urrei, che sono i barbari di quel tempo, sono i nomadi, aspirati alla ricchezza dell'impero sumerico, vogliono penetrare. Scrive il re di Sumer a questo lontano governatore. Due sono le preoccupazioni che tu devi avere, rafforzare le mura e raccogliere dei giovani ai quali insegnare la nostra storia, perché fino a quando, così dice questo antico re, fino a quando, vivrà la memoria di noi, noi continueremo a vivere come popoli. In queste parole, in queste antiche, lontane e nobili parole, c'è la risposta a quelle preoccupazioni. Ma naturalmente, la risposta c'è, se noi sapremo ascoltare quelle parole e sapremo metterle in pratica. Qual è dunque il nostro problema, se vogliamo salvare la casa musea? Quello di approfondire e diffondere la conoscenza dell'opera di Antonino Uccello, perché fino a quando vivrà la memoria di Antonino Uccello, Antonino Uccello continuerà a vivere e continuerà a vivere la sua casa museo come casa della memoria, appunto come è stato detto da Enzo Consolo, cioè come casa della vita, di una vita perenne, assicurata con buona pace. Il fortunato Pasqualino solo e soltanto dalla storia perenne dell'uomo. E con questi sentimenti, che io dichiaro chiusi, ma non conclusi, i lavori di questo convegno. E a nome degli organizzatori ringrazio tutti per la loro cortese, paziente e gentile partecipazione. Grazie. Grazie.